Contorno Salvatore Sì Lei ha reso varie dichiarazioni Sì In data 1 ottobre 1984 ha reso un interrogatorio nel quale si è dichiarato disposto a collaborare con la giustizia Sì E ha spiegato i motivi Sì Per i quali ha preso questa deliberazione Sì Ce le vuole illustrare alla Corte Signor Presidente, di quando sono entrato a far parte della mafia io non c'erano queste leggi che usano queste chiamate mafiosi perché non sono più mafiosi chiamate mafiosi Prima si ammazzava una donna poi di un piccerito Tutti i comportamenti che hanno avuto sono stati coscietti con le forze e con le buone a poter diventare infame come loro chiedono le infame sono loro lo sogno io ho infame Silenzio Silenzio Mi costringete Volete proprio che l'udienza avvenga senza la presenza degli imputati C'è la 21 in fondo Chi è lei? Come vedi? Sì 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 Sentite se fate in questa maniera l'udienza non si potrà svolgere con la vostra presenza Io sarò costretto a fare uscire tutti quelli che fanno questo Silenzio 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 Avvocato Fileccia leggo la parola Sì Che nome ha l'avvocato Fileccia? 19 Presidente 19 Fate parlare l'avvocato Fileccia Signor Presidente Noi ancora una volta vogliamo dare testimonianza a questa forte dell'interesse che noi abbiamo a che questo processo si svolga nella più assoluta serenità presupposto indispensabile per una giusta affermazione di giustizia Noi vi preghiamo Presidente Eccellentissimo Perché lei ondevitare quello che succede che secondo me legittimamente Invita l'imputato contorno a non offendere nessuno, io li compresi gli imputati Dunque Ha parlato comunque in generale dicendo che l'associazione che io abbia sentito non risponde più ai principi per i quali lei era entrata Sì Va bene Comunque io avverto gli imputati Se proprio mi mettete nelle condizioni di prendere un provvedimento sarà preso un provvedimento No, no Siete voi E voi dovete stare zitti Perché la legge La legge e la democrazia coincidono su questo Che è consentito che si dica la propria la propria verità e la propria parola Va bene Altrimenti Altrimenti sarete così Se volete assistere Quindi No, io non faccio Non faccio delle polemiche con voi Dunque Allora Non torno Lei ha fatto queste dichiarazioni Ha dichiarato che Aveva cambiato opinione Sì Lei come era entrata in questa associazione Come è fatta questa associazione Quali sono le regole di questa associazione Sì Sei stato iniziato Io sono entrato a far parte di questa associazione Allo 75 1975 Avevo un'attività commerciale Le bestiame Essendo già Vicentemente amico Di tanti di queste persone Caratterie mie Eravamo amici Cerchia di evitare comunque riferimenti al Io sto dicendo tutte queste persone dietro a me Sì E allora nella conoscenza c'era Un contrabbando di sigarette E ne ho conosciuto tante di queste persone Dopo venire la sigaretta E cominciò la gioca Allo 75 Io entravo a far parte di essere Chiamato uomo d'onore In quei periodi quando trasevo io Oggi non c'è più Quello uomo d'onore Non esiste E' la finta di cosa nostra Ma finisce la cosa Il 1975 Lei poi è andato al soggiorno obbligato Sì sono andato Tra il 75 e il 76 Mi andavo al soggiorno obbligato Prima di partire Diventavo uomo d'onore Chiamato Perché come c'è diventato uomo d'onore Che cosa ha fatto Quando si diventa uomo d'onore Si fa un giuramento Io conoscendo la buonanima I miei motoresi Eravamo De tante vecchia date amici Un giorno mi venne a pigliare A frigorifero Avevo un frigorifero in corso dei mille All'ingrosso I cagli E mi ha portato Dalla buonanima Di Stefano Bontà Lì ho trovato tanti altri personaggi Chiamati uomo d'onore E così è nato un giuramento Un giuramento sarebbe Un tipo dice comandamenti Non guardare le donne degli altri Quindi sempre la verità E chi tra dice questa cosa nostra Sarà bruciata come un'immagine Che mi hanno dato in mano a me E puntano un dito Per diventare appartenente a cosa nostra E così mi hanno fatto anche a me Chiamato uomo d'onore E chi era presente quando lei Alla buonanima di Stefano Bontà Mimmo Terese I fratelli Pulderà I fratelli Federico Piaggino Lo Iacomo Che questi mi sono dimenticati Arverbale Da dichiarare Ricordando meglio E tanti altri Pietrino Pietro Terese Giovanni Terese Non Pietro Terese Per entrare in questa associazione E fare questo giuramento Di cui lei ha parlato E' necessario E' necessario essere presentati E' necessario Essere presentati Cioè deve esserci una persona Che accompagge Quando combinano Si dice in dialetano Lascia Vocabolare Quando si combinano una persona Ci sono tante persone davanti Nell'attimo che diventa Fa parte di Cosa Nostra Dico ma c'è una persona Che conduce Che è presente Presenta Nel senso di presentazione Si Tutte queste persone Erano presenti No Dico C'è una persona Che conduce con sé Il personaggio E gli dice Dice agli altri Questo E' degno di entrare In questa associazione Si ma questa non è che avviene Il giorno che uno Puoi farlo combinare Avviene prima Che lo frequento Ma vede che ti puoi Se è carabiniero Sono il carabiniero Nel dialetto nostro Se vedono Quello ragazzo Che è valido Se lo mettono a avvicinare Dopo tanta conoscenza Uppettano A diventare Un modo onore Non è che una conoscenza Che oggi mi vede E domani mi ci porta A diventare un modo onore Provano Per vedere se famiglie Ci hanno corna Se sono gente buona Guardano tutto Noi che incontrano E ci diciamo Io ti faccio un modo onore Questa è la regola Di Cosa Nostra Si Questa associazione Cosa Nostra Come E' ordinata Cioè Come si Com'è organizzata Com'è organizzata Tutte quelle persone Che siamo Giudichiamo La migliore persona Che può essere più intelligente E più preparata A fare un capo Ma questa elezione Come avviene? Vengono come In votazione Quando si fanno Un po' Con una vecchia Con una vecchia Diventa Per capo Ogni quanto Avviene questo? Questo Normalmente avviene Ogni cinque anni Ma quando Lo vogliono Possono fare Pure prima Di cinque anni Ah C'è un periodo Ogni cinque Non l'ha detto Sì ma io Non ho detto Tante di quelle cose In merito In dichiarazione Fatta a giudici Restruttori Perché le mie condizioni Come mi trovavo Io se mi trovo qua Mi trovo Per salvarmi la vita Ma non ho paura Che muoio Che non ho più niente Da perdere Perché Non tema niente La mia famiglia Ce l'ho sistemata Se muoio Non ho importanza Però voglio dire Tutti i fatti che so Va bene Contorno Allora Dicevamo che Questa elezione Si fa ogni cinque anni Però può essere Quando regolamento Ogni cinque anni Però capita pure prima Può capitare anche prima Sì E si fa Soltanto per il capo Della famiglia Il capo Il sotto capo E invece Gli altri I capi di Cina Da chi sono Scelti I capi di Cina Sono decisi Dal capo E una volta anche Con l'evoluzione Si decide Che pigliare meglio Le persone in numero Ora lei Ha detto di essere Una persona Particolarmente vicina A Stefano Bontace Sì Ci vuole raccontare Come è nata Questa amicizia Lei è entrata Prima di diventare Cosa nostra O prima D'amicizia normale Quando è sorta Questa amicizia Ma l'amicizia è nata Perché io ero Un appassionato di caccia Il Bontace Era un matto Per la caccia La sua passione preferita Io ero pure appassionato E così andavamo al tiro Alla D'Aura O al tiro in campagna O da fondo Favarella A tante altre parti E così è nata l'amicizia Andareci 10 Prima di entrare Nell'associazione Prima di entrare Nell'associazione Io sto parlando D'amico Non di Cosa Nosce Ma lei sapeva Ero amico a parte Ma lei è stato presentato Da Mimmo Teresi E compagni Perché conoscevo Tutte queste persone Ero amici miei Già da ragazze Prima di esserlo Ma erano da noi Ma il Bontace Lo sapeva che lei Avrebbe Era stato invitato A far parte D'associazione E' una cosa tremenda C'erano pure i miei cugini A far parte di Cosa Nosce Anzi c'era pure Mie cugino Nino Antonino Grado Antonino Grado Antonino Sì Era pure di Cosa Nosce Quindi lei ha cominciato Ad avere questa amicizia Col Bontate E poi è entrato Dentro la storia Sì Perché già io lavoravo Con le sigarette Ma già ancora Non ero nessuno Perché prima si bevano Solo le sigarette Non c'era niente di male Era solo un concio a bando Niente altro In virtù di questa amicizia Col Bontate Lei ha avuto Delle condizioni particolari E' stato trattato Particolarmente Ma quando sono entrato A fare parte O prima? No Quando sono entrato a fare parte Quando sono entrato a fare parte Eravamo 10 persone Senza capodicine E senza sottocapo Eravamo diretti Per Cefano Bontate Diretti Cioè Praticamente Lei non prendeva Ordine da capodicine Ma poteva Diretti Non pichiavo da nessuno Ero diretti Per Cefano Bontate Ho capito Oltre questa famiglia Sì Nell'associazione C'è un organo Di controllo Un organo Che sta sopra Sì Sarebbe la commissione La commissione Composta di 10-12 persone Tutti Ognuno Della sua famiglia Come Stefano Bontate O come Bernardo Bruca Erano capo di famiglia Dello suo paese E allora Qui c'era una capo commissione Che erano 10-12 persone Dopo Sopra di questi C'era un capo commissione Che sarebbe Il papa Michele Greco E questa è la commissione Sì Questa è la commissione Di cui il capo era Michele Greco In quale periodo? Il periodo 78 77-78 in poi I principi Della cosa nostra Quali sono Gli scopi Della cosa nostra Quali E' nato Per fare bene I poveri Si diceva Quando non c'era La roccia in mezzo Il bene si paghiava Veramente i poveri Perché la gente Quando ci succedeva una cosa Non segnava nei carabinieri Veneva nell'abbogata A me rompere la macchina A me rubare la casa E si ci faivano trovare la cosa Questo è il beneficio Di cosa nostra Anfino che c'erano i segretti Quando sono entrato A far parte A gioca Questa cosa nostra Chiamata cosa nostra Si è dissutta Perché solo Cosa nostra è personale Ora Non è più cosa nostra Come era una volta Ora solo per interesse personale Si ammazza con facilità Non hanno più problema Ora hanno da gridare Ma che gridano Se ne sono pentiti Io sono pentiti Per loro sono pentiti I pentiti sono io Tutto io che faccio A me mi arrivare a ammazzare E mi trovo Signor Presidente Sì da contorno Ma tra di voi Come vi riconoscevate? Quando si presentava una persona Essendo Fa parte di cosa nostra Da solo io Una persona Essendo un uomo d'onore Non ci potevamo presentare Ci voleva una seconda persona O conosceva me O conosceva la seconda persona La stessa cosa Questa era la parola d'ordine Ah Ecco E la stessa cosa La stessa cosa Cioè C'è una terza persona Un uomo d'onore Doveva presentare L'altro uomo d'onore Al A chi O viceversa La potevo presentare Poi Un altro Essendo io un uomo d'onore Sì E c'era un altro Nuovo Che non era un uomo d'onore Ci presentava il tizio Che era un altro uomo d'onore Però c'è Fra me Fra me e un altro Non ci potevamo presentare da solo Ci voleva un altro Che conoscevo a me O alla seconda persona Per dire la stessa cosa Queste cose Quando gliel'hanno spiegate Quando si fa il giuramento Quando si entra a fare Patti cosa no Ah c'è Una persona La più autorevole Forse La più autorevole Senza autorevole Per dire pure Un capodicino Oppure un soldato Non è che importanza Che lo dice Che ricorda Quali sono i principi Dell'associazione Sì E poi Dice anche Quali sono le regole I comportamenti Cosa può andare contro E tutto E quali altre regole Ce ne sono Mi ha altre regole Se uno guarda la donna Di un uomo d'onore Si muore Non c'è che c'è La esperanza Di poter vivere Perché se vai Verso una donna La base principale Si muore I poliziotto Non si toccavano I giudici Non si toccavano Perché quella Si chiamava cosa nostra Questa invece Non si chiama più cosa nostra Si chiama Chi si solo per i piccoli L'ammazza Ma perché cosa Non si possono più govere Sì Ma Ma a prescindere da questo No Anche questa è la prescindere È importante No 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 Dice a prescindere da questo Mi scusate lo interrompo No no per carità Qui la questione è Diceva a prescindere Ci sono altri principi Sul comportamento Che deve tenere Un uomo d'onore Che lei ricorda A certi obblighi Per esempio Mi ha obblighi Mi raffiga più piacere Sentimenti Al modo di comportarsi Cioè Anche a quello A quello che si dice Se si dice Se si deve dire la verità Non si deve dire la verità Nel campo di uomo d'onore La verità è sempre fuori Bugia non se ne può dire Io ne posso presentare Per esempio Come un palagone Ci piglia una persona E ci piglia una persona E ci piglia un uomo d'onore pure Non esiste Anche questo è un punto Dopo Quando si dice una cosa È responsabile di quello che uno fa Se io piglia una persona E ci dico Tu dammi 5 kg di droga Io già sono responsabile Di quello a fare Con la parola Che se mi succede una cosa Io devo pagare 5 kg di droga Io sono responsabile Questa è già È una parola che Non è che ne posso Pierare droga Non ce la pago Questa è anche Nella fiducia Che c'è di queste cose nostre Chiamate Sì Lei attraverso L'amicizia con Bontate Sì È venuto a conoscenza Anche E anche senza Lei ha partecipato All'elezione di Stefano Bontate Sì Stefano Bontate fu nominato Non assoluto Nelle votazioni un po' assoluto Perché c'erano i signori Della nostra famiglia Che erano inficciate Per essere un uomo d'onore Però che l'ultimata L'hanno tradito E già erano inficciati Dei signori collonesi In mensi di Nors Quando è stata L'ultima elezione Poi lei ha partito L'ultima votazione È stata la 79 Nel 1990 Perché si è fatta Mi chiuso Si è fatta la 74 Non 5 anni Ma in 4 anni La votazione Ah ecco Si è anticipata Come ha detto Come io ho detto C'era no Abitualmente si doveva fare Ogni 5 anni La votazione Però Con diversi motivi Alcuna forse saltava O primo o dopo Dove è avvenuto Il posto dove è avvenuto Questa elezione Questa votazione A Villa Grazia In una casa di campagna A Villa Grazia Si In una casa di campagna Di Bontan Si E lei mi diceva Che questa elezione Fu non pienamente Soddisfacente Per Bontan Si Perché 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 c'erano Quelli inficciati In casa nostra Si E lei Come numeri Che cosa è successo Come numeri Come numeri Di risultati Come numeri di votazione Non l'ha preso Come l'aveva preso In prima votazione Quando è salito a 75 Ma l'ha preso Con pochi voti Ma purtroppo Come elementi per bene Non avevamo E rimasti soddisfavano bontà Perché erano tutti contro E si fanno bontà Anche quella Da nostra famiglia Qua non siamo I perdenti e vincenti In merito Come dicono i giornali Qua sono i traditori E hanno fatto come giura Perciò Hanno fatto la guerra Hanno vinto Comunque bontà Non ebbe moltissimi voti Ma fu eletto Fu eletto E' chiaro Perché è per la maggioranza E come vice capo Poi chi scelse lui Come vice capo Mimmo Teresa Era poi un mimmo Teresa Mimmo Teresa Sì Ora Lei con la frequentazione Che ha avuto con bontà Sì Ha avuto un modo Di raccogliere Le sue confidenze Sì ma Impatto Non è che io Stavo tutti i giorni là Perché ero latitante Io dopo sono andato a soggiorno Quando venivo Era il mio dovere Il nome principale Sì Però non è che Mi contava la morte e passione Che io stavo tutti i giorni là Stavo una paia di giorni Quando era a Palermo Dal soggiorno Venivo senza permesse Ma che lamentere aveva lui In quel periodo Mi lamentere erano generiche In famiglia Perché aveva Un totuccio in serillo D'accordo Un pedopanno L'abbonare mio pedopanno Era pure d'accordo Tutta la rimanenza C'erano contro Perché c'era il fattore La gioca in mezzo E questi erano personaggi Che sia Panno Che sia Bontate Non volevano fare la gioca Inserirlo Se la faceva Per i fatti sui Però Bontate non partecipava Questa era la seggezza Di un uomo d'onore Che ormai è finita In sostanza Il Bontate Non voleva partecipare Allo spaccio Dei stupefacenti Non voleva partecipare Ne faceva Ne trattava Però in famiglia Di Bontate Si trattava la gioca Però Bontate Stefano Bontate Non faceva gioco Era contro la gioca Nella famiglia Bontate Io parlo di Stefano Bontate Non faceva la gioca Ma i familiari Diciamo Del nucleo Di Bontate Famiglia Bontate Alla gioca si faceva Ma il capo di una famiglia Può impedire Per esempio Che si faccia Allo spaccio Di droga O di proibire Una determinata attività Potrebbe impedire Però Bontate E compagno Come Banno Non hanno potuto mantenere E ci veniva Io ci dicevo Bontate Ma che mangiare Allora Se io avevo bisogno Se tu mi dai i soldi Io la gioca non avevo fatto Ma tutte queste gente Che ormai Pidiavano i miliardi Si buttavano tutti Qui poche Qui tanto Perciò Bontate Non poteva fronteggiare Tutto il suo numero di gente Non farà gioca E Bontate Era molto amico Dell'inserirlo Si molto amico Di inserirlo Di Panno Piddo Panno Di Caccialdacci Questi erano L'unice amici Che ci sono I maestri veri Come in fazze Sapete i risultanti Che fine hanno fatto Ora Ci racconti Di che cosa Si lamentava Il Bontate Con lei Insomma Quelle confidenze Che ebbe Occasio Di fare La Bontate Delle confidenze Che mi aveva a mia Erano Che aveva Tutte la La commissione Non l'aveva d'accordo Perché quando doveva fare Una cosa La commissione Non è che ci dicevano Stefano Viene alla riunione Che c'è questo O Piddo Panno Viene O tutto ci inserirlo Decidevano tutto loro La rimanenza Della commissione Perché li volevano Proprio mettere da parte E come infatti Hanno fatto Tanti omicidi Senza bontà Per ci dice pare E rimaneva a guardare Perché erano soli Come infatti Subito L'hanno levato in mensipiere Perché per la commissione Ricordionese Era importante E seminare Levare loro E hanno le tali in mano Chi sceglie la commissione E cosa non Quindi le lamentele Erano che la commissione Deliberava Di commettere Dei crimini Sì Senza che lui Ne fosse informato Neanche lo informava Perché la maggioranza Come lei mi impara Vinci sempre la maggioranza Ogni cosa Se io stai morto Cristiano E ne avevamo rece Con vincini rece Con vincini tu Così era la commissione Ma lui Sto ringraziando Sempre a Michele Greco Perché Michele Greco Era il capo Era la commissione Se era più preciso In queste cose Se cosa succedevano I morti non venivano I poliziotto non morivano Ci sarebbero tante cose Ma il bontante Faceva parte della commissione Sì Faceva parte Perché era un capo Tutti i capi Di ogni famiglia E parte della commissione Siamata commissione Ma dico La deliberazione La deliberazione Di questi crimini Di cui lei ha parlato Insomma Di cui ha accennato Avveniva Con la presenza Del bontante O addirittura Neanche lo cercavano Perché erano tanti Vembre come la gioca Io ricordo Quando sono andato A far partire La gioca Ma chi era Si sentiva qualche minima cosa Ora lei dice Invece le sigarette Va a Napoli O pure a Palermo Non ne trova tutta la gioca Ne trova più sigarette I bambini Tutti ci hanno morire Ma ci hanno pure figli E anche lei Se vede il concetto Che hanno perso pure i figli Che hanno tutti figli Come ce l'ho pure La gioca Si ammazza Si ammazza la gente umana I bambini che nasce E questi uomini Non richiamali Perché non esistono più Uomini Questo dove mi trovo oggi Io seduto qua Per tanti motivi Il bontate di questa situazione Non fece nulla Per cercare di Di eliminare questa situazione Di capovolgere questa situazione Bontate ha fatto Ma subito ci retteneva A voi Ci ha ammazzato a tutti Ma prima di questo Fatto cruento Insomma dell'omicidio Che cosa Lui le disse Che si era rivolto a qualcuno Aveva parlato Si era rivolto a Michele Greco Michele Greco Quando succedeva una cosa Quando ci conveniva Sapeva qualcosa Quando non ci conveniva Dice io non so niente E pigliava tempo E tempo a campare E le cose Siamo arrivate al suo punto Come quando è morto a bontà Siamo andati da Michele Greco Per sapere notizie di bontà Dice ora Vediamo non sapere niente Ma lei pensa che A bontà viene ammazzato Oltre a Pino Greco Viene ammazzato a bontà O l'Occhiuseto Viene ammazzato a bontà E noi non sapere niente Tu pullarà E ha fatto di vice Subito la morte di bontà E non sanno niente nessuno Questa è la cosa nostra Perciò ci sono tanti punti attori La commissione Non permette che si verifichino Dei delitti Perlomeno per quelli più gravi Per i delitti più gravi Se non sono deliberati dalla commissione Se non ha Il O no La commissione è venuta È nata Proprio per l'argomento Ogni famiglia Uno faceva i suoi comodi Tutti i capi di Cina Diciamo I capi rappresentanti Però ci si è stato un punto Ognuno ci feceva Una cosa E la cosa E la faceva Questa commissione È proprio Anata Per bloccare Tutte queste Brutte cose Che la fevano Ognuno Era patrone Della vita Di un altro E chi era Ha incrociato E allora Hanno fatto la commissione Per qualsiasi omicidi Anche di una famiglia Dentro la nostra famiglia C'era la commissione Si decideva Se quello doveva Marino Doveva campare Questa è la commissione Però Ha mantenuto poco Questo giro Di mantenimento Per la decisione Se doveva Marino O meno Perché tanti Erano d'accordo La maggioranza D'accordo La maggioranza Sono molte tutte L'inserillo Oppure faceva Le stesse lamentere Del bontate Ma non sul campo Della gioca No La gioca Inserillo La faceva No Dico Che si verificavano E certo Fa bene Questo vuole la corte Dico Sostanzialmente L'inserillo Si lamentava Di non essere Messo al corrente Sì Non risaltavano Perché l'inserillo Era poco Che aveva dato Capo famiglia Perciò Era ancora un giovane Immaturo In merita Che come infatti E' morto da scemo Sapendo che I coglioni Si ammazzavano Bontà Subito Si non è una femmina Aveva una manza Si non è una donna Solo Al compagnia E' morto C'è una cosa In prematura Un uomo In quell'altezza Ma Ci parli Di quello Che lei sa Sull'omicidio Di bontate Come si è verificato L'omicidio Di bontà Era il suo Compreanno Io un giorno Primo Ci aveva andato A fare gli auguri Io avevo mandato Di catture Per sequenza di persone E avevo 26 anni addosso Io in quell'occasione Non sono andato Alla feccia Ma ci sono andato Un giorno prima Ci ho fatto I auguri Che avevamo Un'amicizia Molto intima Allora L'indomani C'è la feccia Non ci sono andato Nella feccia Ci sono uscite Tante di quelle persone Tante Perché non lo iacono Come base principale Perché erano sotto Riggente Della situazione In quei periodi I fratelli Pullara E tanti altri I lucchese Giuseppe Che apparteneva Alla famiglia E Michele Greco E tanti altri Hanno preparato La gabbia Perché i due La feccia La feccia La feccia La feccia Dopo la sera E si andava a casa A dire a vedere La famiglia Dopo una giornata Che era la sua feccia Da rompire La sua famiglia Un dieci minuti Mezz'ora che stava E già subito Lui aveva le persone Lì nella sua famiglia Che ci portavano Le battute Che i due I due A casa Appena nascere A casa Carri A vettere Ci arrivano Appena arrivava Il semifero Aveva lui Ci faceva una feccia E che si finiva Fissi Il bontante Ma il bontante Aveva ordinato Un'automobile Blindata Bontà Il fattore della macchina L'avevano ordinato Perché c'erano Del brutto umore In giro Perché avevano Tutta gente contro Allora non ero Ragazzino Bontà Si guardava del palo Non faceva del male E avevano ordinato Delle macchine Però le macchine Sono arrivate Purtroppo Quando la morte È successo Gia la morta E chi se l'ha presa E chi se l'ha presa E chi se l'ha presa Una sabiglia Un serillo E uno sabiglia Un motorista Quando la morta Gia Di bontate Però all'inserillo Non servì molto Perché fu ucciso Lo stesso Inserirlo Era come ci disse Poc'anzi Era giovane Ancora di Cosa Nostra Non era un uomo Matura Per poter mantenere Cosa Nostra Perché se ammazzandoci Un grande amico Si innavaga Si innavaga La macchina blindata È finito il mondo Pensi che una macchina blindata Possa arrivare tutto Purtroppo I figli Ha finito su Quindi bontate Quando venne ucciso Doveva andare in campagna Quando fu ucciso Bontate Aveva tutta la campagna A casa sua In via Villa Grazia Sette mensure Non era che Che è stato Che la famiglia E se mi Davanti a lui C'era un certo Stefano di Gregorio Con 127 Pure di bontate E faceva Di battesati Per aprire il cancello Nella via Loi C'è il semaforo Di Gregorio È arrivato a passare Bontate no Di Gregorio È arrivato in campagna Aprire il cancello Bontate Appena arrivò Su il semaforo Mentre la ferma Se il semaforo È molto buono C'è il bar E va a finire All'incrocio Arriva a soppassare Asciata A lei queste cose Che gliel'hai raccontate Tutti i decorsi Sono fatti di Mimmo Terese Anzi Anche ancora Cosa da aggiungere Se gentilmente Le mi fa aggiungere Tutto quello che è buono No grazie Allora cosa è successo L'uccisione di Bontate È ritornato Il di Gregorio Che era avanti Non vedendolo più arrivato Appena arrivato A visita la mattina Meno concitatamente Se è possibile No no Ma è un'abitudine Non sono concitatato Sono calmissimo Sì sì No no Voglio dire Meno rapidamente Allora E allora Quando questa è ritornata Ha visto che la macchina È urtata verso il muro Con la luce accesa È sceso Ha aperto il portello Di lato destro Che la macchina L'attraversa Sulla via lui Sale così La macchina è andata A fine sulla sinistra Lui apre la porta Sulla destra E va per salire Nella macchina Ma siccome Puntava già Con l'uccisione Che ha avuto l'immagno E era sceso Sui sedili E il sangue Ci cadeva Sul siggiolino E sulla pedana Diciamo Del passeggero Appena è salito Ci ha messo Il piede E rimascia Tutta la fronte Del piede Di Gregorio Ha visto che era morto Ha preso la macchina E si è andata Per non correre Contro la polizia Guai E questa è La morte di Punti Sì Questo Mimmo Teresi Com'è che ha preso Tutte queste circostanze Perché c'era Il suo di Gregorio Era vivo Ora non so se è morto Di Gregorio Stefano Di Gregorio Stefano Stefano Sì Questo era il figlioccio Di Stefano Bontani E tramite lui abbiamo Ricostruito Tante di quelle cose Sì ma Il Teresi Si preoccupò Di conoscere queste cose Sia perché Perché era amico Di Stefano Bontani Era un rappresentante Della nostra famiglia Subito Andato da Michele Greco Per cercare Di dove veniva Il sacco Michele Greco Non sa niente Faceva l'uomo morto Non sapeva niente Perché è una cosa Molta importanza Si figura Noi Poi ci è arrivato Da Michele Greco E Michele Greco Non sapeva niente Quattro sono morte Cinque sono morte E l'unico che sono rimasto Sono io E mi trovo qua Perché della rimanenza Pensavo Una famiglia di 120 persone Della famiglia di Bontà Pensavo di trovarle Tutte a Baglio Bontà Nella morte di Bontà Invece ho trovato Quattro signori Che hanno venuto a sapere Cosa potevo dire io Nella riunione Nella famiglia Era una famiglia così Nel Baglio Bontà Quando è morto Bontà Io sono andato A vedere Bontà a casa Essendo il dalati di tante Perché ero amico Sì Nel Baglio Bontà Ho trovato i personaggi Che venivano Della nostra famiglia A fare la finta Pavisa Ma volevano venire a sapere Cosa si parlava Nel Baglio Bontà Perché questi erano Come Giuda Messe in mezzo a noi E' un menino di noi Della nostra famiglia Lei andò Il funerale di Bontà No il funerale Signor Presidente Non ci poteva dire Ci sono andato a vederlo Quando ho portato a casa Alla casa E quando Ci fu questa riunione Per sapere qualche cosa Chi fu Di dove veniva E c'è morto di Bontà Lei fu informato Della partecipazione Delle persone Al funerale di Bontà Dal Teresi Mi pare Se gentilmente La ripete No Gliela ripeto In maniera ancora più chiara Ci andarono Molte persone Al funerale di Bontà Nei funerali di Bontà Da parte di Michele Greco Ci vanno a sommigliere Masino Padaro Ci vanno pure a sommigliere Ma tante gente Ce ne sono andate poche Io mi riferisco Nella morte Di ammazzare a Bontà Io pensavo Essendo un uomo Donare la famiglia di Bontà Dalla di tanti Con 26 anni Mi nevo O baglio Bontà Per sentire qualcosa Ma di quelle 120 persone Che eravamo noi Potevamo essere 10 persone 8 persone Gli arci E' bello appunto Gli arci E' erano tutti venduti Tutte gente venduta Perché a Bontà Ammazzavano così E' stato un calcolo buono Come s'hanno fatto I con le onesse Ma come? In ordine All'uccisione del Bontate Come? Dico in ordine All'omicidio del Bontate Sì Sorsero dei sospetti Sulla Nell'interno della famiglia Sì E cioè su chi si I signori fratelli Pollarai Lino Bontà Giovanni del Terese Questi erano I signori che Avevamo vicino E si hanno venduto Il suo sangue Per ciò si figurano Cosa ne possono fare 10 anni Questi sono i signori mafiosi Della nostra famiglia Giovanni e Bontà Che rapporti aveva Con il fratello? Giovanni e Bontà Era con il fratello Sì Erano fratelli Questo lo sapevo Insomma Erano buoni I rapporti Tra i due fratelli? Quello era il capo Lui era un soldato No Capirà da un capo Un soldato Avevano un po' Tra di loro Un po' di cose Che a me non c'entravano In cose familiari Noi poteva attaccare Una brutta Di flusso Fra Bontà Sefano e Bontà Giovanni Erano fratelli Ma Giovanni C'erano contraste Eppure tra i fratelli Eppure tra i fratelli Sul Sul fatto del traffico Di stupefacenti Oppure no Questo particolo Non ci sono Dere Pregazioni In me Perché Se avevano Concesse Non ci sono Dere Con precisione Perché cosa avevano Concesse Lei ha conosciuto Di Gregorio Salvatore Salvatore Di Gregorio Sì Quello Trompasso Sì È un nipote Di un cognato Di bontà Di bontà Sì Lo conosce Ma era parente Di Stefano Di Gregorio No Forse Sarà un altro ramo Non ci sono Dere di Complicisione Che mi sa dire Sulla scompasso Del Salvatore Di Gregorio Sulla scompasso Di Gregorio Il suo ragazzo Ha riuscito Con due pistole In una via A Palermo Era lui Un altro Vedo che era insieme Con lui E scappato Hanno preso lui Era il ragazzino La prima volta Andava a manare La polizia Sapeva delle cose Per sentito dire Il suo ragazzino E ha detto qualcosa Ai carabinieri Era la polizia Che è stato E questa voce Arrivò Prima che arrivare I carabinieri Arrivò A voce A Cosa Nossa Come infatti Questo ragazzino È stato il compasso È il compasso Sempre di Cosa Nossa E cosa aveva detto In sostanza Che aveva detto Che Michele Greco Era capo mafia Michele Greco Comandava Michele Greco qua Perché era il ragazzino Che piaceva Era appassionato Per il tiro E veniva pure Da Favando Favarella Perciò capirà Mettendo un nome Così importante fuori Cosa ci è potuto succedere Il Teresi Prese contatto Con chi Lei qualcuno L'ha nominato Mi pare È vero Dopo la morte di bontà Dato che vi eravate Preoccupati In queste Si sapete qualcosa In mezzo Cosa è morta di bontà È andato da Michele Greco E questo Lei l'ha detto Con l'inserillo Si incontrò Con l'inserillo Con l'inserillo Quando è successo Il suo fattore La morte di bontà Io non inserillo Quando ci è andato Diverse volte Da inserillo Siccome inserillo Aveva una fabbrica di ferro In via Regione Siciliana E sono Mimmo Teresi Ci andò Diverse volte Io ci dicevo Mimmo Teresi Non camminiamo insieme Ci è succeduta una cosa Ci fanno la frettata Come hanno fatto Con i si fanno Vonto Invece Devise Ci vieneva più facile Poterci acchiappare Tutti in un mazzo Allora Inserillo Frequentava Inserillo Mimmo Teresi Frequentava A totuccio Inserillo In merito Nella ferraria Alla mia regione Siciliana E ci andò Diverse volte Dopo l'omicidio Di bontà Allora Il signor Mi chiede Greco Quando Mimmo Teresi Ritorna Per sapere Cosa ci vuoi fare Nella fabbrica Nel toccio inserito Dice Tu non c'hai I orecchio Dice Va bene Però Siccome Mimmo Teresi Era guardato a vista Tutti i passi Che faceva La rimanenza Di gente Poteva avere vicino Era controllato In qualsiasi modo Mimmo Teresi Ci ritornò Di tutto C'è inserito Sempre Peso delle cose Per sapere Da farsi Cosa doveva fare Michele Greco Chiamò Dice Ma tu Ancora Continuo Dice Da un cagliere Perché ci sono Cavolo E tu In questo Ritorno E finita là Dopo Mimmo Teresi Io di nuovo Da Tutto C'è inserito Il giorno Che L'hanno ucciso Dice Arrivò Dai L'hanno ucciso Da minute E ritornò Ritornò E dopo Ancora Io Mi 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 io signor Presidente mi riservo nella mia dichiarazione già fatta giudice strutture ti confermo tutti i fatti e cosa da aggiungere se avrei confronto con altre persone va bene mi riservo di dire altre cose in serie di confronto se ci sono in serie di confronto mi riservo di dire altre cose più avanti va bene io è giusto che lo dico no dice lei che conferma quello che ha dichiarato giudice strutture se ci saranno se ci saranno confronto ho cose da riservare da dire senta i reggenti quando morì se fanno bontate di morte violenta naturalmente i reggenti volevo chiederle volevo chiederle innanzitutto lei accetta di essere ripreso no 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 per questo si no per paura ma ho famiglia neanche per pubblicare da dove abito vedermi in televisione quindi ne è ripreso televisionemente ne è fotografia sì grazie va bene allora rimane stabilito questo i reggenti sì della famiglia che furono nominati dopo la morte di Bontate di Bontate di Bontate che facevano parte della famiglia farevano parte della nostra famiglia però loro non riuscì niente di San Giuseppiato perché questa è stata una storia preparata abbastanza bene e Bontate e Bontate non aveva ci hanno inficciato queste pedane di inficciare un palermo come infatti trasera una famiglia a Bontate i fratelli Bullerà e sono riporti di cugini di Bernardo Brutco Bernardo Brutco fa parte con leonese perciò quando si è entrato cerchi di parlare o più vicino al microfono e deve cerchi di scandire ma certo poi sì di parlare più lentamente parli in dialetto come vuole parli in dialetto in qualunque però cercando di parlare un po' più vicino al microfono e parlare un po' più lentamente se le riesci eh lo so ma purtroppo avete ragione io quando sono fuori e parlano i miei canoni i guardi dico ma che dici io torno a mia terra parlo siciliano dunque l'argomento che stavamo trattando l'avvocato Veneto dunque l'argomento che stavamo trattando era quello dei reggenti sì questi reggenti facevano parte della famiglia della nostra famiglia era un fatto naturale che questi poi venissero nominati reggenti no non era un fatto naturale perché se era fatto naturale il signor Michele Greco il tuo papa ne assegnava nella sua famiglia dato l'amicizia che aveva con bontà ma siccome ero il paio principale che fu pure a farlo ammazzare perché io mi chiederei che i piccoli ci piacciono non si può godere e via più ne ha chiesto e ne ha chiesto e ne ha chiesto e manca la famiglia vabbè sempre cercando di parlare più lentamente eh lo so signor Presidente c'è l'anima un po' infiammata e Luca insomma ovviamente anche già stare di ranza al petorio e no 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 al petorio mi trovo come sarebbe veramente non ho difficoltà l'argomento di tutto il male che ho dentro il mio stomaco questo è il punto sì il dunque lei quando si incontrò poi con Mimmo Teresi con Mimmo Teresi mi incontravo l'ultima volta il giorno di morire che aveva di dire a morire io il giorno di? di morire il giorno di morire il giorno che ah lui il giorno che morire io avevo morito insieme a lui e essendo un pochettino più freddo vedendo le cose brutte che c'erano in giro avevamo un appuntamento Mimmo Teresi con i fratelli Pullara e l'avevamo in fondo l'abbiamo ricevuto il signor Pullara Giovanni Battisti nel baio no Sorce che sarebbe attaccato con la nostra famiglia che faceva regenza nella nostra famiglia perciò quando abbiamo l'appuntamento Mimmo Teresi era convinto che era a casa nostra non pensava un'agia come è stata fatta allora quando ci sa con conchieri agia sarebbe una gabbia una agia diciamo che arrivano da e morivano una specie di trappola una trappola agia allora in questo appuntamento quando Mimmo Teresi mi diceva c'è un appuntamento c'è Mimmo ma perché? no c'è la proprietà di bontà non era proprio da bontà infatti c'è il suo baglio perciò erano a casa nostra e chi da famiglia appettavano altri io non so c'erano dei vecchi ma la fiducia a Mimmo Teresi ancora scemo ci pensò dice non c'è sul problema allora eravamo in sei persone a dirci però io e Mimmo Teresi non ci possiamo irri e ci sono andati in quattro Mimmo Teresi lei rimase con Mimmo Teresi Totuccio Federico Angelo Soffio Federico e Franco Di Franco Giuseppe e questi sono andati all'appuntamento mensuro onore ero ora passare oggi ora lei pensa che quest'anno ancora l'appuntamento che aveva ritenuto ha finito la feste di quattro persone e chi ci si è ricampato lei restò con D'Agostino si e poi ha avuto qualche visita in casa o comunque è stato trovato è stato cercato qualcuno dopo si dopo io ci avevo ha salvato questo punto Emanuele D'Agostino vedendo che ci avevamo risciato le ultime due persone di quelle veramente fidate e sincere pigliò dice io ora mi faccio un passaporto e me ne vai a me dice se fai come ti fai ci si io provvederò a me e salto allora lui mi spiegò cosa voleva fare per potersi salvare siccome lui era intimo amico di Saro Riccobono molto fidato perché era come un figlio di Saro Riccobono Saro Riccobono Saro Riccobono pensando che lui era un vecchio buippone dice oggi faccio piacere con leonese che mi mangio pure Emanuele e la mia mamma lasciano viva invece con leonese vecchie lupi si mangiarono pure Emanuele D'Agostino e dopo si guida la famiglia di Riccobono e così si fice nella piazza politica non è che erano fuori scemi erano molto intelligente i verdani chi ci sono i verdani Riccobono o poi che fine ha fatto? a fine russo io dove tutta la sua famiglia a fine del topo? sì e come? come è successo questo? perché Ido prima era amico di bontà sia Pippo Calò sia Saro Riccobono sia Michele Greco e tanti altri delle tutte le conoscenze hanno tutti amici di bontà però gli amici si vedono quando veramente uno ha dei bisogni era un amico non si vedeva amici quando non avevamo amici dopo erano ragionati con i piedi in linea così hanno fatto la rimanenza prima Saro Riccobono era grande amico di bontà e si vedeva deve essere voluta a contatto ma io parlo già del periodo quando entro a fare il paese di Cosa Norsa fino al 78 79 dopo questo Saro Riccobono un serocchio che era sempre la tesante come infatti Saro Riccobono nel periodo che io ero vicino a Bontà si fece una villa ho fatto un'eserocchio con i compagni a Villa a Villa non so se vi ricordate sì 69 dica io sono costretto a formulare un'istanza precisa a questo punto perché non riusciamo a capire niente vorremmo che per quanto è nelle sue possibilità questo signore usasse la lingua italiana un'assoccio un'assoccio questo no ma lei non capisce per il dialetto o per il microfono per il dialetto questo purtroppo è al di fuori delle possibilità di no no Presidente guardi rispondo a qualcuno io non sono toscano io sono italiano e c'è anche una certa disposizione nel codice di procedura penale ecco ma non non glielo possiamo insegnare però ci vuole un'interprete possiamo noi siamo in condizione di capirlo forse lei e appunto se fosse stato fatto era una corte non siciliana come avrebbero dovuto fare dunque lei cerchi dunque per favore un po' di silenzio un po' di silenzio dunque se lei parla più piano il dialetto siciliano che si dica è un dialetto che si può intendere soltanto che lei parla molto rapidamente è un'abitudine natura signor Presidente lo capisco io però saremmo le saremmo grati se lei parlasse scandendo le parole ci provo signor Presidente cerchi di controllarsi dunque allora si è fatto poi cosa mai potremmo e cosa mai si nominare un perito e si farà la traduzione ha messo un perito che siamo tutti periti eh si io l'ho già invitato forse lei non mi ha ascoltato le ho detto di parlare più lentamente tutto l'italiano che lei sa ma anche se signor Presidente l'italiano non lo so proprio completamente sogno zero l'italiano eh come l'officio ma genitore parla va bene insomma quello che può quello che quello che quello che lei sa lo dica insomma quelle parole poi italiane che possa operare dunque stavo parlando di Riccobono parli comunque lentamente perché se lei parla più lentamente per favore un po' di silenzio perché altrimenti si aggrava la situazione e lei stava parlando di Riccobono si la fine che fece Riccobono lui ci dica Osaro Riccobone aveva un'amicizia molto intima con il Stefano Bontà come infatti ne ho perdito 77 78 si fece una villa o funno non mi ricordo come si chiama qua vicino alla proprietà di Stefano Bontà e si costruì questa villa una grande villa delle camere e cose perché lui era un grande ricercato era amico quando dopo se ne ho dell'amicizia si è rotta con il Stefano Bontà io si veniva pure la villa la villa ci ha venito a Petrovernego la villa in Petrovernego essendo ricercato pure ci ha un cucino rito un certo che l'ha intestato? ci ha intestato un cucino rito un certo venito a Petrovernego a Rugger ad un cugino perciò dopo morì Stefano Bontà già ricco buono e lontano non sono più amicizie e dopo avevano lo suo comitato sempre nel territorio per controllare tutta la situazione ci veniva più facile avendo la villa d'appoggio aspetta ripeta perché qualche parola l'ho persa pure io avendo la villa a portata di mano a portata di mano era buono controllare tutta la posizione la famiglia non è ci veniva più facile ah gli veniva più facile controllare perché noi ci avevano ben lontano si potevano giro per sapere cosa avevano l'appoggio dentro casa e come quando fanno con il dottore Cassara che ha ammazzato se non puoi ci entrava e ci veniva e poi ammazzato non divagiamo andiamo un facchessimile allora sarò ricco buon amico di bontà un cifocchio un manolo d'agostino ancora convinto il signor nido è un sardegampocchio un manolo d'agostino scomparso d'agostino scomparso dopo sarò ricco buon amico scomparso eh no 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 ha bloccato se la persona non ha studiato l'italiano eventualmente si farà la trascrizione del eventualmente faremo una trascrizione nominando un perito si guardate facciamo una cosa avvocato Maffei aspetti quando lui parla io ripeto le parole in italiano va bene si lei mi ha ascoltato mi scusi dicevo che io vado traducendo quello che lui dice in italiano va bene numero 79 signor presidente io insisto ancora rispettosamente nei suoi confronti nella mia precedente istanza vorrei far presente che non tollero non sono affatto disposto a tollerare il tono e le parole usate nei miei confronti dall'avvocato Alberini difensore dell'imputato contorno che si guardi bene parlando di me e dei miei interventi di ripetere ancora l'espressione commedia va bene io non l'ho percepita peraltro perché altrimenti sarei intervenuto no commedia io non l'ho sentita avvocato Costa vuole parlare 12 che numero 12 signor presidente io desideravo sapere no per favore non valemizzate perché si ottiene soltanto lo scopo di interrompere avvocato Alberini si ottiene soltanto avvocato Alberini lei ottiene soltanto lo scopo di interrompere il mezzo istruttorio e se polemizzate lei e chi polemizza con lei va bene d'accordo ma insomma signor presidente io ricordo a me stesso e a tutti i colleghi siciliani presenti che per abitudine e per tradizione vi pare che i processi i vecchi processi di corti d'assise non soltanto si svolgevano nell'unica lingua che tante volte dei poveri imputati sapevano parlare che era il siciliano come succede a moltissimi degli imputati presenti ma che addirittura il presidente per farsi intendere e questo credo che sia una memoria comune rivolgeva la domanda in siciliano o rivolgeva o come succede a Napoli rivolgeva la domanda in napoletano tutto questo non è compreso nel codice di procedura penale perché non ha niente a che vedere ma la domanda fondamentale che rivolgo io che ho avuto la disgrazia di capire tutto quello che ha detto contorno i signori giudici popolari e i signori della corte che sono evidentemente siciliani hanno capito quello che ha detto contorno e allora se è così io ritengo che anche noi visto che anch'io sono da questa parte siamo in condizione di capire e quindi gli argomenti mi sembrano speciosi grazie signor presidente chiedo scusa chiedo scusa a Maffei e chiedo scusa agli altri ma mi pare che sia così beh allora parliamo tutti su questo avvocato Fileccio io se scusate non possiamo venire ad una no volevo dire questo io potrei se lui parla più piano più lentamente io vado traducendo in italiano quello che dice l'imputato è così del resto lui sta confermando quello che ha detto l'istruttore perciò il verbale dibattimentale fatto dal cancelliere come voi sapete può limitarsi a dire confermo quanto ho detto l'istruttore e semmai aggiungere i vari particolari perciò mi pare che sì io invece per cortesia oltretutto per persone che non sono di siciliane posso ritradurre in italiano quello che lui dice man mano l'amucato Maffei è contento io ho cercato di dirlo questo ma adesso è così praticamente si registrerà anche quello che dico io però l'imputato deve parlare più lentamente in maniera che io vado traducendo quello che lei va bene signor Presidente adesso vuole parlare questo non la non la e la parli pure mi dica il numero non lascialo lì io parlo da lì ma chi si vuole che vedo lì 79 79 sì signor Presidente io credo che il problema non sia soltanto quello di intendere ora ciò che sta dicendo l'imputato ma anche di avere garantito che sarà tradotto nel verbale esattamente qual è il suo pensiero e quali sono le cose che gli dice ora io immagino che così come molti di noi non intendono e non per problemi linguistici ma per problemi fonici alla stessa maniera sono indotto a ritenere che possa non sentire il cancelliere che qui non è presente il quale traduce o stenografa ciò che va dicendo l'imputato perché immagino che non sia questo cancelliere non è un cancelliere è un perito è un perito chiunque sesso sia e allora dov'è il controllo che prima che noi la Corte può esercitare sulla regolare composizione del verbale io credo che questo sia il tema di fondo che riguarda tutti quanti gli imputati e tutti quanti i difensori di tal che o i termini di una intesa sostanziale che vuole giungere a realizzare fatti concreti sono rispettati nel senso che mettiamo in condizione lo stenografo il perito di tradurre per bene ciò che viene detto oppure l'alternativa non è che la ripetizione mediante dettatura da parte di vostra eccellenza in maniera che si costruisca un ordinario verbale questi sono i termini del problema scusi mediante dettatura perché se io la ripeto qua al registratore mi pare che sia la stessa cosa adesso lo sta ripetendo lei signor Presidente non prima non prima quindi noi non sappiamo cosa se il perito ha inteso tutto ed è riuscito a formare compiutamente il verbale ora per evitare problemi in ordine alla traduzione al verbale di ciò che viene detto chiediamo che le cose si svolgano in maniera tale che sia intellegibile ciò che dice l'imputato non solo per noi ma anche per il perito e chiediamo poi prima ancora di porre le domande quando sarà il nostro turno di poterlo esaminare questo verbale perché non riusciamo a sapere che cosa c'è scritto sul verbale ma dalla decifrazione poi che farà il perito si avrà certo il perito non credo che potrà non capire il dialetto siciliano perché non il dialetto guardi che io ho capito tutto quello è un problema fonico sì ma il problema fonico è per chi ascolta ma non per chi trascrive la registrazione Avvocato Veneto come dice Presidente il problema fonico può essere per chi ascolta ma per chi trascrive la registrazione no perché la registrazione avviene perfettamente semmai può essere l'acustica che viene ed è appunto Presidente io non faccio un problema di gergo o di dialetto io faccio un problema fonico ma noi abbiamo capito perfettamente che non riusciamo a capire questo è il punto ma questo deve essere per via dei microfoni io penso perché noi abbiamo capito perfettamente può darsi e allora vediamo allora Presidente la soluzione è questa per la parte nella quale è evidente che non si è riusciti a capire bene sia gentile Presidente di ripetere la frase lei stesso in maniera che riusciamo a capirla questo è va bene senz'altro è quello che avevo proposto anch'io però intanto io potrei la cabina di registrazione è pregata di amplificare i microfoni perché credo che sia una questione anche di amplificazione no e con il maniere parla molto rapidamente quindi eh 26 no prego credo guardi non è veramente né un problema di dialetto e nemmeno un problema di rapidità di esposizione perché la rapidità di esposizione non può essere tolta di mezzo è il modo di atteggiarsi dell'imputato e nessuno ne può fare niente ma nemmeno il dialetto perché secondo me è facilmente comprensibile credo presidente che se lei e i giurati popolari fossero al mio posto non vedendo affatto la faccia dell'imputato e non seguendo la sua mimica e non seguendo direttamente la sua espressione non capirebbero loro niente perché io mi credo di poter dire di capire benissimo ciò che dice anche in dialetto siciliano senza essere siciliano lo si capisce benissimo e anche per quanto riguarda la velocità ma è questa la questione pertanto sono d'accordo con l'avvocato Veneto che sarà necessario in questo caso perché non si può costringere l'imputato né a parlare meno rapidamente né a parlare in un'altra diciamo lingua più appropriata che lei restituisca al verbale la sua forma ordinaria detti senz'altro lei le differazioni che l'imputato farà no e il verbale lui non ha fatto altro che confermare quello che ha detto l'istruttore e non ha aggiunto alcunché a quello che ha detto e questo siamo testimoni tutti noi della corte allora non chiediamogli più niente ah che intendeva aggiungere ma non che ha aggiunto non ha aggiunto alcunché devo contrattirla 70 devo contrattirla Presidente nel ricordare i presenti alla mia iniziazione dico di avere dimenticato alcuni nomi che oggi faccio è stato proprio l'introibbo allora lei ha capito allora lei ha capito anche trascritto il che significa che lei l'ha sentito e mi pare che questa sia una confessione capisco a tratti ci mancherebbe ma giusto ha capito lei ha capito giusto quel punto che le interessava no Presidente no Scusi Presidente questo lei non può dirlo a me con tutto il fatto no io lo dico perché è un fatto ma lei lo sta ma lo dice in maniera tale che fa appare è come se la mia eccezione fosse strumentale no la prego la prego no non sto dicendo questo sto dicendo ma è strano che lei abbia capito questo l'ho capito e il resto non riesco a capirlo che significa il resto non mi può mortificare Presidente no per carità non era questa la mia intenzione dunque vuole parlare all'Avvocato Alberini dobbiamo no aspetta faccia parlare al difensore dell'imputato mi pare per favore non usi delle espressioni polemiche per favore perché scusi Presidente chi conosce gli atti del processo sa benissimo che finora contorno non ha fatto altro che ripetere seppur in dialetto siciliano quello che ha detto così ampiamente al giudice istruttore dottor Falcone almeno nei primi interrogatori e allora e allora senza che ci siano queste interferenze che non mettono poi paura a nessuno su sia ben chiaro questo ecco e nemmeno altre storie che si sentono io voglio dire Presidente ne ha tradurre anche quello che dice l'Avvocato Alberini eh traduriamo anche quello che dice lei dovrebbe parlare un po' più vicino al microfono in modo Presidente io volevo fare questa proposta innanzitutto alla Corte sì il l'imputato è stato interrogato dal primo ottobre 1984 giorno che ha deciso di collaborare secondo le sue affermazioni fino al 19 giugno dell'85 33 interrogatori ha subito allora la prima domanda da fare è questa secondo me se conferma tutti questi interrogatori no ha già confermato tutto ha già confermato tutto se conferma in toto questi interrogatori sì e poi e poi e poi l'altra proposta è questa se la Corte ritiene di leggere quello che è stato scritto in italiano da giudice istruttore e poi aspettare le conferme o le aggiunte dell'imputato va bene ma io ho disposto in un determinato modo però se voi mi costringete leggeremo gli interrogatori perché non c'è altra alternativa leggeremo gli interrogatori in italiano questa è la mia facoltà articolo 487 del codice di procedura penale e siamo arrivati ad un determinato punto dell'interrogatorio vuol dire che così evitiamo tutti questi discorsi inutili leggiamo tutti i verbali e poi sentiamo se li confermo meno poi se ha qualcosa da aggiungere e poi sentiamo le varie domande avvocato Albenino evidentemente non si sente neanche la mia voce va bene leggiamo tutti i verbali di interrogatorio signor Presidente io ho confermato i fatti perciò non vedo per dare il mio contributo al superamento di questo momento così di ruggine la lettura del verbale istruttorio non è che mi pare che risolve il problema che i signori avvocati hanno già avanzato perché nel momento in cui dovranno essere chiesti dei chiarimenti all'imputato voi dalla parte della corte dalla difesa o anche del pubblico ministero si riproporrà puntualmente il problema attuale allora io credo che la lettura dei verbali sempre per carità rientra nella sua ipotesi e la la vuole disporre la effettui pure nessun problema ma mi sembra comunque che se la decisione che la signoria vostra mi pare stava prendendo di leggerla di leggerli i verbali è determinata dal superamento di questo problema io temo che questo effetto sicuramente non lo raggiungeremo intanto per la conferma del verbale mi pare che non ci possa essere dubbio poi per le domande è già confermato quindi già siamo in una fase in cui la corte sta facendo le domande che il presidente silenzio fa le domande che le tiene opportuno fare silenzio non sentono chi gli imputati ah va bene d'accordo non sentiranno vuol dire che è questione di carattere non sentono neanche quello che dice il pubblico ministero allora è una questione dei microfoni allora è una questione dell'impianto microfoni io sto parlando in maniera tale da farmi ascoltare da tutti perché sto vicinissimo al microfono quindi escludevo l'ipotesi che qualcuno potesse non ascoltarmi salvo che non voglia ascoltarmi ha bloccato mormino lo facciamo parlare 45 ah scusa hai finito no no ho finito nel senso che ripeto non mi oppongo formalmente alla lettura anche perché non posso farlo non ho nessuna ragione per farlo suggerivo alla corte che se la determinazione di effettuare la lettura dei verbali istruttori è finalizzata al superamento di questo problema io credo che non sia questa la soluzione allora l'unica soluzione che rimane presente è quella di invitare l'imputato magari a parlare in maniera meno frettolosa se gli riesce e magari la signoria vostra poi interverrà di volta in volta qualora percepirà che qualche frase magari non è perfettamente chiara e vediamo se le signori avvocati così sono in condizioni come hanno d'altra parte diritto di seguire attentamente tutto lo svolgimento degli interrogatori sì io vorrei fare parlare l'avvocato Mormino 45 47 47 sì sì presidente io in fondo mi pare di poter dire una parte delle cose che sono state dette e questa volta mi trovo d'accordo in parte con il dottor Ayala capita anche questo ora dico presidente si sono posti tre problemi il primo è quello che diventa intelligibile talvolta la il dialetto per coloro i quali non sono siciliani e mi pare che essi siano destinatari di un rispetto alla comprensione di quanto avviene al dibattimento al pari di tutti vi è un altro problema quello della risonanza fonica fastidiosissima che impedisce a noi che siamo soprattutto al fondo dell'aula e agli imputati che mi pare anche essi abbiano il diritto di sentire di comprendere a comprendere tutto è stato posto un terzo problema che mi rendo conto è irrilevante però mi pare difficilmente risolvibile cioè dire quello della possibilità di vedere direttamente non credo che a tutte le parti dell'aula si potrebbe fare io avrei da proporre quella che è la mia opinione la prima è questa che vostra signoria possa sollecitare l'imputato poiché ci risulta che in altre occasioni anche in occasioni dibattimentali abbia più chiaramente in un posto diverso da Palermo dove certamente sarà portato a parlare in siciliano per consuetudine ha parlato anche in lingua italiana un po' più correttamente ecco di sforzarsi di esprimersi per quanto può in lingua italiana lei viceversa l'ha sollecitato a parlare anche in siciliano certo sarebbe più agevole però crea questi problemi siccome sappiamo che egli anche in un ambiente diverso in condizione di parlarlo l'italiano che si sforzi di farlo che lei lo solleciti a parlare più lentamente in maniera che si abbia la possibilità di comprenderlo meglio e che ogni volta e vostra signoria se ne renderà conto di volta in volta che ci saranno delle espressioni in siciliano e la tempestivamente le traduca e le faccia le esprima in lingua italiana in maniera che tutti possiamo comprendere ecco vorrei dire che ancora una volta il processo pone un carico alla presidenza noi ce ne rendiamo conto che è un compito oneroso però se non c'è un intervento tempestivo in questo senso allora succede un po' quello che sta succedendo mi pare che questi tre sistemi e queste tre sollecitazioni che il Presidente potrà rivolgere all'imputato sono mi pare che possano condurre anzi alla migliore comprensione della situazione alzando anche il tono della parola il problema della trascrizione si porrà in relazione a questo modo di acquisire la registrazione ovviamente se c'è un altro problema poi si vedrà che numero è? 50? 35 Signor Presidente quanto alla proposta dell'Avvocato Alberini di dare lettura dell'interrogatorio dell'imputato io credo che ciò sia vietato dalla legge ah questo questa è nuova questa si Presidente infatti l'ultimo comma dell'articolo 441 del codice di procedura penale faculta il Presidente a dare lettura dell'interrogatorio reso dall'imputato soltanto nel caso in cui debbano essergli mosse delle contestazioni 437 prego il 400 non è il 437 441 così recita Presidente il Presidente o il pretore può contestare all'imputato le dichiarazioni da lui fatte precedentemente dando lettura in tutto in parte dell'interrogatorio che è il 437 che è il 437 che è il 437 prego può contestare no no solo può contestare no mi pare che il solo caso nel quale può essere data lettura dell'interrogatorio reso nell'istruzione da parte dell'imputato è quello nel quale debbano essere gli mosse delle contestazioni ma contestazione in questo caso significa la rappresentazione di quello che lui ha detto no Presidente perché il comma precedente stabilisce il modo dell'interrogatorio perché in mondo si è dato lettura dell'interrogatorio che abbiamo dato in questo processo la lettura dell'interrogatorio e lei non si è mai opposta è ben strano che lo faccia soltanto adesso Signor Presidente a parte l'interesse particolare che ho all'audizione diretta dell'imputato se non mi sono opposto prima intanto mi consenta di dire Signor Presidente io non voglio contestare allorché vennero interrogati no 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 contestare le dichiarazioni non è che significa che questa volta lui deve dire una cosa di vero ma Presidente poi le interpreti lei la norma voglio dire questo ma allorché vennero interrogati i due cancellieri i miei clienti io chiesi esplicitamente che l'interrogatorio avvenisse senza l'articolo 441 del codice di procedura penale quindi non è vero che non ho mai fatto la questione no ma non dico non ha mai fatto la questione però dico gli altri interrogatori come la domanda in mondo si fa nelle aule giudiziali dunque l'Avvocato Costa ma io credo che si possa superare l'Avvocato Mormino ha offerto effettivamente una chiave attraverso la quale si può innanzitutto tentare di andare avanti e poi se fosse impossibile se fosse proprio eh ci fosse una deficienza tecnica da parte dei microfoni possiamo vedere signor Presidente io volevo semplicemente farle osservare e rendere noto ai giudici popolari certamente non al signor Presidente e ai signori giudici togati che l'ultimo comma dell'articolo 441 al quale ha fatto riferimento il collega che mi ha preceduto dice testualmente e non c'è un soltanto che evidentemente è stato per errore aggiunto alla lettura il Presidente o il Pretore può contestare può contestare all'imputato le dichiarazioni da lui fatte precedentemente dando lettura in tutto e in parte dell'interrogatorio da lui reso durante l'istruzione o del verbale di sommare informazioni messiamate dall'articolo 225 allora che cosa è riferita questa lettura al fatto che tu oggi regni una certa dichiarazione e ieri ne hai reso un'altra e do lettura di quella se invece il collega ha la cortesia di andare all'articolo 437 che è proprio quello della direzione del dibattimento che aspetta il Presidente o il Pretore come sappiamo io l'avevo richiamato il 437 la prima frase il Presidente o il Pretore ordina le letture quelle che vuole e quelle che crede è chiaro come il sole che è i fili dell'oralità del dibattimento io non sono qui a dire delle cose diverse da quelle che sosteniamo dunque mi pare che stiamo dando l'avvocato a Mormino Comunque 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 quella ultima Sì Una La La C'è Io avrei una richiesta precisa da fare anche per troncare questa discussione che non mi pare che porti a un lato di buono io richiedo formalmente che venga ripreso l'interrogatorio dell'imputato Presidente Ripreso l'interrogatorio dell'imputato perché stiamo a discutere per dare un pomeriggio non c'è nessun motivo per non farlo Ripreso Ripreso adesso che lei continua l'interrogatorio che aveva già iniziato Ah ripreso nel senso di ricontinuare Mi pare che l'avvocato Mormino abbia fatto una proposta assai ragionevole che va seguita e se però si fa un po' di silenzio in aula nel senso che ora vediamo l'imputato alle domande che gli vengono rivolte se lui lei deve provare a parlare più lentamente Sì E poi in modo che io eventualmente intervengo se c'è qualche frase dialettale che può anche non essere intesa da chi non è siciliano io la traduco Va bene Presidente Va bene Va bene Presidente Allora vediamo un po' No per favore ora basta su questo argomento Sentite se i microfoni non funzionano è un altro paio di maniche se c'è qualche imperfezione tecnica si può cercare di sistemarla La mia voce la sentite bene? Perché io no non la sentite a me neanche la mia voce allora evidentemente è una questione di carattere il pubblico non sente bene no no assolutamente no non si sentirebbe avvocato Filecia assolutamente e poi si deve anche registrare io direi allora cerchiamo di parlare lentamente e poi in maniera che eventualmente io faccio qualche intervento per chiarire qualche frase io gentilmente lo vorrei aiutare anche in merito di avere questi problemi lei in aula io quando lei vede che sono in difficoltà lei mi ferma dice per questo si la ripete se lei parla più adagio cioè più lentamente vediamo di potercela fare mi aiuterebbe tutti poi non solo me perché io per la verità ho percepito tutto quello che lei ha detto ma purtroppo però è giusto che lo percepiscono tutti gli altri ma bene perché il dibattimento è fatto per questo e l'oralità è il contraddittorio e allora lei stava parlando di Rosario Riccobono si vuole per favore riprendere il discorso che stava facendo che ci stava raccontando la fine del Riccobono la fine del Riccobono adagio eh come gli avevo detto era amico di Stefano Pontà era amico di Stefano Pontà molto intimo molto intimo e questo Emanuele D'Agostino aveva una stima enorme sembravano padre e figlio quando lui cecava che avevano ammazzato chi aveva la stima sia Riccobono verso Emanuele D'Agostino sia Emanuele D'Agostino era una stima reciproca reciproca sì sembravano padre e figlio quando è successo il fatto di Mimmo Terese l'unica via del campo ci rimane c'è di andare da eh da Saro Riccobono il signor Emanuele D'Agostino purtroppo arrivando là è stato l'ultima sua giornata di vita non si è saputo più notizia di Emanuele D'Agostino ci fermiamo là e andiamo più avanti nell'argomento di Saro Riccobono tutta questa preparazione l'ha fatto dentro e male il signore Colleonesi perché era un membro della famiglia di Pontà e allora Pontà il primo amico l'ha ucciso Emanuele D'Agostino Emanuele D'Agostino finisce quanti signori Colleonesi si sono finiti di pulirsi le ersate si sono tirati al signor Riccobono con la tutta sua con la sua famiglia completa è finito il signor San Riccobono è rientrato nella piazza di San Riccobono il signor Pippo Cammino del Tutignoso di San Lorenzo Pippo Cammino del Tutignoso di San Lorenzo di San Lorenzo e c'è l'ultato di San Lorenzo sarebbe della famiglia di San Lorenzo e adesso ci hanno tutto sotto controllo sempre tramite Pippo Cammino anche Pippo Cammino è diventato un elemento di prima punta successivamente poi alla sparizione del Mimo Teresi e degli altri lei ricevette delle visite si io stavo facendo una casa in costruzione stavo costruendo una casa e avevo come amico un certo Mariano Marchese di Villa Grazia non Villa Grazia non Villa Grazia di Carina ma Villa Grazia di Palermo Villa Grazia di Palermo un certo Mariano Marchese no detto Mariano chiamato Mariano un certo un certo Mariano Marchese cioè un tale mi sembrava che aveva detto ho capito male io signor Presidente un tale chiamato Mariano Marchese eravamo amici perché io commerciavo la mia attività in commercio del bestiame nel commercio del bestiame e questo aveva una montagna e c'aveva pure l'allevamento del bestiame quindi possedeva un terreno in montagna e c'aveva anche la luce in Villa Ciambra a Villa Ciambra io ero conoscente perché ci andavo lui veniva da me eravamo amici però questo era pur uomo d'onore come me però era un uomo d'onore come lei un uomo d'onore come me sì e allora questo mi è venuto a trovare dopo la morte dei quadro mi racconta in particolare e mi dice non ti preoccupare non c'è più niente quello che hanno avviato è finita là è fatto mi dava riassicurazione di farmi camminare che lui mi filava come amico mi dava riassicurazione che lei poteva stare tranquilla e mi racconta in particolare che per me mi votare sei quattro era finita la laxora non c'erano più morti nella nostra famiglia questa era un'assicurazione che le aveva dato un'assicurazione per farmi uscire all'ossoperta a me sì però le disse i particolari che le ha raccontato le chiedero la sensazione che lui fosse stato presente è chiaro non le può avere detto non le può avere sentito da giornali fatte perché nel giornale non sono mai venuti se fatte è una cosa che lui c'era in mezzo nell'omicidio dei quattro persone rappresentanti del Mimmo Terese il fratello Federico di Franco Giuseppe e mi raccontò in particolare la compagnia che c'era io essendo un pochettino e come lo spiegò il fatto che era lo stato perché questi appartenenti di Stefano Pontà avevano vagliato la commissione avevano vagliato in merito avevano sbagliato avevano sbagliato ci avevano sbagliato che appartenenti di Stefano Pontà farendo queste quattro morte la guerra era finita a me mi vogliono pigliare più asciutto perché se capitavo nei quattro era la stessa fine e la stessa mia sia mia che sia da così e lei non capitò nei quattro perché? non ci sono andato perché ci ha detto quattro persone Mimmo Terese era ancora occhi chiusi diciamo occhi chiusi in dialetto nostro perché se lui era furbo quattro persone non ci dovevano andare ce ne andavano due invece se ne ha portati i quattro e tutti e quattro hanno fatto la stessa fine e questo Marino Marichesi mi racconta i fatti però io non mi ci metto a dire ma perché faccio parlare a lui perché se io mi ci metto lui va a rapportare ai signori fratelli Pollarà e compagni io mi fermo lui parla io sono qua sono all'attitante e non mi faccio dire perché ho il problema che ci ho mandato di cattura di 26 anni dice per te non c'è niente non ti preoccupare va bene e continuo mi racconta tutti i fatti io l'ho lasciato pulito al livello di due giorni di questo signore venne Giovanni Battista a Pollarà dove faccio la casa mi viene a trovare che si è ricciato ci si è moccato ci fa perché non ti fa vedere questo deve permettere che un reggente non ti fai vedere un reggente che piglia il possesso la famiglia Bontà aspetta lo ripeto perché questa volta già questo Giovanni Pollarà Battista piglia il possesso di reggente ah aveva preso il possesso si subito la morte di Bontà era diventata perché si era immesso nel possesso è stato il premio il premio della uccisione di Bontà subito l'hanno mostrato a quattro giorni con tutto questo dice ma perché non ti fa vedere ci sono segnalate tanti se mai avevi bisogno sono e si è messo a disposizione se avevo di bisogno io lui che non l'aveva fatto mai aveva fatto delle beneficienze ma non mettesse a disposizione un reggente si è messo a disposizione sua in che senso per farmi capire che era un amopolito siamo amici ora me lo tiro lui pensava io purtroppo non ci sono creduto e lui se n'è andato in questo argomento dopo dato che io non sono andato con Mariano Marchese e col Pullarà che lui mi diceva di farmi vedere dove diceva lui hanno cercato l'unica assata di farmi fuori con la compagnia e come infatti hanno fatto il lavoro che voi sapete voi della Corte e mi ha tentato che hanno subito vediamo questo come era morto Riccobono no dimmi Moderesi come era successo che era presente perché lei per esempio ha fatto qualche altro nome si io non lascio più di lasciarlo parlare di come ha fatto mi pare che lo devo frenare perché parla rapidissima non ho capito che questo è il suo intervento io le sto facendo delle domande perché e io lo lascio parlare ma la domanda gliela devo fare se lei col suo consenso magari non c'è nessun dubbio non c'è nessun dubbio che io possa condurre il interrogatore come voglio lei stava parlando del suo tentato omicidio lei è arrivato praticamente al tentato omicidio ma ancora prima il loiacono il pietro loiacono lei pensa che fosse stato presente il pietro loiacono io ho avuto conferma quando ci siamo congiati a scoli piceno nelle carceri di ascoli piceno lui è arrivato di notte sì lui è arrivato di notte di notte io non che l'ho visto perché dormiva nelle mattinate passavano il latte e veniva una guardia cacceriera dice c'è un bicchiere c'è un bicchiere perché c'era una sezione c'è un bicchiere un bicchiere ci ho detto sì dice arrivò un palometano e ce l'avevo angolo di fronte alla mia cellula ma lei chiese un bicchiere perché la guardia perché la mattina passano il latte ah ecco c'è subito c'è un palometano c'è come si chiama era a Polentone diciamo questa guardia non mi ha saputo bene il nome però ho capito era a questa guardia com'era? Polentone ah Polentone in alto del nord e allora facendo il nome di loiacono non lo pronunciava bene l'ho capito l'antuire dopo di fronte a me c'erano ragazzi politici ma che è? diceva un certo percino loiacono dopo si affacciò lui io vi ciò e chi ha e così ci ho dato il bicchiere dopo a ora di fare la società è venuto in cella da me cioè nell'ora sociale nella vita sociale che si fa nelle carceri lui è venuto a trovarlo l'ho invitato ci sei se viene che aveva mangiato con una persona grande l'ho invitato e che cosa le disse? appena lui è entrato da me che si riesce che non si riesce vieni che felini che fiscino si faceva la parte dell'innocente invece lui era l'attore principale del gioco che hanno fatto io già sapendolo sono stato io a farlo andare via perché era bello nel quel giorno insieme a me eravamo tutti e due era una buona invitata praticamente lo fece andare via? no abbiamo parlato dopo c'era l'ora di aria io sono sceso all'aria dice io non scendo perché lui malvagio pensava che lo facevo qualcosa di male a lui mentre io vado all'aria ritorno dall'aria vado sopra non lo trovo più dalla sezione e si è passato in sezione in un'altra sezione con un certo Giuseppe Baldi in un'altra sezione ma non eravate eravate nella stessa cella? no nella stessa sezione di fronte nella stessa sezione però di fronte è arrivata la notte ma lui venne a trovarla è arrivata la notte signor Presidente la mattina ci siamo visti a mezzogiorno abbiamo fatto la socialità alle due e mezza lui già della sezione non c'era più ha cambiato cella e se ne è andato con la cella in un'altra sezione un certo Giuseppe Baldi pur uomo d'onore Giuseppe Baldi dopo ci siamo incontrati all'aria dice sai io sono male di qua di là perché lui si aspettava qualche male di me sapendo che lui aveva fatto ma io al primo incontro non ci ho fatto niente però lui mi ha messo a dir i fatti che lui sapeva tutto però lui le cariche gli dava gli acci lui non sapeva dice non c'entro io ha fatto la fine dei miserabili in poche parole e cosa le ha detto? che il fattore della morte di Mimmo Terese non ha potuto fare niente perché l'avevano ordinato perché l'avevano fatto qua l'avevano fatto e sono delle chiacchie che si usano nel gergo che si usano e non ha potuto intervenire non ha potuto seballo non ha potuto seballo favorevolmente perché era stato ordinato c'era e non l'ha potuto seballo non l'ha potuto seballo va bene andiamo del fattore del fattore dei personaggi vanno a ammazzare i quattro vuole i nominativi io l'ho fatto se gentilmente lei le vuole ripetute se non le può leggere di là sì ce le ripete c'era i fratelli Pularà Franco Adelfio il nipote Franco Adelfio il fratello di Franco Adelfio il fratello di Franco Adelfio Giannuzzo Adelfio cugino di Adelfio Pietro Fascella Pietro Fascella Pietro Fascella Giuseppe Gambino Giuseppe Gambino Totuccio Profeta e non ricordo altri che sono scritti gentilmente e Profeta sì e Pietro lo iacchiano pure in mezzo e Pietro lo iacchiano questi sono morti nel baio di Neno Sorci ci racconti l'episodio del suo tentato omicidio sì io non ricordo il giorno che mi è successo perché non avevo interesse a ricordare il giorno mi trovavo a casa di mio padre mentre io mi trovavo da mio padre è venuta mia moglie col bambino mio figlio e un altro bambino il suo padre che abitava in via Ciacolle in via Ciacolle allora quando mia moglie è venuta a Ciacolle aveva la sua macchina finito che abbiamo lasciato un'ora mezz'ora che è lasciato da mio padre ci avviamo verso mia società mia moglie col bambino mio figlio e quel bambino dovevano andare via quel bambino che era amico di mio figlio non è voluto andare con mio figlio se mi si andava in maniera con me io non lo volevo questo bambino era un bambino un ragazzo un bambino era che amico di mio figlio mio figlio aveva otto anni un compagno di scuola era un compagno no no erano vicini di casa erano soltanto degli amici sì vicino di casa come si chiama? non ricordo il nome non mi viene per il momento ma lo posso dire se lo ricorda poi me lo dirà penso dopo c'è un ragazzino che fa non voleva andare via con mia moglie io dice me ne vengo con lei signor Totuccio comunque mi è convinto mia moglie aveva partito e aveva fatto circa mille metri mille e cinquecento metri avanti mentre io faccio da Ciaculle arrivare verso via Conte Federico via Miro Jaffer da Ciaculle verso via Miro Jaffer contro un cento ventisette con sopra a bordo Pino d'Angelo questo io lo vedo perché è bristolato lo so passo lo saluto e questo rallenta mi ha fatto un po' già di soprassalto quando io arrivo sopra il cavalcavia insomma l'ha dato sospetto che c'è presenza mi ha tirato un po' quando io arrivo sopra il cavalcavia ma per quale motivo perché questo mi fa soppassare mi saluto e Sanione che dice Ciaculle è pure un modo onore io da vecchio lupo penso che qualche cosa in giro c'è subito mi ha tirato l'attenzione si è insospettito e Sanione l'ha borgato non è di là io lo soppasso lui da solo mentre io lo soppasso arrivo sopra il cavalcavia di fronte a me c'è un palazzo quarto o quinto piano che arriva ci sono tre palazzini uno dietro l'altro lei ha imboccato il cavalcavia dai Ciaculle verso venire c'è il cavalcavia che si passa sopra la torsata mentre io sono dal cavalcavia sono dal cavalcavia già io marchio di quella macchina che ho superato mia moglie avanti con la sua macchina no? tua moglie si è andata per contro tu si è avanti e io ho il bambino in macchina questo ragazzino amico di mio figlio quando arrivo in questo attimo io vedo nel palazzo l'altra volta nella dichiarazione è confusa perché c'è detto dietro la finestra non è finestra è una veranda tutta a lungo di vece perciò la persona è una veranda c'è una porta tutta a vece perciò lo viso abbastanza bene il signor Enzo buffa messo dietro la finestra con la radiolina perché ce l'ho così come di qua da lei ce l'ho bello è lui alto lo vedo abbastanza bene sulla mia sinistra c'è la proprietà del signor Vesce e Filippo che distanza ci può essere tra quella cavalcavia? sì dal cavalcavia ma neanche 20 metri 25 20-25 metri sì è là sulla mia sinistra c'è il giardino che si scende vado qua e c'è la discesa dal ponte sulla sinistra c'è un cancello in ferro con tutte le varie e c'è Mario sulla mia sinistra sulla sinistra c'era un cancello di ferro e la campagna e c'è Mario Pesce e Filippo e la campagna la campagna c'è Uedino e Pesce e Filippo e vedo Mario Pesce e Filippo dire il cancello a questo punto io che vedo Mario Pesce e Filippo qua vedo questo qua ma com'era questo Pesce e Filippo in piedi era a me su c'era il portone e ci sono i bar lui aspettava cadarci un via e c'è era dietro le sbarre sì no dico la figura com'era no Romano lo vede benissimo lo vede benissimo cioè in piedi sì sì in piedi in piedi era appoggiato appoggiato a cancello perché aveva l'occhio vivo di dare la segnalazione a quello signor Buffa che arrivavo perché perché la motocicletta che è uscita è uscita dal garage del signor Buffa sotto il palazzo c'era la motocicletta grossa che esce e poi c'è Lucchese e Pino Stelpuzella Lucchese portava la moto e Pino Stelpuzella era messo di dietro appena mi arrivano che io arrivo con la macchina qua loro mi tagliano la scelta e vengono davanti mi diranno la prima raffica la concitazione è però spiegabilissima comunque lei lei stava lei ha visto il prestigio felice e ha continuato la marcia sì ma già sono nella discesa che quasi scende piano che c'è un incrocio c'è un incrocio che si vorrebbe andare verso l'altra lanza sì perciò io quando scendevo l'oponte scendevo a raccio e questa motocicletta proveniva da dove? la motocicletta viene dove c'è il signor Buffa l'ultimo piano sotto c'è il garage la motocicletta esce un vicolo cieco esce dal garage perciò era tutto tramite il radio fatto il lavoro e questo Buffa lei l'ha visto sì il Buffa era dietro la vedrà da sopra sì questo l'ho capito e questo è il padrone del palazzo e lui c'è l'appartamento all'ultimo piano aveva una radiolina in mano c'è qualcosa che no 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 è in cuffia la radiolina è proprio in mano perché di radiolina me ne intendo io avevo il contrabanniere e riconoscio pure il signor Messiero quindi secondo lei questa motocicletta era una motocicletta di piccola cilindra no no era una grande motocicletta arrivata senza rumori quando io vedo era una grossa motocicletta grossa motocicletta grossa motocicletta che è arrivata senza fare molto rumore siccome l'occhiosello per natura per natura è piccolo era o è piccolo perciò sopra quella motocicletta ci stava non era un pilota buona per la motocicletta perché la motocicletta l'avevo pure ci volevo appoggiare i gambe per uno per una motocicletta grossa e uno piccolo non va bene sì comunque quando loro sono usciti io vedo questo l'occhiosello era un amico mio pure la vecchia data quando mi viene di fronte aveva una faccia da morto mi mangio la prova la foglia completa sono per me sono finito io io mi buttavo sopra lo piccirino sì buttavo sopra lo piccirino lui mi faceva prima a rafficare sul bambino si è buttato sul bambino io sul bambino abbandonando il volante naturalmente ho abbandonato la macchina lui mi doveva prima a raffica prima a raffica io ancora non avevo niente non ero colpito mi sostivo e petteva le regamate mentre io da lì loro stanno ritornando ritornano a camo di ceria io arrivo a fare 100-150 metri mi fermo davanti al bar lo signor Pace si ferma davanti al bar del signor Pace arrivo là mi fermo là e c'è un bambino che c'è sanguera la faccia butto il bambino nella macchina e mi metto davanti il motore della macchina perché la macchina era un 127 era una macchina normalissima però già era tutta a buchellata quando loro ritornano mi continuano a parare di nuovo appena mi parano io mi abbandonato la macchina cioè il bambino l'ho buttato e rimango nella macchina perché io c'ho il capo mi fregano mi firmavo pigliavole voi però appena loro sono arrivati che c'erano la pacchina ci mi sa parare e ci ho tirato i 5 coppia che aveva il scarpozzello ha pigliato aveva il giubbio l'antiproietto si abbandona la motocina lo scarpozzello è stato colpito colpito perché aveva era lui che fa l'operazione e lei se ne è accorsa che era stato colpito sì perché sono fermo io tiravo la macchina col motore no dico se ne è accorsa in che come me raccolgo perché quando io c'è il paro lui cade la motocina e va per terra i colpi lui invece di portarlo sopra di me li portava in una saracinezza non me la siano e a primo piano non un balcone come ha fatto perché l'ho preso e gli odontieri e c'è al suo punto io non ho più niente da fare e c'ho macchina davanti e macchina di dirlo davanti c'ho Fossomaichisi davanti QBMV metallizzato e dirlo c'ho un golf con c'è persone Salvatore Cucuz e una c'è due che non conosco a questo punto vanno ben felice di colpa me nero si caricaro il signor Creppuzzella e non BBMV e se lo sopportato e questo è il mio attentato e dopo un giornale sono venuto fuori che ero io caricato una macchina e avevano sequerciato questo è il mio attentato lei vide pure il Filippo Marchese sì Filippo Marchese con BBMV avanti con BBMV Molinciano Molinciano detto Melinciano perché io mi gioia dopo cercavano di chiudere il nome non sono nell'attimo sì di chiuderlo perché ci faiavano di navetta davanti tra BBMV comunque stiamo traducendo no? non mi pare che lei non abbia capito tutto il racconto che abbia fatto perché mi è sembrato abbastanza chiaro comunque adesso ripetiamo anche per rendere intelligibile quindi lei è stato la motocicletta veniva da questa strada senza uscita veicolo chiuso e attualmente ancora veicolo chiuso e rispetto alla macchina in che direzione di marcia era? la macchina la mia macchina scendeva dal cavo e il cavio e andava verso Vimino Giaffaro invece loro non mi ricordavano come si chiama il suono della zona riuscivano a sentire da veicolo chiuso e mi sono avvicinato così appena mi sono arrivato mi hanno aperto la prima raffica io vedendo Lucchiesedo con una faccia di molto e il Carpozzella perché il Carpozzella per impararmi ha uscito ha fatto tutto il suo lavoro di uscita davanti perché davanti c'era e ha dovuto uscire in fuori e mi ha fatto la prima raffica e le sparò la prima raffica di Calaschenov Lucchiesedo chi sarebbe? Lucchiesedo sarebbe il nipote di Masino Alpazaro il nipote o figlio della sorella e nella famiglia di Ciaculla da Michele Greco Lucchiesese Giuseppe? Sì Lucchiesese Giuseppe Ritto Pesciredo Assistete qualcuno a tutta questa scena? Tante gente ce ne sono tante però capirà un fattore del genere nessuno si avvicinò niente perché come infatti quando arriva la polizia è andato a cercare non c'era la maglia non ero a cercare non è come ci avevo fatto arrivano non c'era la maglia c'è vicino fotografia e io vedevo tutta la scena che è successa lei dove se n'è andato? a pochi passi lei scappò a piedi? come vedi? e il ragazzo? il ragazzo si è andato subito a casa mi sono andato a casa mi sono andato a casa all'allenanza per com'era io ho avuto solo un graffio nel fattore nel mio attentato ho avuto solo un graffio questo greco Scarpazzella si e lei dice che fu colpito si ma come mai allora? fu colpito perché lui quando io pigliavo è successa anche la precisione che pigliavo un opiat dopo un paio di giorni tramite un mio cucino lui è caduto per terra si quando l'ha pesa nel petto l'ha colpito nel petto lui è caduto per terra questa macchina BMW è avanti che ha fatto il macchino e ho fatto il costo di 10 su carri carri e se niente allora sono intervenute l'automobile perché tutto lavoro lo dovevano scusate è intervenuta la BMW guidata da Filippo Marchese il tutto muo linciano si e il signor Cucuzzi era l'eroe Cucuzzi e il Cucuzzi con altre due persone con altre due persone a questo punto su carri caro un lucchia della modicenza si è appunto semplito non l'hanno lasciato cosa hanno fatto? finire il lavoro e si erano per la via Conte Federico e subito si erano a casa però Michele si sono immessi sulla via Conte Federico in via Mirogia c'è la via Conte Federico e subito si fa a fondo a favarello non ne vogliamo e si sono dileguati e subito fuori a casa si sono allontanti quindi sull'automobile che cosa hanno caricato? lo ripeta così caricaro signor Cleppo Zella perché con la botta che io avevo Giubbino antiproiettole con la botta di 108 la potenza abbattì sempre perché arriva sempre un colpo dopo una pari di giorni io se ne avevo a mare il novellino di Michele Greco a Casseldaccia c'è stato un mio cugino personalmente l'avviso e non aveva niente come ferritura che Giubbino si è salvato perché lei ritiene che l'avesse indossato l'ho preso ma io non è che sa ciò che c'è il Giubbino io questo Giubbino mi viene dopo lo vedono a mare è una deduzione che lei trae non è una deduzione è fatti ma dico il fatto che avesse il giubbotto antiproietto perché la caduta che fece e dopo quando veniva a mare non aveva niente aveva poche cose per essere perché la botta c'è però Giubbino per fortuna sua lei perché hai chiamato Corioliano della Floresta io sono chiamato Corioliano della Floresta perché sono stato diverse volte l'aditante e quando sogno l'aditante mi scava sempre nella campagna e così mi mi sono un nome Corioliano era la Floresta tutto là il film andava sempre in campagna quando era la titana sì perché accettavo un pesce ora poi in relazione al fatto del al fatto del buffa e dell'appartamento del buffa lei ad aggiungere qualche cosa ma ne ha visto tante cose raggiungere però se c'è qualche confronto con il signor buffa mi riservo se c'è confronto con il buffa da dire il signor buffa ha fatto l'uomo d'onore è una porta blindata che è il valore di un milione e mezzo o due milioni e ci ha lavorato una zia mia la madre di Grato Antonino ci ha lavorato la porta blindata e stai messi nella sua casa la madre di Grato Antonino che si chiama contorno è una mia zia sorella di mio padre abita accanto il signor buffa palazzo e palazzo siccome assicurare a tutto non mi è successo il mio attentato il signor buffa si parla la porta blindata e si è messa la sua casa il signor marcello di Grato Benere che abita al terzo piano la villa però per paura il marcello si può far ammazzare il signor buffa fa finta di non vedere il signor buffa con la porta che si può e si è messa la sua casa ha fatto la dichiarazione che era bruciata ha strappato la porta cioè ha svelto la porta no arrivava io arrivavo alla sua casa e mi ha portato la sua porta cioè ha sostituito la porta blindata e vede che è capito perfettamente questo è il signor buffa se poi tu hai mombolo se poi tu ti avrei bisogno ma sono gente misera perché quando vanno a fare le sue cose in un modo loro non la sa fare perciò quando lui è stato interrogato diceva poi ti era bruciato e ce la canciavo ma poi ci autorizzò il signor buffa questo è il signor buffa Vincenzo e mi riferimo per adesso per altre cose non era stato autorizzato da nessuno comunque si è portato alla porta e si è messa nella sua casa si è messa la sua casa o bello chi dice sostituendola con un'altra porta no no non ci ne ha messo niente a niente perciò l'appartamento è rimasto io tu ci resti che c'era bruciato e ce la canciò così i film questo è un modo nonore però no non è che magari un pezzetto uno che cugliano piazza ci ha rubato e ce l'avere bisogno un modo nonore voglio precisare dunque io riprendiamo il processo a lunedì mattina alle ore 10.45 e riprenderemo l'interrogatorio ordinando la traduzione degli imputati detenuti e l'accordo era questo no? risponendo che tutti coloro si se lo possono riportare risponendo che coloro che debbano comparire senza autorecidazione compaiono per quella data e per quell'ora di insetto dunque allora contorno cerchiamo innanzitutto avvocato buon signore sì sì numero 19 una cosa molto breve signor Presidente io mi ricordo che quando si cominciarono i vari interrogatori degli imputati allorché se ne sentiva uno lei ha dimenticato di contestare i reati preliminarmente non ho dimenticato nel corso dell'interrogatorio io credirei che siccome contorno è un imputato e non è un teste credirei che la signoria vostra gli contestasse i reati lo invitasse a discolparsi se ha da discolparsi e poi lo lo può interrogare come crede perché contorno quando viene qua si è dimenticato per buscetta sono due imputati no non è vero questo per buscetta è la prima cosa che ho fatto cominciamo allora ricordo quando non è documentato non parli per contorno io effettivamente mi riservavo di farlo nel corso e proprio stamattina perché si parlerà di cose allora ho fatto bene a ricordagli io me lo sarei ricordato lo stesso comunque la ringrazio contorno innanzitutto io le volevo fare una raccomandazione se è possibile cercare di parlare più lentamente più vicino al microfono e nei limiti del possibile in italiano grazie questa è una raccomandazione che io le ho fatto e che le ribadisco dunque lei sabato cioè sul venerdì ha reso una parte del suo interrogatorio e ha confermato gli interrogatori che le aveva reso in istruttoria sì adesso le volevo chiedere abbiamo parlato di questa cosa nostra dell'associazione e anche della presentazione come si fa a sapere che una persona fa parte di cosa nostra perché quando si incontra una seconda persona che ancora non si conosce ci vuole un prima e seconda persone che sono tutti l'uomo e l'onore e se la seconda presenta il terzo che è nuovo o viceversa io posso presentare un uomo d'onore che già ancora non è conosciuto allora io un uomo che non è l'uomo d'onore e lo presento a un secondo persona che è l'uomo d'onore però ci vuole in un momento sempre una persona che già è l'uomo d'onore si usano delle espressioni particolari cioè si dicono delle parole ci sono delle parole che si dicono questa è la stessa cosa ecco le parole sono questa è la stessa cosa quando invece si incontra una persona che è l'uomo d'onore un amico quando invece si incontra una persona che non è un uomo d'onore non è un uomo d'onore ci è un amico e si capisce che non è la stessa cosa è l'ogge che c'è differente della parola si lei sa di essere imputato di associazione per delinquere di associazione per delinquere di stampo mafioso di associazione finalizzata al traffico di superfacenti e dispaccio degli stessi si ieri abbiamo l'ultima udienza abbiamo parlato dei colloqui che il Teresa ebbe con lei e anche con Greco si da questi colloqui lei lei ne ha parlato di questi colloqui si ha saputo qualche cosa concernente un'intenzione del Stefano Bontate di attentare alla vita di Totorino Reina c'erano queste chiacchiere in giro però di concreto non mi risulta niente che Stefano Bontate voleva ammazzare Reina delle chiacchiere in giro delle chiacchiere in giro dicendo che ma il Teresi le riferì qualche cosa del colloquio che aveva avuto con Michele Greco si mi riferiva i colloqui che aveva mi riferiva a tutti si relativamente a questo punto relativamente a questo punto è nata la tragedia che è stato un foro tragedia dopo a molto di bontà prima di ammazzarlo non l'hanno portato fuori che Bontà voleva ammazzare Reina non l'ho portato quando Stefano Bontate era morto dice voleva ammazzare Reina perciò che sia una tragedia in piena e il Teresi le riferì Caido dice voleva ammazzare a Tutuccio Reina voleva ammazzare Stefano Bontà però questo dopo a morti Stefano Bontà prima non è mai venuto fuori lo aveva lo aveva saputo dal Greco da Michele Greco del Capo Commissione il Capo Commissione a proposito di questo Capo Commissione lei mi sa dire i membri di questa Commissione si Capo Commissione Michele Greco Stefano Bontate Bernardo Brutto tutto ciò aspetta Stefano Bontate e poi che fanno parte la Commissione Michele Greco Capo Commissione Pino Crepo Zieta Pino Greco Bontate Stefano Bernardo Brusca Tutuccio Reina Bernardo Brusca Bernardo Provenzano Bernardo Provenzano e il signor Pippo Calò Pippo Calò Pippo Calò sono 10-12 però ci ricordo pure la rimanenza Tu dici inserirlo Tu sarò ricco buono Tu dici scaglione Cioè Salvatore scaglione Sì Vabbè queste quelle che si ricordano Il il Teresi Sì parlò con Michele Greco di questo e di altre cose parlò per esempio dell'esigenza di tutelare la famiglia insomma sostanzialmente era stato ucciso il capo famiglia Sì Quindi la famiglia doveva assumere un atteggiamento Abbiamo cercato noi per sapere la morte di bontà del signor Michele Greco e quali sono c'erati i punti lui quando si è rivoltato non sapeva niente la mortiscia fanno bontà era l'occhio di tutto cosa che non può essere essendoci una commissione lui è il capo non esiste Ma vi ha detto di parlare con qualcuno per esempio No ha pigliato acqua che non sapeva niente ce la vediamo cosa c'è da farci si infiammava non fai finta di niente Con Geraci di Partinico vi ha detto No i Geraci di Partinico vengono dopo perché i Geraci Nini e Antonio Geraci quindi quando ammazzarono la bontà noi siamo rimasti una famiglia abbandonata allora mi è mutare che poteva essere più sotto a capo non comandava più volendo un capo era la famiglia abbandonata allora parlano con Michele Greco Michele Greco ci disse prima che ha fice reggente Michele Greco gli ha detto ci disse al Terese al Terese fice reggente a Giovanni Battista Pollarà e a Peccionolo Iaco no? Ah ha fatto reggente Giovanni Battista Pollarà a 3-4 giorni eravamo fice reggente dopo circa 4-5 giorni si ci fice reggente e sarebbero Pollarà Giovanni Battista i reggenti si allora a questo punto noi pensavamo tutto dato che era amico di Stefano Bontà a questo punto voi pensavamo dato che era amico di Stefano Bontà signor Michele Greco che la reggente ci appoggiava la sua famiglia a Ciacolto invece dato che non era più amico che era uno ritratore primo ne assegnò a Paitenico e non ne fosse nella sua famiglia e ne assegnò a Paitenico a Nino Gerace perché cosa per la sua convenienza di con leonesi perché un altro facendo un palermo a Paitenico quando avevamo bisogno che c'è cosa non avevamo a dire a Paitenico quando eravamo da un palermo un altro ritratore era una cosa buona preparata quindi vi ha assegnato a Paitenico perché secondo lei c'era questa no secondo era a retta di fatto perché appena ci fanno a dare bontà secondo la vostra impressione l'impressione di cosa nostra non è che io dalle cose fuori e uno era un appaitenico non sapeva i fatti era una cosa logica era strana anomala questa era una cosa elementare subito a Moetice fanno bontà fanno il reggente a cui ci fanno ci hanno dato l'omaggio a Moetice fanno bontà oppure la rà che lo cugnato il signor Pettinico e il signor Pettinico lo iaco meglio di chi c'era una cosa pratica invece se era una cosa normale passava tempo e si vedevano le cose dopo a lei il bontà non disse mai di avere intenzione di uccidere ma io ero uno dei uomini fidati di bontà ero una persona fidata di bontà però potrebbe darsi che il bontà non l'abbia detto a lei e l'abbia detto per esempio al D'Agostino o l'abbia confidato al D'Agostino per me secondo me sono tutti i ragieri che si è montato ad D'Agostino anche D'Agostino secondo me quando arrivo a punto pensavo ricco buono penso di poter esabare allora c'è se fanno un bontà vuole ammazzare a Rino secondo lei insomma sono delle notizie non reali non reali perché se erano reali venivano prima del corso il corso è difficile dopo la morte di bontà perché quando si deve fare un omicidio in una commissione prima si va a ragione perché cosa serve deve ammazzare a uno e dopo lo fanno invece ci ha fatto un ufficio prima di ammazzare e dopo dice voleva ammazzare a tutto il ciorino venne facile fare lo sopra un moito sì lei in sostanza in questa organizzazione ha detto che aveva rapporti diretti col bontà sì ma come qualifica lei che cosa è? come qualifica che era un semplice soldato semplice soldato era un semplice soldato e allora era arrivato a un certo punto dell'interrogatorio nel quale ha raccontato l'attentato che lei ha assolvito dopo lei che cosa fece dopo questo attentato dopo questo attentato vennevo in Palermo che aveva a fare? cioè lasciò Palermo lasciavo Palermo e venneva a Roma sì è andato a Roma e mi si abilieva a Roma cercò qualcuno a Roma a Roma cercavo il signor Pippo Calò ma non per farmi aiutare ma per poterli ammazzare perché l'unico prendo principale per farli ammazzare se fanno un bontà era il prima cercavo casa per potermi portare i miei familiari e dopo mi sono dato da fare se trovavo il signor Calò il signor Calò sapevo a Roma perché aveva un costruttore in mano un certo Daniele Varra Daniele Varra Daniele Varra sì questo Sbarra lei aveva saputo lei aveva saputo delle notizie sul Calò sì adesso insomma ha chiarito perché io proprio le volevo chiedere come mai cercasse il Calò visto che perché il Calò erano grandi amici se fanno bontà il Calò non ne fece tante tante e ora non si rivolge non ne fece tanto il Calò non ne fece tanto sia il Calò e sia la casa non si fanno bontà ma voi avevate la sensazione che il Calò avesse allontanato i rapporti sì no la sensazione il resto è di fatto il Calò prima veniva non dico ogni 15 giorni ma ogni mese era sempre un Palermo c'era un Palermo che manca 15 anni non ha mancato un mese quando è taito e l'aeri e l'aeri piglia sempre veniva a Palermo e quando veniva a Palermo si faceva vedere dal Bontà si doveva avere le bontà c'erano sempre sempre le riunioni le trosse ne avevano sempre i fatti allora sempre c'erano Fonno Favaria le bontà c'erano sempre quindi lei sapeva che questo sbarra agiva per conto del Calò c'erano in costruzione più di 5-6 canterà a Roma erano tutti lo signor Calò il barro era un pupo mi saffaccio e manco il romo d'onore e questo questo sbarra un pupo mi saffaccio sarebbe un un pezzo a nome una specie di un uomo di testa di legno una persona pulita un pezzo a nome sì sostanzialmente il Calò che attività svolgeva se lei lo sa attività tutti i piccoli che trafeghavano la gioco e seguivano le compagnie maniavano tutti tutti gli appoggiavano perché Roma l'avevano in mano proprio a lui Roma è grande non è un palermo però gli da comandava tutta proprio a tutta e lei è andato a Roma appunto perché Roma è una città molto grande è una città molto grande mi potevo riparare sia per i miei nemici all'arimenza c'era Calò rispiava una e una l'altra un marino e una e manco l'altra aveva dei negozi il Calò lei risultava il negozio aveva una butiera c'era domestica però lui intestato non c'aveva niente manca una una vulga una una spilla uno spillo sì una vulga non è che è fesso molto intelligente cioè a lui non era intestato nulla erano tutte delle attività economiche che venivano gestite da altri apparentemente apparentemente c'aveva pure negozio di abbigliamento l'abbigliamento l'aveva un certo Nunzio Barbarossa Nunzio Barbarossa che era solo un uomo fidato che era un napoletano sì uno dei napoletani era un negozio vicino a Ciazzone D a Roma ah che era gestito direttamente da questo Barbarossa ma lei insomma sapeva che fosse interessato il Calò sì ma io Nunzio Barbarossa conosci le persone non è che abbia sentito dire sì lo facciamo illusione di sentire dire non c'è ne lo conosce di persona sì e questo Barbarossa le disse qualche cosa sul sul fatto che il Calò fosse interessato ma la qualsiasi cosa che si faceva quando si cercava Peppo Calò a Roma si parlava con Nuno Barbarossa o il signore Magliotto ecco Magliotto o i due figli Nicola Melano per poter avere contatto a chi Peppo Calò era ricercato si girava le sue e c'era Vittorio Magliozzo Vittorio Magliozzo o Nunzio Malano Nunzio Milano erano persone e Tommaso Magliozzo c'è pure e lei li cercò questi Magliozzo? no io a Magliozzo quando mi è attentato non potevo più cercare né Magliozzo né anche nulla che l'aveva tutto contro a cui aveva cercare mi cercava la sciata che sapeva io una cosa elementare e non riuscì a parlare col Calò no non riuscì a trovarlo io ci riccava per la mia idea per ragionare direttamente e io dopodopo non riuscì dopo ha saputo pure che il Calò fosse interessato nella costruzione di ville in Sardegna sì insieme con Massimo Padaro insieme con Nicola Melano e tanti altri i fratelli Boni e i compagni mentre lei si trovò si trovava a Roma sì e successero dei fatti delle morti a Palermo che la riguardavano fatti mi scusi insomma delle morti persone che ah sì ma ammazzarono pochi parenti gente che non c'entravano niente gente lavoratore gente che non erano cosa nostra niente tanto per fare paura a me che io di paura non me ne hanno fatto mai né a Ca e mancavo Giobano Mandala Gaetano era parente suo come? Mandala Gaetano e io prima ammazzare su Gaetano Mandala questa è opera di Pino Greco che possiede perché aveva una casa vicino ai Dino Unito e per base principale me ha lavato questa pedina che era vicino a un suoi Dino che non poteva vivere che rapporto di parente l'aveva con lei questo Mandala Gaetano era un fratello di mia socia un fratello di mia socia e Corsino Salvatore Corsino Salvatore era un cognato di mia socia che ho marito era solo di mia socia c'era mia moglie si ricoverò quando mia maricera a Roma era incinta da anno non ho messo né a sua casa il signor c'è Mimmo ho vinto e ci siamo ieri da tutti ci dobbiamo ammazzare a me e ci sono l'uomo non ho l'uomo che avevamo un palermo dentro il polmino di questo corsico anzi gentilmente vi voglio prolungare quando mia moglie arriva a un palermo mia moglie arriva a un palermo eravamo tutti caccerati familiari mie a Roma mia moglie arriva a Palermo incinta di nove mesi era incinta di nove mesi doveva poi a Torino a Roma una vecchia nuda ne avevano riuscita a tutti un gruppo familiare se ne veniva il suo zio il suo zio appena arrivò un'indata veniva a quattro mobile che aveva un interrogare per casa mia un fattore di Roma veniva la mobile mentre il mattino c'era la mobile un signor Mimmo croce era 6.30 7.30 vitte la macchina boicchia era la polizia era un sinemezio passò vitte la macchina della polizia dinanzi perché la polizia aveva dopo il pigliere ma mia moglie avevano interrogato un signor croce passò vitte a mia moglie ritorno e hai a salutare e ci vittorbe la conferma un signor Michele e facono come chiedono sapete un signor corsino a due uomini a Mazzaro e noi giunale vennero vittarci lo facono mettere pure che a Mazzaro perché c'era mia moglie la mia moglie aveva poi torire come dice lei se sono che c'è ancora un'onore ma non c'era io nel pulmino del corsino furono trovati comunque dei telegrammi uno dei quali era diretto mi pare a lei non lo so il suo particolare non lo so ma comunque se leggendamente mi dice lo sarei grato va bene senta questo Mandala Francesco che cosa le veniva Mandala Francesco era un figlio di un fratello di mia madre ah un figlio del fratello quindi un primo cugino un primo cugino e faceva lavorare nella monnizia dalla parte materna e faceva il neturbino faceva il neturbino siccome era Mandala era un parente e poi era ammazzato ammazzato ci ammazzarono una città da 18 anni 19 anni Piero Mandala i figli di Francesco invece Bellini Calogero che cosa Bellini Calogero era un marito una cucina figlio era un fratello di me con tu e non la moglie si chiamava quindi era un suo affine tecnicamente giuristicamente affine e poi ci sono state che faceva l'elettricista prima era impiegato all'acquedotto dopo l'acquedotto dopo un incidente non riava e chiesse a fare l'elettricista quindi prima era impiegato all'acquedotto e poi cominciò una persona fuori del mondo troppo pulita e si fagliava proprio i cavoli sui e secondo lei tutti questi omicidi che scopo potevano avere tutto il scopo chiuso ci avessimo a domandare a Don Michele Rieco e appena se c'è se è ancora vivo o morì ancora non usaci ma chiuso ci avessimo a domandare a Don Michele Rieco quando sape chi è assai mia io lo sto chiedendo a lei no no ma proprio la domanda che lei mi fa tutti i suoi omicidi fuori un abogato e lo signor Michele Rieco neanche fuori altre zone perciò se non ricevano io tu ne facevano fra Zeppuzella e Michele Rieco lei dice che non sarebbero stati potuti fare commettere se non c'era il permesso da parte sì perché la famiglia ha un territorio e dito compresi il signor Peccio e Filippo ma lei la sua impressione qual era? la mia impressione per farmi della polità a mia per poter arrivare a mia però sì erano sempre uomo non l'onore avevano arrivare a mia non ammazzare a chi è denunciante l'avevano con me io l'accettavo se mi ammazzavano a me non ci riuscivo perché era ammazzare a chi è denunciante perché? ci possono essere altri moventi cioè altre ragioni che hanno ispirato invece questo umicidio di bellini di bellini calogeni ce ne sono tanti altri sono pure un po' tanti vittime cucino Nino Grato quando mi ha portato la notizia che Pozzella aveva giubbino l'anteproietto lui abbrerà a mare a Casteldazzo lo andò a trovare a Casteldazzo e c'erano i signori Filippo Dotto Filippo Mario Filippo e Giuseppe e ancora mi cucinò s'annaccavano a pegliare e mi cucino ci credeva perciò per esempio il signor Filippo si è da fare tornavano nel punto dopo c'eravano puntamenti perché mi cucino c'erano a Palermo c'erano a Milano e c'erano a scendere perché per esempio il Filippo c'erano a parlare avevano sempre puntamenti e mi cucino ci credeva ancora all'amicizia e scendere l'ultima volta che scendeva 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 era a Milano in Palermo si scendeva per chiarire qualche quando io arrivo a Palermo non aveva già c'era la guerra non sapeva nessuno nel panno lui mi aveva nel Calogero Bellina mentre doveva venne Franco Mafera perché avevano scenduto personalmente nel Milano nel Nenogrado perché nel suo appuntamento ne lo c'erano a Pezzo Filippo ne lo c'erano a Pezzo Filippo e già crocevete allora quando io scendevo erano nei Bellini nel Calogero nella via venne Franco Mafera e venne l'appuntamento ne lo c'erano a Pezzo Filippo e Cedini e venne perciò tutto il paese in Bellini e se ne lo c'erano a Pezzo Filippo e Cedini che sono una parecchia l'uomo se ne erano da mentre gli lasciavano a fugare a Chidrur da Rinca e il signor Cepuzietti e l'altro Pezzo Filippo se ne vennero a Pezzo Filippo e ci ammazzare il frate Giovanello Mafera e perché l'ultimo minuto che erano ancora in vita peterò la via mi ero già a fregire a Crocevedo e Cedini una mia signora aveva un appuntamento era a finire a Crocevedo i Crocevedo non si ha ricampato più ovvero lei non era a finire sì dico ma lei si trovava a Roma quando io sono a Roma e come l'ha saputo i notizi l'avevano già a Bellina perché quando sento che a Bellina parlo con Bellina Nino Nino gli appuntamenti non è stato dopo essere Filippo non si rega un po' più era più chiaro di chi aveva finito un'ine e come si chiama nasce sei nato a ammazzare pure a Giovanello Greco a Giovanello Mafera e Giovane ammazzare la cosa era tranquilla a Chidrur avevano venuto pure e chi si doni che fosse sì l'ha detto devo chiarire questa circostanza che nello stesso giorno praticamente ammazzare i due che affugarono e chi due che ammazzarono in pubblico Giovanni dico ma lei l'ha saputo come per telefono per lettera no no quale lettera nella mafia non ci sono lettere signor Presidente io la telefonata di quello poveretto Bellini che era un lavoratore l'ha per via telefono quando io non gli ho appuntamento ne ho dato per il telefono e non si rega un po' quindi questa circostanza lei l'ha saputo per telefono per telefono però come infatti dopo mi non ha conferma perché ti ammazzano pure Bellini e ti risulta io dice arrivare fuori la conferma è data dal fatto che hanno ucciso poi il Bellino in carcere lei ha avuto delle conferme di questa di questa di questa fidanzata le ha parlato di questa la confidanzata ne incontriamo a Novara che faceva l'amico e aveva offretto 150 milioni per poterla far ammazzare in galliere c'era io e il signor ma se non va dare invece quando mi incontravo noi incontriamo noi è andata a colloco mentre io sono a colloco con mia moglie aveva arrivato prima a fare un colloco l'altro avevo un colloco con 6 persone era un reparto speciale mentre io parlo con mia moglie io avevo arrivato prima a colloco io arrivo dopo perché l'altro si faceva un'ora di colloco lei arrivò prima a fare un colloco e lui venne dopo e io arrivo dopo perciò io venneva io prima però i familiari subito fuori in cavano quando venneva i familiari nascevano tutte insieme tutte semfamiglie insieme per come stasieme un signor fidanzato Danilo fidanzato voleva prendere l'acqua a non buzzo di mia moglie quale sarebbe voleva prendere l'acqua a non buzzo l'acqua a non buzzo c'è un'acqua nel pozzo mia moglie siccome c'era completamente i vigi si allontanò perché un'ora che conoscevo il signor fidanzato ce la fece chiamare a sua moglie dice signora io il signor Danilo fidanzato si ritevano vennevano a sua casa questi sono tutti fai fanterie perché chi dà me cazzo non c'è venuto mai Danilo fidanzato e voleva sapere come venneva quel luogo per che cosa per farcelo ammazzare a Novara io dicevo a bambalana a Novara venivano robarsi mia moglie dice no io avevo compie i miei parenti dice mi sono cucina Danilo 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 chissero signor Danilo fidanzato e dopo mi riceve il scenorioso che io doveva piantare lei a primo piano mi diceva venneva a casa per farmi ammazzare più facile non c'era un sci purtroppo questa era una dichiarazione fatta a Mario incarnato un altro laboratano che diceva mi chiamò giudice faicone un giorno a Novara io ancora stavo collaborando voglio precisare per questo particolare mi è secondo noi c'è Danilo fidanzato e il compagno vogliono ammazzare hanno affetto 350 milioni per far ammazzare lei c'è mai un canuccio a Danilo fidanzato un canuccio vanno dove io ancora ero all'onore all'84 e mi disse che offrevano 350 milioni a Scenapoletano e Napoletano ci sono i orici l'è stato detto sempre dal fidanzato che i due scomparsi Maffaro Francesco e Antonino e Grado Antonino erano stati convocati dalla commissione no dalla commissione nel presse Filippo o signor Tanino fidanzato io l'avevo con peggiorno l'oiaco io l'avevo con peggiorno ma il signor fidanzato mi disse che fu da fare le scine perché i dirano come un laccio che ha assumo la tutta la presse Filippo con il signor Tanino come il laccio con la con l'altro che ha assumo sì e allora fu da dire ma mia che a me c'è fu da fare le scine nel presse Filippo un fu un peggino ma non nella commissione dai presse Filippo come? convocati dai presse Filippo ma non nella commissione non nella commissione la commissione quando succeva Nero insomma vuole sapere il giudice a Latere se erano stati questi fidanzati avrebbe ammesso che la venuta in Sicilia era messa in relazione alla chiamata di questi presti Filippo sì se c'è Danilo Fidanzato a me morisse perché i due erano a caccia alla quindici a primo piano e i due erano a pian terreno l'unica società che facevano il signor Fidanzato il signor Masino Padaro facevano tutto solo i lavori non si afferavano ci abbracciavano pure i caiboni pure i it allora mangiavano sempre tutto solo quando si andavano all'aria si facevano la nota che ci avevano a dire che i cristiani che avevano lato macchine a pulita non ci avevano niente all'aria dunque torniamo alla circostanza c'è sempre qualche problema fonico ma io ho cercato di aggiungere e chiarire qualche cosa se i microfoni non funzionano comunque anche la mia voce si sente bene io credo di no scusate l'ultima risposta qual è è questa che lui ha detto che la venuta di Mafra Francesco e Grato Antonino no la venuta era di Nino Nino Grado mafra era in Palermo si mafra era in Palermo la venuta di Nino Grado era da tenersi saputo da fidanzati in relazione alla chiamata per favore questi microfoni si possono aumentare il volume va bene intanto lei magenatore cerchi di parlare un po' più lentamente signor Presidente è una magenatore che parla così vediamo se riusciamo a contenere questa irruenza verbale 85 avvocato mi perdoni ma vi sono momenti in cui il contorno perlomeno nell'audienza scorsa e l'abbiamo letto del resto nella trascrizione che è stata riportata dal giornale di Sicilia vi sono momenti in cui parla l'italiano non dico bene ma quasi quindi non si comprende perché a volte riesce a parlarlo tra l'altra no quasi fosse a comando questo non l'ho ancora capito perché ripeto basta da leggere il le giornali di Sicilia per vedersi che vi sono interi interi proprio pagina una mezza pagina tutto quanto in italiano dopo i continui ricami che ha fatto vostra signoria ora a questo punto il problema è questo ma può darsi che il giornale c'è una una didascalia prima abbiamo in parte tradotto quello che ha detto il no no presidente abbiamo le trascrizioni poi le possiamo vedere tanto che la corte vuole nominare un traduttore presidente era trascrizione integrale di quanto egli ha dichiarato tant'è che alcuni passi sono in siciliano in vernacolo e altri passi sono completamente in italiano comprensibili c'è una didascalia che avverte che comunque sono stati operati degli interventi mi pare è scritta in corsivo prima dell'interrogatorio poi c'è una fonica addirittura va bene io rivolgo ancora all'imputato certo non gli possiamo insegnare l'italiano così rapidamente però io la prego e questa è la seconda volta stamattina di parlare un poco più lentamente casomai le ripetiamo le cose le faccio ripetere siccome è abitudine signor Presidente non è per male sì no lo capisco perfettamente però deve capire che ci sono anche le persone che ascoltano che debbano essere in grado di poter ascoltare dunque allora avvocato buon signor sì per favore un pochino non aggraviamo la situazione perché il totta ha fatto delle dichiarazioni che non so che non so se lei che non so se lei conosce che sarebbero stati questi morti che sappiamo l'inogrado e il mafara sarebbero stati attirati in un tranello da parte di un certo zio Filippo e un figlio chiamato Fasulino io vi posso dire che a merito risultato a Gennaro io non conosco lei può dire questo che a totta Gennaro non conosco però omoronore non c'è perciò se fatti non li può mai sapere e Vincenzo Grato non è omoronore perciò se fatti non li può mai sapere se si sapeva non ci poteva raccontare a un totta Gennaro perché io ho letto nel mio rapporto c'è su totta Gennaro e a libertà non lo conosco non è omoronore perciò se fatti non li può mai sapere quindi lei dice che dato che il totta Gennaro non era uomo d'onore non avrebbe potuto sapere nulla di preciso attorno a questi fatti se che cosa poteva sapere poteva sapere dopo la telefonata mia del fattore che io parlo con Bellini e me ne ci fatte allora il totta Gennaro è che tu ripesi Filippo ma non ha cessato questi sono tutti cazzati fessare questo mi pare che sia abbastanza chiaro sì in sostanza il totta Gennaro ha dato un particolare che questo figlio chiamato Pasolino camminava poi successivamente con la collana e l'orologio che erano di appartenenza di Grado Antonino se vede che totta Gennaro ci ha appena andato con il 5 ma leona e ci hanno ferrano i pupe totta Gennaro non ci poteva canoscere la collana perché sarebbe stato il Grado Vincenzo a dirglielo allora se voi avete il suo problema signor Presidente chiamate a Vincenzo Grado e per il se vi confie ma che si è fatto non esistono che si è fatto per lei sono cose infondate tutte le cose sono totta Gennaro ne dice tante le sfosse pure ai miei confronti perciò non vedi il motivo perché non ci dovrebbe essere questo discorso compatto con quello non esiste in Manfara avevano dei collegamenti con gli americani cioè i siciliani che stanno in America e che fanno parte della cosa nostra dice avrebbero dato una spiegazione di questi omicidi nei confronti di questa mafia perdente nei confronti della mafia Vincente senta merito signor Presidente mafia perdente e Vincente non esiste per chi perdente non esiste perché ammazzarono i quattro cristiani e le avevamo chiede infettate nelle stesse famiglie perciò c'è mafia perdente e Vincente non esiste per chi fa una cosa ammazzare i quattro cristiani erano tutte insieme perciò perdente e Vincente non c'è neanche facciamola poi direttamente dal giudice alante il microfono al giudice alante vediamo se riusciamo un attimo a fare mente locale i mafara avevano dei collegamenti con altri appartenenti a Cosa Nostra che stavano in America e curavano la spedizione di partite di droga negli Stati Uniti questo le risulta? si si aveva un movimento la via per eliminare i mafara a Palermo si si doveva dare qualche spiegazione agli uomini d'onore di Cosa Nostra che erano negli Stati Uniti nel senso di dire perché li avete eliminati anche senza spiegazione ma dico una motivazione no no questo era un affanno perché era un interesse personale quando io per ammazzare a Nino a Franco mafara non ci interessavano per camorri americani che ne facevano tante cose a Campalemo e ci avevano gli americani non le più lentamente a loro non le interessavano non le interessava non le interessava non le erano autorizzate a dare appiegazione per ammazzare a Nino e a Franco mafara per ammazzare a fine noi avevano un problema in conciare gli americani picchiamo ammazzare supponiamo la vita non c'è ma era abbastanza chiaro comunque torniamo al suo aspettativo di cercare di dire la verità sì certamente ma la posizione del imputato era abbastanza netta su questo punto torniamo al suo soggiorno a Roma lei si trovava a Roma sì che cosa fece a Roma con chi prese i contatti io prendiavo un certo fratone Duilio Duilio fratone sì e Franco De Gallo come l'ha conosciuto il suo lui lui conosceva un ristorante veniva a mangiare un ristorante al convento e trovavo Aindo che era in compagnia di donne parlano di Picio era in compagnia di donne lui sì io no perché io venivo sulla famiglia ma poi lui era in compagnia di donne sì e fece una conoscenza fratone una conoscenza casuale casuale nasce io dopo e mi disse come ti trovi qua parlano di romano il siciliano è bella battuta che c'è i bambini di romano ci siamo trovati per vacanze e dopo ci siamo a parlare circa la casa e dopo avete cominciato a parlare circa una casa di abitazione circa abitazione lei sì noi circa un'abitazione io mi portavo la sua casa mi poteva dare aiuto c'è se qualche real lo posso fare a Roma era difficile trovare casa lui lo portò a casa sua e lui lei gli disse che gli poteva fare qualche regalo se l'avesse facilitato a trovare una casa a trovare una casa quando io arrivavo a Roma io mi fissi trovare casa sul ratone quando lei arrivò a Roma dopo un due c'è mese trovavo casa sì era a Roma trovo casa tramite questo ratone trovo casa che significa che lei acquistò un appartamento no no mi trovo a casa come un affitto in prima partenza in secondo tempo trasevo per accattarla ma in primo tempo come affitto quindi in un primo tempo invece trovare una casa che lei ha preso in locazione direttamente o tramite tramite sempre il fratone un vecchione che conosceva a noi mentre ci fu a trovare la casa e ci cavavo e accattavamo una macchina però io la macchina ci cavavo per accattare la casa che a Roma perché la macchina non aveva c'era un salone autoteolata un salone vicino piazzale c'era l'autosalone grande via e comunque da me mi fece a cattare un 127 e su 127 dopo c'erano tante macchine tagate Napoli era l'amico di fratone un bacione c'erano tante auto tagate Napoli ah tagate Napoli e a me mi ha dato un po' di impressione si mangia tutta Napoli e d'Arinzi e dopo ho capito che i due bacioni e le macchine commerciava in tante cose in questo punto incontri a Franco Di Carlo nell'autosalona Franco Di Carlo nell'autosalona ci si riesce con si riesce siccome lui prima era capo la famiglia era alto fondo per fattore dei soldi che aveva manteneva tutti i conti la famiglia ci si sa che cosa è che era alto fondo e ci mi sono offrati anche era stato posato era stato posato perciò io quando vitte ci continuava a incontrarlo se no ero un mio avversario non ci continuava ma il fatto che fosse stato posato tra virgolette a lei le diede aiuto a me aiuto ecco fiducia era fuori se era attaccata la famiglia subdominavo però lui le disse che era subentrato al suo posto nella carica di capo si c'era il fratello Ancea Andrea si io lo conosco personalmente allora a quel punto se parlò loro ha tentato me infatti che avevano su Cias perciò ma lui non faceva più né patta né comandava allora c'era bisogno con il mano l'aiuto perché c'era menzassato aveva prenduto tutto un palermo e lui messa con il mano la mano che cosa sarebbe c'era come c'era una partita una partita di acis tu sai dove metterla poi hai la disponibilità per me c'era casa non ce la metto c'è io famiglio non ci metto acis ci siamo un pochettino e mi si retta da fare io aspetta un attimo prima di questo lei in sostanza aveva questa casa in affitto e c'era pure un terreno no la casa è singola la casa è singola la casa era singola il terreno è venuto dopo quando si parla l'asce c'è il capo terreno intanto quando lei prese questo questo impegno col di Carlo lei dove contava di nasconderla la sua partita di acis a casa mi guittava sicuro e come ho fatto non ci guittavo ci sarà me tempo che vede ah ecco gli chiese del tempo per poter trovare un luogo dove nascondere questa droga a casa era elementare con ci guittavo all'altro punto vicino a me aveva casa io c'era un fioraio grandissimo c'era un fioraio vicino a casa sua di fronte a casa mia dove abitava lei e c'è qui c'è un pezzo di terreno allora lui mi indicò c'era un sanzale di terreno e mi ci accompagnò lei sa si ricorda come si chiamava questo fioraio non lo so ma ancora è risultato la mia ghiatti di Roma ci sono ci sono nome e cognome risultati e chi ne aveva una amicizia e lì chiese notizia per sapere se poteva trovare un pezzo di dato che giravano tante campagne da comprare sì da comprare perché richiantavano piante dove vaio venneva piante e richiantava perciò ne giravano tante campagne e il fioraio il fioraio mi insegnò mi face conoscere un mediatore poco vicino alle case andando nel suo sanzale noi mi siamo alla cecca di terreno noi ne giravamo di queste proprietà però sanzale voleva la pecciontola abbastanza bene i romani la pecciontola era buona io mi sa girare quando mi sa girare ho vincito tanti punti se non mi interessa più se ne vanno assai piccoli perché cosa e se levo sanzale ragno inescerà la pecciontola come infatti mi rinesci lei prima si serviva di questo sanzale per vedere conoscere e poi siccome la percentuale che le veniva richiesta era molto elevata e la poteva evitare disse di non avere più interesse a questo punto ci si è caro e tanti piccoli laio mi ritornavo e mi aveva portato e mi fece un nome Rupagione che negli atti Roma risultano telefonavo Rupagione ci si senta vorrei per questa proprietà perché Rupagione aveva una persona di fiducia che lui mi aveva terreno mi ha detto Rupagione e telefonavo ci fece un appuntamento con Rupagione e gli va bene la proprietà cioè col padrone di questa proprietà la proprietà si prese un appuntamento prendiamo un appuntamento e abbiamo andato a chattare perciò altre gente mensipere non c'è nessuno per la proprietà sono diretti facciamo la proprietà per 220 milioni avete stabilito un prezzo di 220 milioni 220 milioni dicembre non ce l'ho dato subito 10 milioni no quel giorno ma quel giorno e 100 milioni ci consignavo quando lui mi consegnava la proprietà lui voleva tempo per consegnare mille la più lontana la proprietà perché ne aveva mannare auguratolo che lui ci badava dice se no io l'avevo bisogno di ruggienza come infatti lui mi anticipò a dare mille e ci aveva dato 110 milioni a consegnare mille e ci aveva dato 110 milioni 110 ce l'aveva dare fra 4 mesi insomma le consegnò di sostanzialmente la metà subito se la proprietà io ci asive in possesso aveva che abitava là 7-8 giorni con Franco di Gallo non ne parliamo e mi portò a gioco e la messa in campagna non in casa in campagna sempre sì che cosa le consegnò il me la consegnò un c'è col più due cilindri di plastica robberone depuriamo un inizio di plastica siccome da una casa non è capace che aveva metterlo non abitava la famiglia a me sembra un campagna era sapellevo sotto a terra un apetito un sacco ci ho lasciato puita di mano perché il giorno si puita però se parlava quando fu fatto solo riuscire invece in mezzo il collo principale c'era un haine e c'era un chilo di morfina bassa lei queste pacche non le ha persa no eravano una buzza completa tu io avevi tutto l'ascio e ci ho messo nei beroni di plastica ero messo sotto a terra cioè l'ha seppellito sì ma il buzzone che lui se lo portava un giorno o due giorni era messo in mezzo una macchia senza seppellito un collo ah una parte nascosa domani dopo non ho ogni appiglio perché praticamente le consegnò tre colli tre colli più riusci l'entri di plastica robberone e monnizia e due sacchi come ha detto perché io non robberone e monnizia di plastica sì io non ho percepito due secchi due sacchi no robberone di plastica ah bidone di plastica quindi dei bidone di plastica nel bidone di plastica ci ho messo un'ascio e tutto da rinunci l'altro rimase un altro collo che era portato di mani insieme ma anche una giornata due giorni su quittà una giornata una giornata in uno o due giorni perciò non l'abbiamo manco seppellita a quello non l'avete seppellita e le armi dove si trovavano come le armi insieme nel blocco insieme insieme c'erano colle che rimanero i fuori cioè dentro i colli sì dentro c'erano quelle le confezioni ma lei non aveva notizia che queste armi erano state messe insieme con i colli no io delle armi non ne sapeva niente perché se faccio le armi io in cilazzo manca a faccia mi metto in altro modo o infatti io le ho lasciato io interessavo abbrugare l'asce perché se faccio ci sono l'aim mi lascia mi metto da parte dopo mi dice il romano dopo non mi vieni a piglio non aveva problemi e manco ci va a tale arco che si rappeva dopo se vero che era una foto che figura faceva questo appartamento che lei aveva affittato poi l'ha successivamente comprato no non è arrivato a comprarlo ci avevo dato circa 50 milioni ma non è arrivato a fare l'affare come fate su piglio la banca a finire già mi dice appartamento che ho ricordato una roba particolare trovando manovara trovando sì trovando manovara ritorni indirizzo nel carcere questo appartamento il patrone voleva portare i miei fuori voleva portare i miei fuori voleva portare i suoi fuori i suoi i miei fuori e io ne avevo non da caita allora dato che a Roma c'era il signor Calone parlavo con il signor Masino Spadaro c'era il signor Masino così così ora ci penso io domani vanno per più Calone però mi piglio per fissa non ne fici niente comunque questi erano i ringraziamenti l'amici questo è un particolare molto compreso nel suo signor Masino che aveva parlato con il popolo che l'ho che non mi fai per fare la famiglia fuori ma piglieremo con buona ancora mangiare di me che era un amico dunque allora ripetiamo questo discorso ripetiamo questo discorso cioè sì glielo facciamo ripetere all'imputato sì ecco un po' più lontano dal microfono e più lentamente hanno aumentato forse parlando più vicino si vabbè si allontani così e ripeta questo discorso del carcere di Novara mentre lei si trovava a Novara nel carcere di Novara il ferroietanto particolare sta ricordando questo particolare sì con pagione della casa noi avevamo un'ulta caita perché la caita l'aveva il signor Fratone ecco la mia domanda lui ha precisato che non aveva nessun documento e né di affitto né di compra né di affitto né di compra ma lei già gli aveva dato un anticipo sì ma io c'era rincia però affacciava il signor Fratone il signor Fratone il signor Fratone l'aveva ammazzato perciò non aveva un'ulta caita perciò se mi cava fuori era regolare perché io non ricevo ceretti piccoli e lei seppe che il padrone dell'appartamento voleva estramettere il carcere di me familiare i suoi familiari buttar fuori i suoi familiari sì a questo punto io ne parlo con il signor Massino Spadaro a Novara a Novara c'era detenuto pure Massino Spadaro sì però siccome c'era un particolare che tutta la cella mia c'era da nello fidanzato nella cella di fronte c'era Massino Spadaro io dovevo fare una società ne potevamo parlare perché altrimenti non ne potevamo parlare allora fa presente che non era nella stessa cella come invece era lui era nel pian terreno e io era al primo piano sì perciò era una cosa pubblica e ne parlavamo sì come erano altri che erano nella sua cella no erano tutte cella singola sì col fidanzato si poteva parlare lei poteva parlare perché era sotto la mia cella perché era sotto invece no il contrario col fidanzato poteva parlare anche senza l'ora sociale perché era sotto no la società non ne potevamo fare mai signor Presidente loro ne hanno il pian terreno era il primo piano la società la fa io non la potevo fare la potevo fare con chi è il primo piano la società fra loro io la potevo fare con chi è il primo piano oh e allora lei ha parlato e quando con il Tommaso Spadaro quando mia moglie era collocco e mi disse guardo una casa e ne volevo leccare fuori allora ci disse c'è il suo problema cose cose sono giunto per occupare con la ciumana di capito a Pippo sarebbe signor Calotto però questa era per tenere Merovici lei ha parlato direttamente con lo Spadaro sì durante l'ora sociale sì durante l'attività sociale loro come parlavate con lo Spadaro no per favore signor Presidente io ero a primo piano io ero a primo piano per loro a primo piano socialità con chi di pian terreno non se ne faceva non tenere e manco si avvallare insieme lo Spadaro dove era Massimo Padaro era sulla terza e Tanino Fidanzato era sulla sinistra lui iniziava la sociale e si inflava una cella di Tanino Fidanzato Tanino Fidanzato la cella l'aveva sotto e mia io ero a primo piano perciò la fine se ne parlava oh insomma finalmente si è chiarito sostanzialmente lei non avrebbe mai potuto parlare con lo Spadaro perché si trovava in una cella con la quale lei non poteva a voce con Massimo Padaro ci parlavo due volte dopo per chi va a finire sulla cella ridò che era a quattro o a cinque numero e lui va a fare la società con un politico perché c'erano tutti politici e due politici parlavo qui perché lo Spadaro sostanzialmente se ne andava nella cella del Finanzato e allora lei poi da sopra a sotto o viceversa il Finanzato andava da o viceversa perciò io dovevo canciare e parlavate così a voce la voce la raggiungeva dalla finestra naturalmente sì non ci aveva mai detto parlare mi pare che questa è stata chiarita sì ma siamo perfettamente d'accordo comunque pensavo che si potesse che si fosse un viaggio comunque vediamo se io credo che questa volta sia un po' più lontano dal micro adesso si è allontanato adesso si è allontanato prima si sentiva va bene non so forse l'aumento del del volume ma io sì va bene d'accordo ma Presidente stiamo riproponendo un problema vediamo se possiamo migliorare non abbiamo risolto venerdì proseguiamo nell'intero abbiamo risolto comunque cerchiamo se è questa la zia lei io sto ripetendo parola per parola quello che ha detto e io penso che questo sia dunque quello che dico io lo sentite io non ho fatto altro che tradurlo quello che dice l'imputato perciò mi pare che sia avvocato non cerchiamo di no al suo posto ma se io vi sto traducendo quello che dice l'imputato e ripetendo poi guardate non è che possiamo noi ma per favore non esaspeghiamo le situazioni Presidente che dice la facciamo interrompiamo questa interrompiamo questa non vuole interrompere questa queregla Presidente io mi pregherei di non polemizzare perché l'unico scopo che si ottiene è quello di interrompere l'udienza è il contorno che parla nel modo che gli è comunque cerchiamo di se volete avete capito qual è la tecnica con la quale si è parlato hanno parlato con lo spadaro oppure no ma l'ho detto io questo qua quindi mi pare che l'avete capito perfettamente dunque il fratoni fu ucciso e lei che pensò dopo l'uccisione di fratoni io che posso dire sull'omicidio di fratoni che mi amputarono pure a me e c'è se figure cosa potete lei è stato imputato mi amputarono mi amputarono a me l'omicidio di fratoni e nel struttore mi sono assolto perché non avevo nessun riconcio in merito del signor fratoni che poterò ammazzare se parlate veramente non si sente abbocato alberini per favore non polemizi volete avvicinarvi il giornale sicilia però riesce a stenografare quindi è veramente ma poi ci sono le descrizioni fatte dai periti se è per questo comunque andiamo andiamo per gravi non credo che lei avvicinando si sente meglio avvocato buonsignore non dovrebbe perché ci sono gli impianti di amplificazione comunque se volete mettervi più vicini ma boccetta è stato sentito e parlava in maniera diversa e si sentiva perfettamente ma è seduto abbastanza avanti non è in fondo all'altra parte altrimenti non avrebbe più motivo di esserci allora dovremmo toglierla ma là dove no per questione di sicurezza deve stare dove semmai possiamo cercare di farlo girare un pochino come devo girare ma no perché altrimenti poi sarebbe continuiamo con l'interrogatorio presidente dunque possiamo riprendere e vediamo un pochino non dobbiamo poi esasperare le situazioni se contorno evitasse anziché fare una rappresentazione però ci sono delle cose che si capiscono perfettamente ma è perché si vede che alle volte parla meglio anche per me certe volte può essere difficile comprendere dovrebbe parlare più lentamente ed evitare di mangiarsi le parole evidentemente è un modo di pronuncia che non credo che sia una cosa molto che si possa comandare così comunque cerchiamo di parlare più lentamente e io la farò ripetere fino a che voi non sentirete quello che dice l'imputato va bene? però se qualcuno non capisce alce la mano che noi glielo faremo ripetere fino alla nausea finché voi lo sentirete va bene? avvocato Bonsignore la prego si sieda si sieda no avvocato Alberini lei mi scusi ma avvocato Alberini polemizzando in questa maniera dunque otteniamo l'unico scopo di interrompere l'udienza in questa maniera Presidente no no ma chi lo dice questo? dobbiamo fare finta che avvocato Farina scusi non no ah che non ha detto l'avvocato Alberini guardi va bene l'avvocato Alberini è pregato per favore di non polemizzare e comunque anche gli altri avvocati di cui non ricordo il nome e sono obbligati di non va bene io non posso percepire quello va bene offendono lei o l'imputato scusi offendono lei o l'imputato perché io non arrivo a l'imputato va bene va bene dunque dunque il fratoni fu ucciso e lei ripeta lentamente che cosa mi ha detto sull'omicidio del fratoni che era stato imputato me l'hanno imputato signor presidente lo hanno imputato e dopo in istruttore fu assolito in istruttoria è stato assolito vabbè però a seguito dell'omicidio del fratoni lei ebbe qualche preoccupazione appunto di poter essere perché lei era latitante di essere arrestato e quindi pensò di allontanarsi in questo periodo quando è successo l'omicidio del fratone mi allontanavo dalla casa di Roma dopo a metà si è allontanato dalla casa di Roma non è che a metà perché essendo già che lui aveva fatto trovare la casa io ero ricercato e sono arrivato la polizia a cà in maresi lei pensò che ci fosse un collegamento che si potesse poi trovare dalla polizia tra lei e il fratone e quindi ci ha messo la casa e me l'aveva fatto pigliare il attraverso il fatto che la casa e mi allontanavo da Roma e si è fermato mi allontanavo da Roma e mi nevo nel Vicenzo Grato che sarebbe mio cucino se mi dava per l'età se ne è andato dal suo cugino Vincenzo Grato se ne è andato dal suo cugino Vincenzo Grato per avere ospitalità dove era questa villa era a Varese a Varese anzi preciso quando io venivo nel mio cucino c'era un altro che mi accompagnava un certo Zebetta Alessandro un padovano che conosciva una casa di Fratone che ci commerciava pelle pantalone si riusciva a fare il manente questo Zebetta le ha fatto delle confidenze particolari questo Zebetta parlando mentre si camminava parlava che aveva un metodo come poter fare arrivare la cocaina in Italia aveva un metodo per consentire per fare arrivare la cocaina in Italia e lui mi parlava di un capitano di una nave che parlava di un capitano di una nave non era un pilota come ci ha messo nell'interrogatorio non nei cait non nei cait l'ultima cait del via giudizio via di segno c'è messo un pilota era un capitano della nave e messo che lui aveva il suo metodo per arrivare la cocaina in Italia se a me mi interessava ma io ne ero e ne pitiava la cocaina e manco ne trattava e qual era questo metodo? ne metteva in tre bottiglie con l'acido dentro le bottiglie? con l'acido quale acido? messo con l'acido ci metteva un prodotto acido perché non so che prodotto era e poi evaporava? e passava senza diciamo controllo era più facile poter passare ma io il fattore nel che io trattava cocaina questa inversione l'aveva lui perciò la satana era ben lasciata e mi accompagnò questo zerbetto mi disse questo è particolare ci si va bene vedi? lei andò a Varese andò a Varese e ci usiamo questo zerbetto a Alessandro ci ha fatto conoscere la mia cucina arrivando tu sai come ci si ammazzava uno che era un mio conoscente ora venne la polizia a casa mia se tu mi puoi fare la mia ha ammazzato una persona che era suo conoscente venne la polizia e dice sicuramente se tu mi puoi fare la mia una parola in acqua se tu mi puoi fare avere mi puoi fare una parola in acqua dormire un paio di giorni ma tramite la mia posizione che aveva avuto attentato e cosa dice mi voglio mettere in piccina quindi quindi il suo cugino grado lei rifiutò l'ospedale parola povere lei rifiutò lei rifiutò e io ne condivido perché non si fosse mettere nemmeno in pace perché mi aveva ammazzato tanta gente aveva pure ragione lì nella villa di questo grado lei vide qualcuno che conosceva nella casa di grado vitte una paia di pittori e un d'agostino rosario che fa pure pittori stavano una casa in costruzione stavano fanno dei lavori vide un paio di pittori un paio di persone una delle quali è il rosario d'agostino che fa io per pittori una delle quali era il rosario che stava dipingendo la casa e questo rosario d'agostino c'è un precisore e c'è capace i romani nascendo ma c'è il trus d'agostino tramite la moglie è parente mio è cugino di mia moglie perché d'agostino è cugino c'è una moglie pure lombardo carmela lombardo carmela che sarebbe la cugina di mia moglie pure lombardo carmela cugina di sua moglie c'è una lontana c'è un precisore e c'è capace il romano dice ma perché un ricizio c'è l'amicizia la parentela con il sud d'agostino rosario e fa un pettura e si trovava in quella casa di là il grado Vincenzo tutto là il grado Vincenzo le disse che aveva questo d'agostino che si sentiva no l'ho visto l'ho visto lei personalmente è mio parente era là ci doveva petturare la casa il periodo dovrebbe poterlo facilmente individuare perché praticamente subito dopo l'omicidio del del Duilio Fratoni che mese era nel periodo voglio dire se si ricorda il mese è stato un giorno di 11 però non ci so dire il mese ricorda il numero del giorno per il momento non ricordo è stato il giorno 11 però non ricordo ricorda il numero del giorno il giorno è stato all'82 è stato nel 1982 è marzo è marzo c'è le carte e lei è stato arrestato nel marzo io sono arrestato io sono arrestato scusate io sono arrestato il 24 marzo però l'omicidio fu all'11 marzo è poco tempo perché io c'è il cavallo di riminere tra l'11 e il 24 no l'11 successo l'omicidio sì e ho 24 dico il giorno 11 e il 24 il 1982 l'ha detto 1982 lei sapeva che nell'11 gennaio 82 era stato ucciso da Agostino Ignazio che era il padre di Agostino Rosario l'ultimo momento che succederò un palermo tramite televisione tramite radio tramite qualche parente sapeva tutto ma diciamo che succederò un abricato un palermo chiese spiegazioni al D'Agostino Rosario avete parlato di questo omicidio no non ne parliamo perché i giornali ne portavano tante fesserici che travagliavano mia ma cattavano torriano cioè praticamente i giornali spesso dicono delle notizie che non sono che cosa intende dire no ma proprio le cose fatte diceva che travagliava con me suo padre suo padre era un cristiano pensionato fuori del mondo di cose nostre ma pure il D'Agostino non c'entra niente di fatti miei perché il D'Agostino è che è un modo onore o fa parte a cosa nostra D'Agostino si fa un sottravaglio fa un pettone era amico mio perché siamo parenti amico di mio cugino Grato ma non è che è infilato in mezzo di cose nostre non è un uomo d'onore non è un uomo d'onore neanche fa parte di cose nostre evidentemente è una persona pulita l'hanno messo perché era vicino a Grato perché era vicino a Contone ma noi siamo parenti ma tutte altre cose non c'era niente D'Agostino quindi voi in quella villa di Besano non avete avuto occasione di parlare di questo omicidio abbiamo accennato il risobbaggio della morte del padre ci ha fatto i condolianzi ci avevamo a dire soltanto ma non avete messo in relazione con i fatti di quello ma è in relazione le fesserie dicevano il giornale ah erano i giornali i fesserie erano i giornali che riceveva il suo padre che lavorava con me aveva proprietà ma non era vero niente vero perché il suo padre era sentato a bar e poi aveva a bar e casa e il suo padre e il suo padre e il suo padre non dava una interpretazione della morte del padre la interpretazione perché lui era vicino a noi era parente ci ha ammazzato il padre per situazione ma non c'erano in disostanza ah quindi avete fatto l'hanno ammazzato il rinocente l'hanno ammazzato sì ma avete fatto questo accendo abbiamo parato il suo quattro valore così perché ci aveva un maggior po' questo ci aveva parlato ancora il suo padre era una cosa ridicola allora lei visto che il suo cugino le chiuse la possibilità di abitare presso di lui che cosa avvece ritornavo ritornavo come quando ritornavo venivo nella casa che avevo vigliato dicevo nella campagna a tre quattro giorni ma rischiava tutta la famiglia a me tutta la famiglia ecco quindi fu arrestato sì tornò a Roma e fu arrestato e due o tre giorni che fu arrestato quindi degli stupiofacenti che furono trovati lei ha già detto si ricorda quanto erano non so se l'ha precisato poco fa quanto era quanti chili di asci ma era 120-130 kg non ricordo 140 140-150 era messa nel valore è messa dentro neanche sono cose che mi interessano nella memoria e c'era pure eroina si parlava di eroina però quando io appunto il processo proprio per questo mandato di cattura di stupiofacenti ci hanno fatto perizia cala che era morfina base e questo risulta nel rapporto un processo che pigliava la Roma anche i ruriciani e lei ha subito un progetto per questo pigliava i ruriciani e mi hanno dato l'associazione pigliava l'associazione mafiosa o traffico e pigliava i ruriciani e sono fuori i ruriciani perché la cadenza è in me ne escivo dei 12 anni non sono detenuto per Roma io sono detenuto solo per Palermo per questo prefetto perché lei fu condannata a 12 anni e per scadenza termine ne escivo ah e per scadenza termine poi è uscito perciò io di Roma sono solo in caccia per il suo fattore di Palermo e a Roma fu condannato per l'associazione per delinquere mi rettono tutti ci mi sono tutti tutti i reati perché non sono stato creduto a niente ai fatti e ci mi sono tutti comunque siamo qua non è importanza va bene non è importanza siamo qua dunque lei ha parlato anche di Giovannello Greco e Pietro Marchese sì che cosa li conosceva queste persone? era Pietro Marchese che fagliava parte di Michele Greco Giovannello Greco fagliava parte pure a Michele Greco cioè di quale famiglia erano? di Ciaculli erano omero d'onore di Ciaculli sì e come allora è avvenuto questo omicidio del Marchese Pietro? il Marchese Pietro c'è stata fuci in giro che erano tra ritori di Michele Greco perché era un amico a Stefano Ponto è tutto giunzerito lo Michele Greco ha cercato di farlo ammazzare allora si è piaciuta di tutto il ruttopare il Re Palermo e il Senere ha riuscito a una frontiera e gli era finito a Ciaculli a Milano in questa ricerca lo signor Michele Greco quando ha chiuscito a riuscito a riuscito a Milano a riuscito a riuscito a riuscito a riuscito a riuscito a riuscire a Milano cercava un carico all'avvocato Chiara Cane interessarsi e non guardare i limiti di piccio per farlo in esce l'avvocato Chiara Cane è pure un uomo d'onore la famiglia lo costa di milano subito setta da farlo però appena appena nisce subito c'era più tutta la notizia al signor Michele Greco per le manalle cosa che non avvenne perché un giovanello greco nisce io a Milano e non arriva un palermo ma è chi si arriva un palermo e lei sa fa finire che facciano che ammazzare un caccio sì ma erano amici effettivamente il Marchese Pietro e il giovanello erano cognate erano cognate fra loro erano cognate sì erano cognate fra loro perché aveva una sola di giovanello greco si aveva pigliato a Pedro Marchese ma erano in rapporti di amicizia con l'inserillo sì si era un inserillo con bontà li vedevo tante volte eravamo a portata di mano li vedevo tante volte a Gianconciato sia da inserillo sia da bontà erano buoni amici avevano qualche società pure e sa se questi se il giovanello greco in particolare ha fatto un attentato alla vita di Pino Greco si è pazzesco ma che ci sono tutti i chiacchioli che fanno i signori con leonisi i chiacchioli che camminano le lecce anonime non si è preso andano qua a nuova anche a dire fai mi confronto facendo fanno tutte le lecce anonime ora il giovanello greco ci ammazzano parli ci ammazzano ci ammazzano tante gente perché manca una vita dei chiacchioli perciò lei pensa giovanello greco uscino in monaglia giovanello greco appena vede ne ammazzano tu e gli è perciò sono fantasie che giovanello greco fice attentato a Pino Greco questo sarebbe stato all'82 all'83 non esiste sono fantasie chi è l'imputato ah legge facciamo ci sento ci sento degno con leonesi non facciamo polemiche con leonesi intende non parla senta lei quando parla aspetti legge aspetti aspetti legge lei quando parla di con leonesi che cosa intende quelli che sono nati a con leone come quando aspetti dico quando lei quando lei vabbè legge io faccio il presidente e le dico di stare il sito con leonesi che cosa intende dire ma la botto c'è lei signor Luciano legge no no per favore facciamo stare questa espressione non le dobbiamo non le dobbiamo dico quando lei parla di con leonesi che cosa intende le persone che sono nate a con leone tutta la guerra che ci troviamo ci troviamo questi signori con leonesi la ripeto ma aspetti no non è questo quando lei parla di con leonesi parla degli abitanti di con leone o di persone no no io parlo dei signori della mafia non i con leonesi generali io parlo di con leonesi che ci sono parlati nelle strutture della mafia ci sono gente buona a tutti i paesi in tutto il mondo del paese c'è gente buona brutta e cattiva io parlo di con leonesi mafiosi ci sono gente per bene come tanti altri io sto dicendo tutto il paese di con leonesi io sto dicendo i con leonesi che sono parlati nella mafia punto e basta sto parlando di persone particolari che sono che sono dentro la mafia qui sto punto e me come quali sono queste persone e ne ha fatto il nome ha fatto pure il nome del ha fatto il nome del ora gliele chiederemo uno per uno sia tranquillo avvocato Filesci si e poi le potete fare anche voi le domande invece di interrompere il corso dell'interrogatorio già mi pare che ce ne sono abbastanza interruzioni il fatto è che poi gli chiederemo persona per persona ma per ora lui sta raccontando dei fatti e fa degli accendi ma dico da un giorno all'altro è che si è verificato questo perché prima tutti capivano perlomeno quello che dicevo io nessuno mi ha mai detto che non si capisse ora durante la sospensione cercheremo di c'è un rimbombo c'è un particolare rimbombo ora durante la sospensione cureremo di riguardare questi apparecchi dunque Nicola Greco Vincenzo lei l'ha conosciuto Nicola Greco Nicola Greco sì questo è scomparso è scomparso sì di che famiglia era? era René Michele Reaco Ciacolo vediamo un po' dunque lei ha conosciuto Abbate Giuseppe chi? Abbate Giuseppe sì è uomo d'onore sì di quale famiglia? Reboettano Abbate Giuseppe come? Abbate Giuseppe non Baldi Abbate Giuseppe Abbate Roscella Corso dei Mille Corso dei Mille e Roscella lei fa una differenza tra Corso dei Mille e Roscella? è contenazione sono borgate appoggiate uno con l'altro ma la famiglia è unica o sono due famiglie? diverse sono non è unica ah non è unica? perché c'è tutto Corso dei Mille forse mai chiese e dopo comincia il signor Penuzzo Abbate e quindi chi sarebbe il capo della famiglia? Penuzzo Abbate Penuzzo Abbate ah Penuzzo Abbate di Roscella di Roscella e Abbate Giovanni e il fratello e il fratello pure della stessa della stessa famiglia uomo d'onore lei come l'ha conosciuto che sono uomini d'onore? come? come ha saputo che sono uomini d'onore? ma prima lo conoscevo quando io non c'era ancora uomo d'onore i conoscevano accattando mannarine ciacuti giardine e croceverde e via di seguito dopo quando io diventavo uomo d'onore l'ho avuto pure presentato e Giacomino con il chiaro di Roscella che pur nasce in questa famiglia sua Giacomino con il chiaro con il chiaro sì e questo c'è la proprietà di Ciacolo Argano Filippo lo conosci? sì è uomo d'onore? sì di quale famiglia? con il soremmeno sempre presentato da sì lei si ricorda qualche particolare per quanto riguarda Abba e Giuseppe sì in merito sì io volevo precisare prima di dire la domanda che mi ha fatto lei signor Presidente sì tutti questi chiamati uomo d'onore hanno un'importanza molto grande non è perché uno è sui dato o perché è capitano o perché è cliente anche un soldato fa parte della cosa nostra è buono pigliattare una persona quando anni esce quando sa ammazzare tutti questi uomo d'onore fanno tutti i paesi hanno distinto perché uomo d'onore è finito la carica hanno tutta la stessa responsabilità che abbiamo tutti il ruolo sonico questa è l'associazione che abbiamo noi la cosa nostra a merito per un sabato vicino fra non ci è arrivato il territorio ridio vicino al territorio solo il territorio ridio non ci arriva c'è un capannone che importa ripacchi collettami è una inata a rubaro sul deposito quando è a rubare il suo deposito gli venivano a sapere che erano ragazzi di Fasso Mello ebbene il signor Ponozzo Abate e Giacomino Conigliaro ne si fanno bontà che ci hanno rubato il suo capannone per darsi da fare per poter trovare le sue cose per darsi da fare e ritrovare quello che era stato rubato e così è stato fatto e si è ritrovato 10 mesi 9 mesi si fanno bontà e compagnia perché una volta lei rappresenta questo fatto? sì una volta sostanzialmente si facevano queste operazioni ma si facevano fino a prima della guerra si succedevano e si facevano le denunze succevano delle cose gente brave le denunze nei calabriani non c'era venivano in oaggio hanno una famiglia rubano la macchina rubano la casa rubano il magazzino e si cercavano le cose e se qualche volta si puniva pure qualche persona che gli aveva affare si puniva si puniva si puniva come? ma si puniva se ci poteva dare legnate se ci poteva rompere una amma dopo se continuava ancora si ammazzava una punizione più o meno grave che andava dalle bastonate prima no all'uccisione se era un primo caso un secondo caso si manteneva ma se era uno che continuava non c'era il campo moriva ecco si dava una una lezione un preavvertimento un avvertimento oltre il quale si conteneva ancora va bene Alfano Pietro lei l'ha conosciuto? Alfano Pietro no no lo conosco personalmente non lo conosco? lo conosco personalmente si si ma l'ha riconosciuto anche in fotografia si ma io ci sto dicendo lo conoscevo personalmente intanto l'ha riconosciuto in quanto lo conoscevo personalmente ed è un uomo d'onore? si si di ci aveva dei legami particolari questo Alfano Pietro ha detto Pietro anzi voglio precisare il metodo Giovanni Locascio ho fatto un po' di confusione Giovanni Locascio non appartiene al costore Mille ma appartiene alla famiglia Giuseppe Sauca Brancaccio nelle mie dichiarazioni c'è un po' di confusione si Giovanni Locascio appartiene alla famiglia di Brancaccio di Brancaccio si eh vabbè c'è tempo basta silenzio silenzio lei sarà ispulso no lei sta a sito va bene il confronto lo farà quando ti riuscirà la corte questo e non è già un confronto il fatto che sta parlando silenzio ma a me basta silenzio ma mi mettete ma perché dovete fare in questa maniera eh non c'è più a voi che agli altri silenzio dunque Argano Filippo l'abbiamo parlato Argano Filippo ne ho parlato di Argano Filippo non c'è dunque o si fa silenzio o siamo costretti a reintervenire sì e infatti lo facciamo parlare avvocato eh i suoi ragazzi la prego signor Presidente signor Presidente il padre signor Presidente eh chiedo la parola sì se mi dicono quando da me è a banniaita perché io no signor Presidente lei gentilmente è da Presidente deve essere Presidente se a me mi dicono quando da me quando non ce ne ha niente ci sono allora c'è la banniaita no 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 basta e allora gentilmente lei non mi faccia le parole perché io ci dico a me contorno no è un discorso che dobbiamo fare da uomo signor Presidente guardi se lei io ce ne rico e non mi non ha detto se mi dice non ce ne rico signor Presidente no dobbiamo no sta dicendo semplicemente che lui replicherà alle ingiurie perché non si capisce perché c'è questo rumore siccome l'hanno qualche volta insultato gli imputati e naturalmente dice che lui replicherà questo sta dicendo non è niente di importante mi concede l'ha capito quello che dico io allora mi pare che si possa procedere dunque di Argano Filippo le ho chiesto io di Argano Filippo perché poi con questo Argano Filippo lei lo conosce Argano Filippo sì Argano Filippo è un uomo d'onore sì di quale famiglia Corso dei Mili Corso dei Mili Adelfio Francesco invece lo conosce sì sempre come è un uomo d'onore sì come l'ha conosciuto una vita che ne conosciamo con il uomo segreto insieme e come ha saputo che lui era un uomo d'onore perché la sua famiglia è dipendente dalla famiglia di bontà dicevamo io era una famiglia Nino Succe perciò quella famiglia appartiene a bontà Nino Succe sì Nino Succe sì Succe e quella famiglia era appoggiata alla nostra perciò sono staccio chi? sono staccio se può collocarlo nel tempo questa presentazione quando è stato presentato se gli avvocati vogliono fare domande io senz'altro specialmente su questa nucleazione di nomi eccetera alzate la mano che io vi do senz'altro il microfono perché mi pare che sia più consono fare una cosa più omogera anche perché voi potreste tra parecchi giorni non ricordare più le domande quindi mi pare giusto perché evidentemente si faccia un un dibattimento l'imputato credo che sia stanco che fa sospendere un po' sì ma tra l'altro a prescindere dalla no 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 facciamolo rispondere sì ma bene questo senz'altro avvocato ma io non so mi pare che se ci stiamo conoscendo proprio adesso che motivo io di sospendere la domanda no no il diputato può rispondere benissimo alla domanda cioè se lei ricorda in quale periodo può essere avvenuta questa presentazione 78-79 78-79 nella casa rossio nella casa rossio in campagna ammogato fileci mi dia il numero che le do la parola violento però non sia così violento no non ero preparato mi scusi presidente ha detto 79 78-79 78-79 benissimo senta presidente il signor contorno ha accusato adelfio mario di essere esecutore materiale di quattro omicidi conferma questa accusa tutti i gruppo che c'erano hanno ammazzato la mia mutarese c'era pure il nepot sì conferma cioè conferma che ma l'ha già confermato questo se non ricordo male io posso anche sbagliare eh ripetita Juvent presidente lui riconferma che adelfio mario era presente nel baglio di quello che mi ha portato mario marchese il prossimo ha fatto sono quello conferma aspetta non corra io faccio la domanda al presidente e lei risponda al presidente lui quindi conferma che c'era adelfio mario secondo le notizie che gli aveva dato mariano marchese ha aggiunto adesso secondo le notizie che gli ha dato mariano marchese che all'udienza scorsa lui ha precisato avere incontrato benissimo presidente mi sta bene grazie va bene presidente mi scusi io avrei un'istanza da fare no non c'entra niente per un ordinato svolgimento dei lavori io sono d'accordo non è meglio che ciascuno di noi si accusa che difesa si appunti le domande e dopo che lei ha proceduto all'interrogatorio anche se si ritorna sul punto non è più perché altrimenti c'è troppo di soldi lo dico per io non ho nessuna difficoltà a dare la domanda ma lo so ma poi si crea confusione in sostanza scusate perché ci si capisca bene e anche il pubblico ministero se mi permette praticamente la questione sarebbe questa se la domanda è connessa alla domanda rivolta dal presidente io non ho nessuna difficoltà a dare la parola sia al pubblico tutte le parti si tutte le parti sia alle parti civili sia al pubblico ministero sia al pubblico così evidentemente facciamo in un unico contesto parliamo di un determinato argomento sempre connessa a questo numero 9 era una cosa di carattere generale per evitare che noi la si interrompa spesso con le solite domande noi vorremmo che chiedesse per ognuna delle persone segnalate come l'ha conosciuta dove l'ha conosciuta e possibilmente quando ma io questo glielo ho chiesto semmai dove semmai dove e quando perché evidentemente possiamo anche chiederglielo non c'è niente comunque a questo punto visto che sì un attimo solo che ah lei per la verità in questa cosa lei ha parlato di una di un nipote perché il Mariano Marchese quando le parlò le parlò della presenza di un nipote è vero e questo era sempre insieme con lo zio lo conosco personalmente questo perciò sarà vabbè dopo dica comunque dopo l'avvocato ci risponderò quando sarà il momento opportuno no 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 risponde adesso siccome l'avvocato dove l'ho conosciuto se sono sicuro non è che ho visto un pupo era una persona davanti presentata come d'onore no no del fattore del nipote siccome le fu indicato dal Mariano Marchese come ha detto lei ah quando si trovava ma siccome si parla di nipoti io parlo di un nipote non dei nipote perciò l'avvocato ha pure la sua ragione dice dei nipote ora dice c'era quella ma quella non c'era ho capito l'argomento ma lei quindi lei era sicuro che si trattasse di questo Mariano oppure di questo Mariano di questo Adelchio Mario di questo Mario Adelchio senti io non ho precisato né Mario e manco Franco io ho detto il nipote che sarebbe figlio di Salvatore la rimanenza non lo so sì invece non vorrei ecco sì però lei la notizia lei è come un nipote sì un nipote è come quello che c'era sempre in mezzo era uno sì ed era detenuto a pescare lei quindi non è che è una cosa di scienza sua ma che lei no non vedo niente le scienze va bene a questo punto il dipartimento viene sospeso e rinviato alle ore 15 ce ne andiamo posso andare signor il campanello non funziona sì dunque si sa atto si dà atto che si sono presentati all'udienza pomeridiana i detenuti di Giacomo Giovanni Leggio Leo Luca Leggio Salvatore Lipari Giovanni Lo Verde Giovanni fidanzati Giuseppe Spina Giuseppe Zanca Giovanni debbo dare inoltre atto che è pervenuta tramite la procura della Repubblica di Palermo in data odierna la dichiarazione del detenuto Marino Agatino di Alfio che è del seguente tenore è stata mandata al giudice istruttore signor Falcone Giovanni io ho sottoscritto Marino Agatino di Alfio nato in Catania il 4 7 1950 in alto detenuto pentito prego le signore vostre di volere esaminare quanto rispettosamente segue in considerazione il 10 febbraio 1986 è stato fissato il processo contro l'organizzazione mafiosa ed essendo che io sono un testimone avendo rilasciato precise rivelazioni e accuse verbali alla signora vostra sollecito e prego la signora vostra affinché mi venga ricapitata la citazione a testimonianza per riconfermare anche e soprattutto in pubblica udienza dipattimentale tutte le mie accuse rilasciate anche alla signora vostra e altri particolari che certamente fornirò nel corso del dipattimento illustri giudice Falcone le riconfermo quanto le ho scritto recentissimamente circa i miei propositi e i miei immovibili propositi miei fermi e immovibili propositi di ribadire tutte le mie accuse nonostante le recenti e antecedenti minacce di morte anche contro i miei familiari di cui la moglie mi sta perseguendo di cui la mafia mi sta perseguendo attendo fiducioso intanto lo seguio Marino Agatino avete è una lettera di Marino Agatino non si sente? ma insomma meno male che qualcuno si è Marino Agatino Marino Agatino è stata mandata il giudice fruttore che l'ha trasmesso certamente ci sono avvocato sbacchi mi dica ah c'è la numero 20 c'è un imputato che vuole parlare c'è la numero 20 signor Presidente chi è lei? io sono fidanzato Gaetano ah fidanzato Gaetano e vorrei se è possibile essere messo subito a confronto con il signor Contorno in quanto io posso smentire tutto ciò che dice lui su di me ma a me se mi faccia la cortesia lo vorrei farlo subito la corte deve decidere sul contorno io ci sto chiedendo questa cortesia per ora stiamo continuando l'interrogatorio e poi non c'è non c'è nulla di pregiudicato debbo dare atto che questo lo mettiamo a verbale naturalmente che l'imputato fidanzato chiede di essere messo subito a confronto per smentire il contorno fidanzato Gaetano Gaetano sì dunque debbo dare altro inoltre che dalla casa dalla direzione della casa circondariale di Cuneo è pervenuto il seguente fonogramma riterfono numero 29 barra 85 odierno comunicasi che dati in possesso questa direzione risulta che tale maggio Maria abete effettuato colloqui con proprio convivente detenuto Bonafè Giuliano nato a Papozze il 4 settembre 1950 nel precisare che suddetta maggio non abete effettuato colloqui con detenuto Buscetta Tommaso ritiene si dovesse segnalare che questo ufficio non esclude che in occasione colloqui tra la maggio e il Bonafè si sia potuto capitare che il Buscetta trovavasi nella sala di colloqui comune a tutti i detenuti differenziati per espletare colloqui con familiari tanto è vero che risulta che Buscetta e Bonafè hanno espletato colloqui con familiari spesso in medesime date tanto comunicasi per dovere di ufficio firmato direttore dottor contestabile avvocato moce è a sua disposizione allora si porti il detenuto contorno salvatore allora contorno mi raccomando cercare di parlare ad agio cioè nel senso di scandire le parole più che le è possibile va bene ci proviamo signor presidente dunque un po' di silenzio per favore conosce Adelfio Francesco Adelfio Mario Adelfio Salvatore Adelfio Giovanni inteso Giannuzzo si li conosce come uomini d'onore si di quale famiglia me la grazie milla grazie Adelfio Mario lei l'ha riconosciuto anche in fotografia Adelfio Salvatore riconosce tutti personalmente si li ha conosciuti personalmente in quale sono stati presentati no non li conoscevo prima di essere uomo d'onore li conosceva prima e poi li sono stati presentati come uomo d'onore in che occasione se lo ricorda e da chi in occasione da fratello in campagna mentre giocava con i kate o fanno bagli su giocavate anche a c'era Benito Capizzi e compagni ma da chi le sono stati presentati come uomo d'onore franco vadeffo uomo d'onore ce ne erano tanti nei pollarazzi ce ne erano tanti gli uomo i kate senta questi ad elfio sono collegati le risultano che siano collegati con i fascella per traffico di sopravvivenza come le risulta erano tutti insieme erano sempre insieme allora è un'illazione che lei trae non una relazione perché franco adefi aveva una vita che ci combattiva che la gioca no? ripeta questa frase franco adefi aveva una vita che ci combattiva che la gioca no? compreso con Capizzi e compagni non era una relazione fatta con Marino Marchese quello di Velaciam era tutto un gruppo sì dico e lei questa circostanza l'ha presa dallo stesso franco adefi o da altri? ma io lo sapevo direttamente che la trattavo gente che andavano e venivano per cattare a gioca e più Marino Marchese c'era il laboratorio e c'è che mancava non mancava niente e Pullarà? e Pullarà c'è tanto un ecofile Marciano Giuseppe Marciano Marciano è il cugnato di Ignazio Pullarà di Melozango e compagni conosce Alberti Gerlando Gerlando mi sembra di vederlo qualche volta insomma l'ha visto gli è stato presentato sì sì da chi da quale famiglia da da Bontate fa parte della famiglia Pippo Calò Portanò Portanò e l'hai stato presentato la Bontate sì in quale periodo di tempo lo sa dire? un periodo sarei confuso proprio un ricordo particolare l'ha visto in carcere? sì in carcere fu un insieme sì e precisamente al 77 eravamo 23 persone a Fiammeria e c'era Giolanda Bette e Franco Schima i fratelli Michalizzi eravate tutte alle infermerie eravamo 23 persone Mimmo Terese sì Manuel da Corsini eravamo 23 persone in infermeria e tutti i uomini da noi erano questi che erano in infermeria ci potevano mettere i malati per bere non ci mettere ci potevano anche dove non avevamo niente in infermeria ah dice ci potevano mettere i veri malati ci mettevano ci quelli che eravamo che comandavano a Barracca che comandavano a Barracca a Barracca a Barracca a Barracca Mario Mattiedo e tanti altri a Martello Mario Martello ma in infermeria eravamo due persone in infermeria che fa mangiavate separatamente o no si mangiava tutti insieme perché c'era c'è cammarone c'è cammarone uno dove si usava per mangiare lui per due ma più tre celle singole che ne aveva uno Pace Coppola non ce l'hanno da bette e adesso che l'aveva comunque ci sono tre celle singole e ogni persona ce l'hanno da bette Pace Coppola e non ricordo la testa che la occupava in quel periodo e là c'erano i cammaroncini che erano altri due cammaroncini i totali cammaroncini erano 3 affermmeria andavate insieme tutti insieme ma lì in sostanza c'era una gerarchia che si rispettava pure dentro il cast e la infermeria fra di voi uomini d'onore insomma perché giù gerarchia cioè c'era uno che comandava no noi eravamo tutta la stessa cosa comandavamo tutti ci rispettavamo a molla parte ci comandavamo tutti eravamo tutti o meno vi rispettavate vi rispettavate tutti a molla parte non c'era uno che diceva non c'era comandato c'era pure Buscetta c'era pure Masina Buscetta sì Teresi Domenico Teresa Pietro Tutto ciò Pangemi eravamo venticette persone se non hanno tempo ci posso pure rilangare tutti risulta risulta che quando Gerlando Alberto è stato arrestato a Santo Nofio era nella casa di un certo Lima Gaetano come le risulta? Cagano sciopo tornare a casa dove c'era la refineria? Sì casa erano lì dopo ci veniva Giolanda Bento sì casa erano di questo Lima di questo Lima e si veniva Agate Mariano lo conosce? Sì da quale famiglia? In Mazzara del Vallo Mazzara del Vallo come l'ha conosciuto? Lo conoscevo tramite Sigaret e tramite quando lui veniva da Michele Greco nelle riunioni e nelle commissioni ah perciò frequentava Michele Greco sì e dove? Insieme frequentava Baglio Favarella veniva poi dopo un appontato va bene pure qualche volta anche da appontato? Sì Franco Mafara ah questa casa è Mariano le risulta che avesse una raffineria? Mi risulta che aveva una raffineria tramite Franco Mafara perché Franco Mafara si forniva da lui Franco Mafara l'hai raccontato questo questo fatto che lei però personalmente non ha visto è una raffineria che c'era Franco Mafara ricresciamo ripiciti e che abitavamo poi perciò abbiamo avuto la carriera ripicciutti è quando diventavamo chiamato amore l'hai raccontato e gli faccio a Petro pernendo può fattore le sigarette del signor Mariano Agato può fattore farmi lavare qualche cosa non ho preso dato che si venivano da io me l'avevo scelta ma il fatto delle sigarette del signor per il signor Agato di Mariano Agato e allora Petro ma noi chiamare ci parlo che me lo faccio cosa nelle sigarette e questo è stato a Taba a Taba sì ma il Berlingo riceveva protezione da parte di Agato protezione insomma poteva fare queste queste cose che faceva insomma perché era protetto da Agato era nella nostra famiglia Petro Venengo si trovava in caccia la Taba insomma in quanto poteva disporre comandava il Venengo la caccia di Taba oppure chiunque poteva no in quel caccio dove era Venengo era singolo c'erano 4-5 detenuti era una caccia mandimentale non era il caccio di Taba perciò era facile l'accesso a questo caccio non c'erano non è pariente che mi angoliceva quegli Amato Federico detto Pinuzzo l'ha conosciuto? si si no se vuole il microfono si numero no Presidente lei sa quanta stima noi abbiamo per lei e per la Corte ma io ritengo Presidente eccellentissimo che non si può dire all'imputato parlami di questo a quale famiglia appartiene che dica di questa famiglia chi era l'ha conosciuto ma così Presidente questo non fa accio dalla mattina alla sera all'addentro a leggere il suo interrogatorio e quindi quella mappa che lui ha costruito ma questo lei lo dice avvocato la stessa cosa sarebbe comunque una verifica noi la dobbiamo fare l'abbiamo fatta con buscetta ma così noi stiamo facendo senza volerlo Presidente sa io ripeto la stima ma senza volerlo è una forma di suggerimento dico senza volerlo lei ma il settore non può ricordare tutti i nomi uno dopo l'altro io devo trovare un modo per interrogarlo lui ha confermato Presidente mi scusa quando lei dice al signor contorno il signor Mafra è subito dopo l'altro nome c'è un nesso Presidente sono in ordine alfabetico grazie lei è cascato nella in una imprecisione non vorrei ricordare io in sostanza questo sarebbe vero e sarebbe lavatamente suggestivo se io gli dicessi i nomi delle varie famiglie allora lui dice le caselle invece sono famiglie diverse perché sono in ordine alfabetico poi può anche darsi che in ordine alfabetico ma quando vostra signoria dice all'imputato Matizio è amico di Caio facendo il nome ma questo significa è implicita la risposta io non ho domandato se erano amici di questo se conoscevano ma se tutto quello che ha detto il signor contorno è la verità e lo può dire non c'è bisogno che nessuno glielo ricordi che dica quello che ha detto lui l'ha confermato tutto ma io devo chiedergli punto per punto perché la corte lei dirige il dibattimento noi abbiamo il diritto del dovere di ricordarle però guardi che io ho scelto l'ordine alfabetico così come è stato fatto per Buscetta anche dal collega grazie ma tra Agate e Vernengo credo che ci sia molta può anche darsi tra Agate e Vernengo Vernengo è stato nel corso del suo interrotatore allora se sorge un nome io devo rispettare l'avvocato fine c'è lei una persona di grande esperienza non mi dica queste cose certo allora io non posso interrogare perché io nel farvi l'elenco delle persone cerco di fare certo avvocato Clementi vuole parlare parli pure numero 19 presidente una no avvocato 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 buonsignore oltre ad associarmi a quanto prospettato dal collega Fileccia io gradirei per semplificare a quanto prospettato in che senso scusi precisi perché l'avvocato Fileccia poi onestamente ha preso atto per lo meno io ritengo che è stato fatto domande in ordine alfabetico per quanto riguarda l'appartenenza alle varie famiglie che è l'unico ordine uno degli ordini che si possono fare e poi ha preso atto anche che naturalmente io posso domandare di un altro imputato che però per avventura cominci con la vi perché è una domanda che viene inserita nel corso dell'interrogatorio però io penso che sia utile che semplifichi anche l'interrogatorio che lei svolge voglio approfittare pure del fatto che mi dà la parola per attestarle pure io la stima non vorrei che ci fossero stati dei malintesi ma io non allora dicevo per semplificare grazie per semplificare l'interrogatorio siccome la vita di contorno è abbastanza non è un gioco di parole contorta tra il periodo 75 e 81 mi consenta presidente ma io le ho stamattina le ho chiesto poi faremo tutte le domande che vogliamo io non so perché lei se lei mi fa concludere io avrei impiegato meno tempo a suggerire poi lei ma no ma poi lei faccia la domanda sarebbe bene sarebbe bene che ella chiedesse a contorno di fare l'autobiografia tra il 75 e l'81 perché nel 75 dice che è entrato nel 77 nel 78 è stato al soggetto avvocato buonsignore nel 78 in carcere nell'81 pure presidente mi scusi e sì in effetti poi mi costruirete a prendere dei provvedimenti che io non vorrei prendere mi consente la parola io credo che forse qui stiamo dimenticando un fatto importante ed essenziale che la conduzione è fatta dal presidente nella maniera che ritiene più opportuno per l'accertamento della verità non può essere né sindacato né indicato da nessuno io non capisco quale forma di suggestione o di suggerimento il presidente ritengo che fa queste domande solo e esclusivamente allo scopo di rendersi conto e far rendere conto alla corte di qual è la verità processuale ricordando peraltro che si tratti di un fatto che l'imputazione principale di quasi tutti gli imputati è di associazione per delinquere quindi collegamenti rapporti eccetera debbano essere chiariti e specificati si sta facendo una questione e si ci intromette in un discorso in cui non ci si può intromettere né da parte della difesa né da parte dell'accusa lei lo farebbe in un salotto che si inserisce in un salotto lei deve parlare di questo mi scusi presidente faccio una richiesta formale continuiamo a interrogare l'imputato continuiamo a interrogare l'imputato basta se deve dire qualche cosa di utile al dibattimento ho bloccato Clementi io gliela do la parola perché non la vogliono negare a nessuno prego 46 era per esaurire quell'argomento che aveva detto l'imputato lui ha dichiarato che è stato detenuto all'infermeria del carcere dell'Uccertone di Palermo si ci può dire in che periodo si l'ha già 77 77 per 20 giorni e 25 giorni perché venivo proveniente da Venezia nella rottura del soggiorno obbligato fuggendo senza permesso lei era al soggiorno obbligato a Dolo e venivo senza permesso a Dolo a Venezia e venivo senza permesso e gli va a finire in carcere va bene allora possiamo riprendere il suo interrogatore io faccio se mi consente un esempio pratico così penso che chiariremo un po' il nostro concetto il concetto di noi difensori un momento fa lei ha chiesto ma insomma io veramente no 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 presidente le chiarisco il perché noi altri facciamo queste considerazioni lei un momento fa ha chiesto all'imputato se Alberti aveva acquistato una villa però la sua domanda fu in questi termini le sa che Lima Gaetano ha venduto una villa ecco noi la pregheremmo se facciamo istanze in questi sensi cioè che quando si fa una richiesta non gli si dia anche il nome perché questo evidentemente sotto un profilo esclusivamente oggettivo per carità non si fa nessun riferimento al profilo soggettivo significa avere possibilmente senza volerlo dato il suggerimento sulla circostanza ecco quello che noi desidereremo ma già ne dichiarate l'istruttore va bene ma non ha importanza allora il controllo siccome si è stato detto che qui si sta facendo un controllo attraverso l'esempio io ritengo di avere chiarito qual è la nostra opinione noi la pregheremmo nel limite è possibile senza volerlo avvocato campo la domanda era del giudice alatere però si parlava di una casa non di una villa o casa o villa io presidente ecco ho voluto fare l'esempio pratico per dire il perché noi altri ci approniamo e la preghiamo quindi senza voler interferire nei suoi poteri possibilmente di evitare domande che il controllo possa rispondere al giudice alatere direttamente alziamo la linea al giudice alatere scusi avvocato siccome la domanda a quanto pare è stata posta dal giudice alatere allora vorrei chiarire questo che io illustro la circostanza al presidente poi sul modo di fare le domande si potrebbero fare per gradi prima se conosce Gerlando Alberti e poi ma io ho il dovere di illustrare la circostanza per verificarla quindi questo è il suggerimento quindi la domanda non diciamo poi nella posizione nel modo di porre la domanda poi il discorso potrebbe avvenire per gradi ecco questa è la precisazione che le volevo fare avvocato ma comunque la domanda è avvenuta per gradi perché prima si è chiesto se conosceva Gerlando Alberti e si è detto dove l'ave l'ho conosciuto certo presidente ma io volevo così chiarire la nostra posizione perché se si dice però mi scusi Lima le ha venduto la sua posizione perché questa è una sola domanda che sarebbe stata posta in questa momento io ho preso l'esempio proprio di Lima perché Lima non è imputato in questo processo ma lei comprende che nel momento in cui una domanda viene posta con riferimento al nome di un imputato evidentemente senza volerlo seppure senza volerlo questa domanda diventa suggestiva questa è la nostra posizione la rassegniamo alla sua attenzione va bene allora Alfano Michelangelo lei ha conosciuto questo Alfano Michelangelo? si e l'ha conosciuto come uomo d'onore? si l'è stato presentato ritualmente e da chi? se non ricordo male era compare di Emanuele D'Agostino erano sempre insieme e fu stato presentato di Emanuele D'Agostino e compagno non ricordo il nome che ho dichiarato nel mio verbale Alfano Michelangelo? si Ancelino Emanuele D'Agostino e aveva le imprese da Ferrovia a Ciazzone Centrale e a Messina è stato presentato anche da altri? si ma non ricordo il nome per il momento forse Amato Federico detto Pinuzzo si Alfano Pietro e Alfano Paolo però lui mi pare che li conosce l'Alfano Pietro e l'Alfano Paolo Alfano Pietro ma già mi aveva accennato l'Alfano Pietro oggi no? Alfano Pietro stamattina si l'Alfano Pietro la barcheologia ha chiesto stamattina siccome non so se è un altro Alfano non lo sai Alfano Pietro Alfano Paolo lei lo conosce? si Alfano Paolo si come uomo d'onore quello che mi ha fatto la domanda stia mattina quello Pietro si chiama Pietro e quello che sta dicendo lei chi è adesso? Paolo conosce anche un Alfano Paolo per il momento non mi viene se è Alfano se è Alfano Paolo non mi viene io conoscevi i fratelli Alfano di Baccheria quello Pietro si chiama Pietro Zappone no Presidente Paolo è Pietro Zappone Paolo si chiama si chiama Paolo però ho detto Pietro Zappone si si va bene va bene va bene è tutto registrato Alfano Pietro Zappone è foglio 6 il riconoscimento fotografico è un foglio 168 questo Alfano questo Alfano che famiglia era? di Baccheria ma qual è il Fano il signor Presidente qual è il Fano dice lei? Alfano mi pare che si chiami Alfano Paolo vediamo l'elenco degli imputati ci sono tutte e due Alfano Pietro e Alfano Paolo però io le ho chiesto stamattina di Alfano Pietro Pietro di che famiglia è? di Corso dei Mille di Corso dei Mille stamattina pure ha detto dove è la contraddizione? nei sottori c'è una contraddizione? pagina 73 parla degli Alfano fratelli Alfano come uomini d'onore di Baccheria sì ma quelle sono quelle che ci hanno appunto aspetta e ora la chiariamo di fatti era per chiarire dovrebbe servire l'interrogatorio per chiarire le eventuali contraddizioni quindi lei prima ha dichiarato a foglio 73 della mia numerazione che sono uomini d'onore di Baccheria poi successivamente a foglio 175 dice che fanno parte della famiglia di Brancaccio ora ha detto di Corso dei Mille quindi se ci può un po' chiarire se ci sono delle confusioni nel nome di Alfano così noi siamo più contenti e cerchiamo di mettere ordine nelle nostre carte i fratelli Alfano di Baccheria quando c'è una pietra la ferrovia ci lavoravo pure io riconosco abbastanza di persone e sono di Baccheria e fanno parte a Baccheria non Brancaccio i fratelli Alfano che hanno a pietra un travaglio la polizia di Vacona la ferrovia sono di Baccheria non di Brancaccio non vorrei creare confusione non c'è una niente l'altro Alfano qual è che dice lei? allora quelli c'è qualche Alfano che è di Brancaccio poco fa ha detto Corso dei Mille sì e per Giuseppone è Corso dei Mille non è Brancaccio Alfano peggio i fratelli Alfano Angelino e l'altro frate che è morto sono di Baccheria dall'eonato greco quindi sono due Alfano differenti differenti due fratelli è un esanio Beggia Alfano Alfano peggio detto peggio Zappone è di Corso dei Mille è di Corso dei Mille sì quelle due sono di Baccheria Angelino è un altro mi ricordo il nome l'altro fratello che non sono nostri imputati che non hanno niente a che fare con questo pregresso allora qua noi abbiamo Alfano peggio e Alfano paolo lei Alfano peggio ha detto che era la famiglia di Corso dei Mille ora andiamo all'ieri Giorgio all'ieri Giorgio scusi presidente ancora ritornando visto che possiamo intervenire lui conosce il nome dell'Alfano il nome di battesimo dell'Alfano o conosce il soprannome Pietro Zappone perché è importante che chiarisca questa circostanza lei conosce dice il pubblico ministero il nome di battesimo o conosce in sostanza il soprannome io conosco Petro Zappone dopo se si chiama Fano se si chiama Giovanni non lo so esatto allora precisiamo questo l'Alfano che io conosco è soprannominato Pietro Zappone nell'ambiente Petro Zappone dopo se ha faccio il nome non lo so insomma è questo il ricorso dei Mille quello che lei chiama e che lei conosce i fratelli Alfano invece sono una cosa diversa siccome si parlava di Alfano c'è stato un po' di si andiamo a Giorgio Aglieri e i figli di Giorgio Aglieri si ma ne parla nell'interrogatorio io gli voglio chiedere si va bene allora non ma c'è va bene si va bene va bene Bontate Giovanni Giorgio Aglieri conosce Bontate Giovanni si è uomo d'onore si insomma la domanda è sempre la stessa quindi lei mi può dare la risposta senza che io ho bisogno che le dica insomma che ci sia bisogno confermi le mie dichiarazioni che ho fatto signor Presidente si ma dico lei ricorda che gliel'ha presentato questo Bontate Giovanni era nella nostra famiglia fratello del capo mi ha presentato tutto e ne conoscevamo con tutto era della famiglia di Santa Maria di Gesù si e fratello di Stefano Bontate si Bontate Nino si l'ha conosciuto uomo d'onore pure nella nostra famiglia si l'ha anche riconosciuto in fotografia ho conosciuto come l'ha conosciuto chi gliel'ha presentato quando è cugino la buona amica Stefano Bontate era nella stessa famiglia eravamo sempre insieme ma lo faccio tutti presentare tutti ci conosciamo Bajamonte Angelo Bajamonte Angelo di Bajamonte Angelo di Roccella corso dei mille di Roccella ricorda che gliel'ha presentato come uomo d'onore se non ero Giacomino conigliare e non ricorda compagno con chi era buffa Francesco e buffa Vincenzo Presidente mi scusi sempre ritornando a Bajamonte Angelo anzi l'imputato ha detto che vi è una distinzione tra la famiglia di corso dei mille e la famiglia di Roccella appartiene a corso dei mille o Roccella e che è importante che chiarisco continuazione con quello di corso dei mille cioè chi era il capofamiglia del Bajamonte del Bajamonte era Penuzzo Amate e Penuzzo Abbate va bene grazie Abbate sì quindi Roccella sì buffa Francesco e buffa Vincenzo sì buffa Francesco lei ha fatto un riconoscimento fotografico sì queste persone lei le ha conosciuto da quando come le picciottie abitavamo a circa 300.000 no di ora di vecchia data dopo gli anni erano tre fratelli e tre sorelle uno è morto da rifare il fratello e tre sorelle un bacio è morto puro morì pure la macchia come uomini d'onore quando le ha conosciuto come d'onore quando sono entrato a far partire già lui era un uomo d'onore grande e l'altro ci è diventato dopo sarebbe Vincenzo già era prima e Francesco ci è diventato dopo erano imparentati con i presti Filippo sono parenti con i presti Filippo tramite perché la moglie di presti Filippo è una buffa rosa erano figli di fratelli buonore Francesco l'ha conosciuto mai buonore Francesco non ricordo signor Presidente buonore Francesco non lo ricordo il suo nome di Bruno Francesco non ricordo per quanto riguarda il il buffa lei nel racconto che ha fatto dell'attentato che le è stata rimolta ha parlato di questo buffa si ha qualche cosa da aggiungere per il momento no se dopo ci saranno confronti mi riservo in casa e se lei ha qualche cosa da dire la dico adesso che confronto non c'è dopo mi rimetterò alla corte grazie a tutti grazie a tutti Lei ha conosciuto pure il cognato di questo buffo che si chiama Lombardo Giovanni? Si conosce a tutti, sì. E c'aveva un bar cartoleria? C'aveva un bar cartoleria, c'avevano un bar in società con Giovanni Pressefilippo. Ricorda qualche episodio specifico che si riferisce a questo bar? C'è un penticolore specifico, in Chitana ancora c'era uno come un onore e c'era uno che venneva a Rancine vicino a un bar, perché c'era una scuola universitaria, non so, ci sono tanti ragazzi che vanno a scuola, e un bar era vicino, invece un bar lo lavoravano. Ci sono delle scuole in Viale dei Picciotti? Si, e c'era il come vicino. Dopo c'era un povero figlio di madre che venneva a mangiare della panza, un massacrare a legnata per farne lui la panza del bar, perché ci descrivava l'affare. Ed era questo tizio che vendeva... Dica, un massacrare a legnata. Sì, dico, questo che è stato allontanato poi in questa maniera violenta, chi era? Un povero cristiano che pensava a regnare il pane per la sua famiglia. Ecco, questo, uno che vendeva... lei l'ha detto poco fa, no? Sì. Lo ripeta. Era un povero cristiano che vendeva... si scrive a regnare il suo pane per i pittaccioli dei suoi figli, non aveva niente di male. Sì, ma che vendeva? Arancine, pane, le cazze di fare... Questi buffa che se... nell'organizzazione che ruoli avevano? Avevano ruoli particolari o ruoli... Il buffa era un soldato? Soldato. Gentilmente mi ha deciso del buffa perché io non vorrei confondere qualsiasi buffa. Buffa Vincenzo? Buffa Vincenzo. Il buffa Vincenzo è soldato. E Francesco. Tutti loro soldati, della famiglia di Crocevetto. No, siccome lei ha usato che... ha usato, ha detto che questi qua venivano usoperati come spiccia faccenda, ci vuole chiarire? Sì, siccome spiccia faccenda erano buoni per accompagnare l'adattante, per darci i documenti ridi che erano incensurati. Come aveva in provincia il buffa, ci ha detto i documenti che si fanno bontà. E dopo il mio veniva, ma che diceva? 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 Se lacrimava perché aveva paura se affermavano la bontà e si fanno i documenti che buffa Vincenzo. Tanno ancora era pulito. E bontà, io ci faccio contare un fatto che si scantava e si fanno i documenti in arrivo. I documenti personali. Questo era finito nel suo buffa. E dopo tante altre cose. Era buono per salvare tante cose. Nel nostro ambiente, nella nostra famiglia, quando successe effettivamente il fattore Luca Petano Basile e compagno. Bagarella Leo Luca. Sì, lo conosco. Ha conosciuto personalmente? E dove? La Pucceria, Netanino Calista. Netanino? Netanino Calista, la Pucceria. Cali? Calista. Calista? Sì. Ah, Calista. Sì. Sai precisare il periodo in cui l'ha conosciuto? Prima era di Salvo, perché quando era di Salvo, questo fattore Manuel, io li frequentava già, no? Non ricordo più i periodi, perché non posso ricordare tutti questi periodi, ma comunque. Che famiglia era? I Colle... Chi? Bagarella. I Colleone. Bono Giuseppe e Bono Alfredo. Sì. Che famiglia? Bono Giuseppe e di Bolognetta. Bono Alfredo invece è San Giuseppeato, Beinando e Broso. L'ha conosciuto personalmente? Sì. Le sono stati presentati? Sì. Erano collegati per traffico di stupefacenti con qualcuno? Avevano tutti in mano i fratelli Boni, i signori fidanzati, i fratelli Neia, i fratelli Martello e i compagni, su Milano. Io ero in nata e ci mangiavo un semolo qui dal ristorante Gallo d'Oro, di fronte al giornale di Milano, che loro avevano sul ristorante... Ristorante? Gallo d'Oro. Gallo d'Oro. Gallo d'Oro. E' più un'altra volta con questo buone stagio sempre a Milano. Siamo da Bonami e mio cugino Nino Grado. Ah, sì. Le sono state presentate da suo cugino Nino Grado o lei li conosceva da prima? Il mio cugino Nino mi ci presentò a loro. In quell'occasione? Sì. Ma poi le ha visto più di una volta. Poi le ha visto più di una volta. Insomma, fu quella l'occasione in cui le è presentate come uomini d'onore. Sì. Sì, ha detto che le ha conosciute in quell'occasione e che gli sono stati presentati. Trentotto. Sono l'Avvocato Rubino. Intervengo per i fratelli Bono. Sì. Vorrei sapere dal signor Contorno se lui intende confermare l'interrogatorio reso lo scorso anno, 1985, presso la quinta sezione del Tribunale di Roma, dove erano imputati i fratelli Bonalfredo e Bono Giuseppe. E i fratelli Enea? Non mi interessa dei fratelli Enea. Che cosa vuole detto l'Avvocato? Se lei conferma... Sì, ma non lo conosciamo quell'interrogatorio. Se io ce l'ho, Presidente, eventualmente posso anche... Quali sono i punti su cui dovrebbe... No, no. Se lui conferma quell'interrogatorio, dove ha parlato diffusamente dei fratelli Bono. Io ho sempre cose da aggiungere. Non mi interessa se lei ha cose da aggiungere. Io chiedo al Presidente... Allora lei lo conferma? Lo conferma che ora, signor Avvocato, sapendo la domanda... Perché quando c'è stato il confronto a Roma, il signor Alfredo Bono era in Barella in mezzo a un'attrice di ci malate... Allora mi ha detto al Presidente della Corte di Roma, dice, a chi conosce di qua? E ho preso al signor Bono Giuseppe, il fratelli Enea... E mancava, nel reparto ammalato, non ho conosciuto Alfredo... Perché era senza occhiali, era ammalato, non l'ho riconosciuto. Questo è il punto dell'Avvocato che ha fatto la domanda. Mi oppongo alla domanda così come è stata formulata, perché intende essere un trabocchetto nei confronti dell'imputato Contorno. Contorno ha reso una deposizione della quale il collega non è dotto a nessuno di noi e di tanto meno la Corte. Dovrebbe dire le posizioni, cosa ha detto Contorno in quella deposizione, ed eventualmente rilevare perché Contorno ha detto una cosa diversa da quella che dice oggi. Così la domanda può essere accettata, se è formulata in questi termini. D'accordo, Avvocato Alberini, lei specifica, come io l'avevo già indicato. Signor Presidente, siccome sono dei lunghissimi interrogatori, la difesa preferirebbe darli alla Corte ed eventualmente alla Corte... No, no, non possiamo introdurre qua un interrogatorio che non è... Come? Dica quali sono le singole circostanze, anche se sono molte, non è importante. E lei tende a contestare, noi le contesteremo all'imputato, una per una. Ma detto così non lo possiamo fare, se ne rende conto anche lei. E allora, anticipatamente io già chiedo formalmente di produrre questi interrogatori. Ma poi, questo è un altro paio di mani, perché... Eventualmente poi la stessa Corte, non trattandosi di copia autentica, eventualmente la stessa Corte di Assise potrà richiederla al Tribunale di Roma, che è soltanto una copia per uso studio, è ovvio. Se sarà necessario... Certo, sempre se sarà necessario. Signor Cont... come? E appunto la difesa ha fatto presente, se prima la Corte li voleva, appunto per dare possibilità eventualmente anche al difensore del signor Contorno di servizio. D'accordo, ma allora in questa sede non possiamo rivolgere le domande, perché la Corte deve innanzitutto esaminare il documento... Signor Presidente, se lui ha fatto gli interrogatori, se lui li conferma, li conferma, poi eventualmente sarà il compito della Corte. Non è che c'è alcun problema da parte di questa difesa. Ma siccome non sono introdotti ufficialmente... Non sono... Sta chiedendo la difesa. E allora lei faccia le domande... secondo me dovrebbe fare all'Avvocato le domande specifiche sul puto... Ma quello... Ma a meno che non vuole introdurre il documento e poi giustamente le domande si faranno dopo l'introduzione. Ma di fatto addiscipatamente ho detto, io chiedo, che vengano introdotte queste domande. Allora le domande si faranno dopo che saranno acquisite ufficialmente. Ma l'unica cosa che ha questo difensore è stato quello se lui confermava pre-introduzione di questi interrogatori... Ah, pre-introduzione, sì, questo sì. Dunque, allora, diciamo le singole circostanze. Sulle singole circostanze l'Avvocato... Avvocato Alberini. Avvocato Alberini. Avvocato Alberini. Avvocato Alberini. Per favore, non facciamo polere. Lei stesso mi pare che abbia chiesto che siano contestate singole circostanze. No? E questo dobbiamo fare. Allora possiamo, signor Presidente? Sì, mi dica che io rivolgo la domanda. Una per tutte. Quando il Presidente ha chiesto al signor Contorno se conosceva o meno Bonalfredo o Bono Giuseppe, il signor Contorno, indipendentemente da qualsiasi tipo di ricognizione, ha detto che Bonalfredo era il capo della famiglia di Bolognetta. L'ha ripetuto più volte, vi sono circa 20-25 domande del Presidente, ha sempre risposte in questi termini. Ma questa non è una... Questa è una contestazione. Ha detto poco fa, Bono Giuseppe, Bolognetta, Bonalfredo, San Giuseppe Iato, se non ricordo male. Ah, ecco, lei dice che Bono... Lei avrebbe detto in questo interrogatorio che Bono Giuseppe sarebbe... Bono Giuseppe, dunque... Ecco, sarebbe stato necessario. Bonalfredo Bolognetta e Bono Giuseppe San Giuseppe Iato. Lei ha detto cosa diversa... Dov'è? A Roma. A Roma, Tribunale Quinta. Ora sto precisando sia qua che l'argomento era il buono Giuseppe, il capo e non Anfredo. Ora il capo ci sono abbastanza chiaro. Perciò nell'interrogatorio che ha votato io, che hanno votato il 33, c'è un po' di confusione. Sono qua per poter chiarire un po' di confusione che ci può essere in mezzo. Insomma, può essere caduto in confusione sull'attribuzione della famiglia... Confusione di Anfredo, di Giuseppe... Sull'attribuzione della famiglia. Le domande del Presidente sono state 20 o 25 e si faceva sempre il riferimento. Ma Giuseppe o Alfredo? Ma Giuseppe o Alfredo? Un'altra, signor Presidente. Mi pare che abbia detto che gli sono stati presentati i fratelli Bono dal suo cugino Nino Grado. Se non ricordo male. Ricordi, signor Contorno, cosa ha detto a Roma? Io lo devo dire io che gliel'avrebbe presentato i signori Bono. Ma lo dice lei. Ha detto Michele Greco. A Roma lei ha detto una cosa diversa? Ma io l'interrogazione di Roma non la ricordo. A Roma l'ho incontrato pure il signor Bono e Giuseppe, non tutti i due fratelli insieme. Insomma, cerchiamo di evitare di fare questi commenti all'altra voce. Chiariamo quello che... Stiamo chierendo quello che... Facendo in questa maniera non mi pare che si ottenga lo scopo di... Se l'imputato è caduto in contratazione, ammesso che lo sia, sarà valutato. Sì. Mi dica, Avvocato Almerini. 79. Sì, 79. Io mi oppongo a questo modo di fare le domande perché l'atto non è conosciuto né dalla Corte né dal difensore. Quindi il collega cortesemente dovrebbe introdurre questi atti depositandoli alla Corte e dopo vedremo se si possono fare... E vedremo il perché di queste domande. Sì, però, Avvocato Almerini, lei stesso aveva detto che se c'erano circostanze specie... Ma scusi, Presidente, allora dovrebbe dire anche il perché di queste domande. Deve dire anche perché fa queste domande se sono in contrasto con quelle che ritiene di aver sentito oggi. Io ho il diritto di sapere e la Corte ha il diritto di sapere e di conoscere il testo di questo interrogatorio reso dal contorno a Roma. Non lo conosciamo affatto. Presidente, mi scusi. Il discorso sta in questi detti. Infatti, no, che debba illustrarla, no, perché parla della società per delinquere. Però il punto è questo. O fa delle domande specifiche l'Avvocato o fa delle contestazioni. Se delle contestazioni deve fare, non può farle se non viene acquisito questo atto. Perché non può dire lì ha risposto in una maniera e qui no, perché effettivamente la Corte è assise non è a contezza e non abbiamo contezza nessuno di noi. Quindi viene in giro l'Avvocato e si passa alle contestazioni e alle differenziazioni oppure fa delle domande specifiche sul circostante. Per cui poi le contestazioni sono argomento di discussione. Lei faccia le domande. Sì, le domande le può fare, ma non contestare niente che cosa fa questo. E poi è argomento di discussione. Aspetti, Avvocato, io le do il microfono subito, però... Aspettate un attimo. Il Pubblico Ministero ha semplicemente detto che poi la valutazione lei... Però vorrei essere ascoltato mentre parlo. Dico, il Pubblico Ministero ha semplicemente detto che le valutazioni e poi delle risposte lei le farà in altra sede. Valutazioni che fa il difensore, mi deve scusare. Qui il contorno viene a dire, prima dà un'indicazione sbagliata... Sì, vabbè, ma dico, sostanzialmente non sono valutazioni queste. Lei lo faccia... Ma non valutazioni, sono cose completamente diverse. E poi la contraddizione che lui avrà fatto la utilizzerà nella sede dovuta. Questo dice il Pubblico Ministero. E non mi pare che sia un'affermazione... Presidente, è doveroso che io faccia di queste domande... Ma il Pubblico Ministero non ha detto che lei non deve fare la domanda. Ma io non sono in polemica con il Pubblico Ministero. Me ne guarderei bene, signor Presidente. Io ho chiesto se il signor Contorni intendeva confermare gli interrogatori che aveva arresto a Roma. E poi, eventualmente, ero pronto anche a depositarle e vi faceva l'accordo. Così la domanda è troppo generica. Io mi sarei riservato di farle, Presidente. Eh... Sì, non... E non li voglio. La domanda è troppo generica in questa maniera. Lei ha fatto le singole circostanze. E' vero che a Roma ha dichiarato questo. Ecco, dica, a Roma ha dichiarato questo e se lo conferma in questa sede, allora va bene. E poniamo la domanda in cui io la faccio a lei, signor Presidente. Lei la poteva porre nei modi più opportuni. No, io la potevo... Io mi riferirei, eventualmente, ad un eventuale contrasto che ci fosse stato. Sì. E quindi è doveroso che lei lo faccia ricordare, quantomeno al contorno. Ma io il contrasto non lo conosco perché non conosco quella dichiarazione. E allora, signor Presidente, lei può chiedere eventualmente, scusi, il suggerimento, se è vero che il signor Contorno, nell'interrogatorio reso al Tribunale di Roma, quinta sezione, avesse detto che sia il buono Alfredo che il buono Giuseppe che sono stati presentati da Michele Greco e a Palermo. Mentre ha detto, questa è la domanda, questa è la domanda, perfettamente ammissibile. E vedete che, insomma, lei ha detto invece che queste persone le sono state presentate da Michele Greco? Sì, confermo questo. E c'è l'abbroncamento quando sono andato a mangiare a Milano insieme con il buono. C'è un'altra persona, perciò c'è fiato di nuovo un'altra presentazione, come il fratelleno io non conoscevo. Allora c'è stata la presentazione e ricordo che mi avevano presentato di nuovo il buono, ma il buono l'avevo presentato a Palermo. Tutta questa è la confusione. E quanto tempo prima lei l'aveva avuto presentato a Palermo da greco? Appena subito fissi paese io, perché io prima di fare paese a Cosa Nostra frequentavo da Michele Greco e a Cervarte. Quando già ero stato combinato pure io mi ho presentato, tutto là. Combinato. Si dovrebbe chiarire. Ma ci chiariamo un pochino questo. Cioè lei era entrato nell'organizzazione da poco? Sì, da 75. Quando lei è presentato la prima volta? Sì. E poi invece... Su Milano c'erano altre persone nuove che io non conoscevo e mi presentate. E a Milano quando è avvenuto questo incontro? A Milano è avvenuto verso il 77-78. 77-78, quindi due o tre anni dopo. E si trovava al soggiorno... Obbligato. Obbligato. Ha detto quindi di averla avuto a Milano nel 77-78, Presidente. Va bene. Sì, ma prima era da Michele Greco sempre, confermo. Come? Prima dice che era stato presentato da Michele Greco. Prima ha ricordato che l'aveva detto e poi per quanto riguarda Buono Giuseppe ha detto di averla avuto presentato a Milano nel 77-78. Sì. Va bene. Brusca Bernardo. Brusca Bernardo. Ha conosciuto Brusca Bernardo? Sì. Personalmente? Sì. Lei è stato presentato? Sì. Questo Brusca Bernardo, uomo d'anore? È un capo di San Giuseppe Ghiando. San Giuseppe Ghiando. Il figlio Giovanni appartiene pure all'organizzazione? Non lo so, signor Presidente. Balde Giuseppe. Ha conosciuto Balde Giuseppe? Sì. C'è un nomignolo, un nome... Un tranquillo. Un uomo d'anore. Un uomo d'anore. Sì. Di quale famiglia? Porta Nuova. Porta Nuova. E l'è stato presentato? Da chi? Quando? Ne conosciamo prima di Cosa Nostra, Ghiudo fa i sigarette, ne conosciamo a Napoli, ne conosciamo a Palermo, una vita che ne conosciamo. E come uomo d'anore? Come uomo d'anore l'ho presentato, non ricordo se fu a Napoli o a Palermo, comunque, nel mio dicercio non posso ricordare tutto a memoria. Signor Presidente. Visconti Ludovico. Sì, di Bermonte Mezzano. Sì. E' uomo d'anore? Uomo d'anore dell'uomo d'anore. E' stato presentato da chi? Signor Presidente, io non posso metterlo a ricordare tutto il nome che mi è stato presentato e che deve avere un cenzialino davanti. Io nella mia dichiarazione l'ho fatto abbastanza preciso, può essere qualche mancanza che possa aggiungere. Ma lei dica che non te lo ricordo. Sì, sì, non posso. Visconti Antonino. Come? Visconti Antonino. Il fratello, sì. L'hai stato pure presentato? Sì. Buonaccorso Domenico. Sì. Di Croceverde Giardini, famiglia Michele Greco. Dove l'ha conosciuto? Al Croceverde Giardini. Ne conoscevamo prima perché lui aveva un menciante di Mandirino. Conigliaro Giacomo. Sì. Di Roccello. Questo conigliaro Giacomo è di Corso dei Mila e Roccella o di Roccella? Corso dei Mila e Roccella. Corso dei Mila e Roccella. Ricorda qualche episodio particolare per questo conigliaro Giacomo? Signor Presidente, abbiamo parlato stamattina di questo. Sì. Questo è quello... Sì, ma me lo puoi ripetere. Ma me. Questo è il sottocapo della famiglia Penuzza Abate e di Roccella. Quando ha rubato il magazzino di imballaggi, viene a finire da Bontai, insieme con Penuzza Abate. Magazzino di Messina Marine? È il fine. È il fine, proprio la Bate. Poi ha parlato stamattina pure di Chiara Cane e Salvatore. Di chi? Chiara Cane e Salvatore. Sì. Ha qualche cosa da aggiungere a quello che ha detto stamattina? Confermo che l'ho detto stamattina. Castellana Giuseppe. Sì. Ha conosciuto? Avvocato Campo, la linea? Sì. A proposito delle domande... Questo particolare che ha detto stamattina, da chi l'avrebbe saputo, Presidente? Ma comunque, io glielo posso domandare, c'è qualche persona che sa indicare che le abbia detto questo particolare dell'Avvocato Chiara Cane, dice? Sì. Quello che ha riferito lui stamattina sul Contro... Ma lei difende l'Avvocato Chiara Cane? Sì, sì. Non le dispiace. No, 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 per carità, almeno non dispiace affatto. Può dispiacere all'Avvocato Chiara Cane, essere allestito da me. Io questo non l'ho detto, ma insomma... Comunque, lei avrebbe saputo da qualcuno questo particolare, che l'Avvocato Chiara Cane si occupava di sapere le notizie di Giovannello Greco. C'era Bonemio Mimmo Teresi. Ah. Mimmo Teresi. Una buonanima di Mimmo Teresi. Una buonanima di Mimmo Teresi. Eh, Avvocato Monaco... Dieci. Sì. In ordine alla domanda che aveva posto lei poco fa. Il Conigliaro Giacomo, da chi gli è stato presentato, se lo ricorda? Là? Il Conigliaro Giacomo... Non è imputato, per la verità. Non è imputato il Conigliaro Giacomo. Presidente, però... Sì, no, io lo so. Il Conigliaro Giacomo ne ha parlato. Sì. Il Conigliaro Giacomo, infatti, ha detto nelle mie dichiarazioni. Non ricordo come ho presentato. Sì. Conferma quello che ha detto. Confermo quello che ho presentato. Ah, per quanto... Cioè, praticamente, non sa indicare chi gliel'ha presentato. No, non posso ricordare. Io neanche c'è una cenzialina qui davanti, il Conigliaro Giacomo. Non può ricordare chi gliel'ha presentato. Va bene. Sì, ma vado a isturiare e ci posso dire... Questo c'è, i clamori da che cosa sono derivati. Eh. Sempre per fare domande, oppure dobbiamo... No, no, no. No, no, no. Quindi mi pare di aver capito che non ricorda. Sì. No, non lo so. No, l'avvocato Clemente, mi pare. Vero? Presidente, lui ieri ha dichiarato che dopo che subì l'attentato, lui ritenne di avere colpito, o sparando, Greco Scarpazzetta. Poi verificò questa dichiarazione sostenendo che effettivamente forse non l'aveva colpito, quantomeno non gli aveva procurato lesioni, perché Greco Scarpazzetta portava un giubbotto antiproiettile. Questa circostanza ha detto lui ieri che gli fu riferita dal cugino, circa quindici giorni dopo. Sì. Ci vuole dire il nome del cugino e quando gliela riferì e dove gliela riferì? Chi era questo cugino? A me sembra che io ne avevo parlato a Becerza Chiaro. Era Nino Grado, eh? Dopo la mia cugina mi ha piuttosto notizia e si fece una fiesa. Nino Grado? Eh. Dove gliela ha detto? Ma dove? Dove gliela ha detto? Mi viene a dire a casa. Se non c'è mai un rischio, non ho capito. Dove? In occasione di un incontro, avvocato, in occasione di un incontro. E dove, presidente? Se lo ricorda questo posto? Se lo ricorda dove? Sì. Dico il posto, se lo ricorda? Lo incontriamo a Milano. A Milano. Vuole contestare che lui poco fa ha dichiarato precedentemente che appena subì l'attentato andò subito a Roma, presidente? Ma poteva andare a Milano successivamente, avvocato? Ma, presidente, una domanda. Lui poco fa ha detto... No, la contestazione... No, poco fa ha detto che subito dopo l'attentato si recò a Roma. Sì. Vuole contestare appunto questa diversità di contrasto che esiste fra le due dichiarazioni. No, un contrasto potrebbe non sussistere, perché lui può essere andato successivamente a Milano. Scusi, come faccio a contestare un contrasto che non... Lei andò a Milano... Ma io ero ricercato e potevo andare dove mi pareva. Come diceva, l'avvocato ci aveva i chiedi, non l'ho capito. Presidente, mi scusi di un'altra... Sì. Ecco. Lui poco fa, nell'udienza mattutina, ha dichiarato che l'omicidio di Bellini Calogero è stato fatto per stanarlo, in quanto volevano uccidere lui, però non riuscivano a stanarlo e quindi gli uccidevano i parenti. Conferma questa circostanza? Ma non ha detto proprio così. Ha detto così, presidente. No, non ha detto proprio così. Ha detto così e possiamo sentire la registrazione. Sì. Per Bellino Calogero in particolare. Lei ha parlato di altri motivi oltre a quello. In sostanza, possiamo ricordare. Quando io le ho chiesto questo Bellino perché era stato ucciso, lei ha dato una versione e poi io le ho fatto delle domande se c'erano motivi specifici per uccidere il Bellino. Sì. Come motivi specifici non abbiamo? Era perché era parente mio a ammazzare. Una di cui si era imputato di cose miei o faceva gioco o faceva altre cose. Era un libero cittadino dove guadagnava il pane onestamente. Perciò il punto è ammazzare perché era parente mio, niente altro. Non è che fare una mala parte. E perché portò la notizia che il mio cucino era finito a prese Filippo. Tutto là il fattore che gli ha ammazzato. E perché portò la notizia? Che il mio cucino Nino Grado e il franco maffra era finito a prese Filippo. Tutto là l'ha ammazzato. Ah, Nino Grado aveva l'appuntamento con i prese Filippo. E' partito dalla sua casa. Perciò era una pedina che era molto troma. Dove gliela ammazzare. Chi c'è il punto? Quando gliela portò questa notizia, Presidente? No, guardi, stamattina l'abbiamo interrogato su questo punto. E anche ci ha specificato il modo con cui ha dato questa notizia. Se lei ricorda... No, io non ricordo. Se lo facciamo ricordare da lui... No, e perché, scusi, se lo ricordo io? Per ricordarlo anche io, Presidente. Allora, possiamo riprendere? Sì, posso concordare con il problema di se... Io volevo fare perché, per dare la possibilità di avere un contraddittorio immediato... Relativamente ai punti dalle toccate, Presidente, mi sembra... Sì, questo per la verità era un po' arretrato. Come? Va beh. Io l'ho ammesso col mezzo. Sì. Croce Domenico. Abbiamo... C'è... Croce Domenico... C'è mattina abbiamo collato. Ah, stamattina. Ah, ne abbiamo parlato, sì, nel corso dell'interrogatorio ha parlato... Croce Domenico. Croce Giorgio. Sì. Croce Giorgio, di che... Di famiglia di Croce Verde. Di Croce Verde? Sì. L'è stato presentato da qualcuno? Sì. Ricorda da chi? Signor Presidente, non posso pensare a ricordare tutti i nomi... Le persone soltanto, non lo ricordo. No, e quando lei non la ricorda dico che non lo ricorda. Vabbè, no. Non vorrei chiare confusione. Croce Alfredo. Sì. Croce Alfredo. Sì, è figlioccio del senatore. È figlioccio di Greco Salvatore, detto il senatore. Va bene. Allora... Vogliamo sospendere dieci minuti? No, per la Corte, per la Corte, ricevo delle istanze da parte dei giudici popolari. Se sospendiamo dieci minuti non succede niente. Non mi... Ma saranno dieci minuti giusti. Sono le... Posso andare? Le 5 meno 20. Conosce Casella Antonino? Sì. Che famiglia fa parte? Fa parte di Blancaccio. Pino Savano. Il capo Pino Savano? Sì. Lei è stato presentato come uomo d'onore o lo conosceva da prima? Già lo conoscevo da prima. Ma prima che entrasse nella famiglia? A fare cosa no, a parte cosa no. Senta, anche per chiarire un po', lei ha detto che frequentava molte di queste persone. Sì. Anche prima che entrasse a far parte in Cosa Nostra. Sì. Di Cosa Nostra. Sì. Questa sua frequenza... Sì. Era determinata da che cosa? C'avevamo il contrabbando di sigarette. E tutti lavoravamo con le sigarette. Avendo pure attività commerciale della cagna che aveva io, facevamo pure le sigarette. E lei sapeva che queste persone erano uomini d'onore e facevano parte dell'organizzazione? Quando io ancora non ero a far parte di Cosa Nostra, vedevo che erano personaggi di prima linea, però non potevo capire se ero o meno. Dopo, quando sono entrato a far parte, c'è fu la conoscenza, la presentazione. Ma lei ha detto che ha partecipato a una riunione a Marano, presso i Nuvoletta, nel 1974. E c'erano tutte queste persone, o parecchie di queste persone. Quando lei partecipava a queste riunioni, che aveva una certa importanza, aveva già un ruolo o ancora no? No, ancora loro, quando prima era una persona, c'era Cosa Nostra. Se lo portavano dietro, vedi come se con poi, tommeno. I due anni dopo parlavano davanti di miei e mi dicevano, ma parecchio fatto, ma parecchio fatto. Accompagnavo i personaggi, però già vedevo tutte queste persone importanti. Ognuno per entrare a Cosa Nostra, non è che c'è una tua opinione, c'è un ruolo o 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 un ruolo. Io, sul storiero, il breve elemento è se è buono o no. E fanno con tutte queste persone che avevo un ufficio solo con me. È una cosa normalissima. Quindi c'è uno studio preventivo, lo dico per coloro che eventualmente non avessero percepito. Siccome lei ha detto che io vorrei capire una persona che entra in Cosa Nostra, viene messa al corrente dei segreti di Cosa Nostra, quando entra. Lei ha detto anche che c'è un certo potere nell'ambito del territorio da parte di questa organizzazione. Ma questo potere come si sente da parte della popolazione? Faccio un esempio per essere più chiaro. Se mi presento io a richiedere ad un negoziante dei soldi per i carcerati, me li danno? O se si presenta uno che fa parte dell'organizzazione, è la stessa cosa? Da che cosa si distingue da parte della popolazione? Non so se sono stati chiaro. Sì, sia pazienza di chiaro. In questo particolare, non ci andò lei, si prepara. In mezzo, se io sono di Cosa Nostra e controllo tutta la situazione del Borgato e del Rione, già conoscono, sono conosco a me, conoscono altri personaggi. Allora io sono i signor Sani, ci sono i miei piccoli e i miei roni. Allora già c'è una presentazione che è quella della Borgata Comanna. Allora ci va io, i miei roni, ci va a lei, i miei roni. Ecco, dico, da parte, come fa la popolazione a capire che chi si presenta proviene da quell'organizzazione? Sì, tutti, quando ci succede un topo, gli danno a mettere una, si hanno a cattare un negozio. Prima ci eccano, gli arrivano e si vanno a cattare un negozio. Prima non fai male, gli danno nel sciripiccio per cattare sì. Allora dopo già conoscono come hanno dato i casi. Allora lei vuole dire che per iniziare qualsiasi attività commerciale, industriale, imprenditoriale, nell'ambito del territorio controllato dalla famiglia, occorre prendere contatto con qualcuno della famiglia al quale bisogna pagare qualche cosa o comunque avere il permesso. Dopo che viene dato questo permesso, si sa già che c'è una presenza nel territorio da parte dell'organizzazione. Si sa vedere pure l'importanza, se è un negozio piccolo non paga niente, se è invece un cantiere o di una proprietà di canna paga percentuale o paga un mensile ogni mese. Deve chiedere comunque permesso, qualsiasi attività, anche se si tratta di un negozio piccolo. Se è un negozio piccolo se posso volare, non è più tanto. Quindi non è un atteggiamento per cura cosiddetta annacata che contraddistingue l'uomo d'onore o comunque delle persone che... Si annacano pure chi di senso un uomo d'onore. Quindi si sa bene che c'è questa organizzazione che controlla il territorio. E se qualcuno non sa che c'è questa organizzazione e vuole impiantare un'attività, che cosa succede? Ci succede che c'erano fuoco, ci mettono il boom, ma ammazza, non dipende di un fatto che cosa vuoi essere. Ci succede tutte le cose. Ma anche nella compravendita dei terreni, se uno vuole comprare un terreno nella zona controllata da una famiglia, ha bisogno del benestare, del permesso? Se è una cosa per fare su una casa, passa, ma se è una cosa per fare su un'industria, un cantiere, a pagare i piccoli, non è cosa nostra. E' un'attività produttiva e molto produttiva, evidentemente. Allora ci vuole questo permesso. Per esempio lei ha riferito di un'ipotesi... Come? I nomi? Scusi, allora poi lo riprendiamo, casomai se è possibile questo discorso. Domande su queste che abbiamo rivolto? Sì. Pronto, chiedo scusa Presidente, se ho ben compreso, l'imputato ha detto che avrebbe partecipato a qualche riunione, a qualche attività, senza che egli fosse ancora entrato a far parte di Cosa Nostra. Ho capito bene? Sì. E allora vorrei chiedere una cosa all'imputato. Come faceva in questi casi a comprendere fra gli altri partecipanti chi faceva parte già di Cosa Nostra e chi no? Ma non ha detto che... O può escludere che vi fossero altri che non facessero parte di Cosa Nostra? Quando lei ha partecipato prima di entrare a questa riunione, che abbiamo segnato poco fa, era in grado di distinguere fra quelli che facevano parte dell'organizzazione e quelli... Era in elementare, perché io quando c'era ancora... non era diventato Cosa Nostra, non butava a casa nella Cammare di Consiglio, ma noi di parlavano, non riuscivano a mangiare, non riuscivano a attagliare. Chi di che faevano bait, trasevano da rincio, una cosa elementare. Aveva precisato che loro parlavano fra di loro quando dovevano parlare, però... Ma ma sì, io non parlavo. Sì, no, 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 via la linea, la linea. Sì. Quindi rimaneva soltanto lui fuori? No, io. Se scendevo proprio, erano combinato, non trasevano manco, rimanevano con chi non raccompa. Quelli che non erano combinati, tra virgolette, restavano pure fuori. E' logico. Va bene. Continuiamo. Allora, riprendiamo il nome del Presidente. Eh? Il Presidente mi ha detto di fare il nome. Continuiamo il nome del Presidente. Non vuole continuare con il nome del Presidente. Certo. Cioè, serviva per l'associazione. Se ci sono domande che devono essere poste su questo argomento, possiamo farlo. Posso, perché sì. No, era un discorso che... Sì. Sì. Un attimo che continuiamo allora. Allora, io continuo poi eventualmente. Potersi che la faccia io e lei non ha più motivo di farlo. Grazie, Avvocato, ma non mi fa dire queste capacità taumaturgiche. Quindi eravamo rimasti al punto che per acquistare un terreno... Sì. Lei, per esempio, ha acquistato un terreno al di fuori della sua zona. Sì. A pagherino in Michele Greco se mi poteva accattare. Ha dovuto chiedere il permesso a Michele Greco per comprare il terreno. Perché ha approfittato il territorio di Michele Greco. E come, infatti, Michele Greco mi offrì un suo parente per fare la città un atto, ma non firmato da notare così, carta pagione e pagione, no? Cioè, vuole dire una scrittura privata? Una scrittura privata. Nei quali scrittura privata, compreso Michele Greco, nel argomento, c'è la proprietà, l'avendo di stato un certo Franco Ferrara, quando a me mi pararono, c'è la proprietà del nero ai fratelli Buccio e si pagherà la proprietà della casa. Io non sono nessuno. E là non diamo a noi, non diamo a dare pagione. Allora, chiariamo un minuto. Io le ripeto, così lo possono chiarire anche gli altri. Sì. Quindi, quando lei ha acquistato... Doveva acquistare. Doveva acquistare. Gli ha dato dei soldi? Sì. Quanto gli ha dato? Oh, 132 milioni. Quindi lei ha pagato 132 milioni. Sì. Senza avere nessun pezzo di carta. Nessuna carta. Perché io avevo un fallimento in corso pure. Avevo una procedura fallimentare in corso. Fallimentare. E la scrittura privata, così il compromesso, diciamo. Sì, è un compromesso, precisamente. È stato intestato tra un prestanome. Tra un prestanome, era un uomo d'onore della famiglia di Michele Greco. Era un uomo d'onore. Quindi lei stava tranquillo perché era un uomo d'onore. Non aveva successo mai una cosa del genere. Come infatti senti il suo proprietario con un foglio preliminare così. Fra il signor Conte e Franco Ferrara, Ciccio Ferrara, cugino del signor Michele Greco. Quando mi aveva imparato la proprietà hanno rigirato tutto. La proprietà c'era venire i fratelli Puccio perché era una società gerville. A caso non l'aveva c'era venire un altro moito. La prima memoria c'era catturata un moito. E se venire la proprietà? E chi si usano l'uomo d'onore? Dell'80. Quindi il terreno gliel'ha venduto Conte e Filippo. Conte e Filippo. Risulta documentalmente che l'ha venduto a Ferrara Francesco. Sì. Che è cugino di Michele Greco. Di Michele Greco. C'è la proprietà di San Reveniero, c'è la Venerò, la società Treville. E c'è il signor Puccio e Pino Greco che è Puzzella in società. E c'è, si figura lei. Ma in questo terreno, vicino al terreno del Conte e Filippo, ci fu un rinvenimento di acetilene che serviva per la produzione dell'eroina, di armi, tutto ricavato sotto l'autostrada. Sì. E questo allora era nel terreno di Conte e quindi in Conte e Ciaculli o nel suo terreno? No, era accanto al mio terreno, però la mia proprietà era sulla seressa, tutta lei mi trovava tutto il ponte sulla destra, però il territorio da signor Michele Greco, non dai signor Conte, è sotto l'autostrada. Quindi il territorio dove furono trovate le armi e l'acetilene per produrre l'eroina era nel territorio di Ciaculli? Sì, precisamente. Perché via Ciaculli, via Mirogiaferi e via Conte Federico. Ho capito. Quindi ritornando a questo discorso, per costruire un palazzo nella zona, il costruttore deve chiedere pure il benestare o il permesso? Il costruttore prima che arriva e si paga il palazzo, prima se non fuori, ma che appena arriva e lo paga o c'è stata un'autostrada all'aria. Quindi il costruttore prima che arriva in una zona, se non fuori, si deve informare se se lo può comprare il terreno e se può costruire. Quindi quando si sentono di attentati ai dinamitardi, ai cantieri, significa che è elementare per lei, per noi un po' meno. Che questa persona si è inserita in un territorio senza permesso. E deve uscire i soldi. Non esci i picci, lo se ne va. Per esempio c'è stato nella zona di Brancaccio l'episodio dell'acereria Ganci. Sì. Che a noi risulta che si è incendiata. Allora questo episodio da che cosa è derivato? A Bruciaro, perché si aveva accattato il signor Pietro Vernenco, questo è il territorio pure di Michele Grieco, la zona industriale, e si aveva accattato a Pietro Vernenco. Però a Pietro Vernenco, loro ce l'hanno richiesto troppo soldi, sempre passandoci il permesso al signor Michele Grieco. Dopo ci messero i bombi e ce l'hanno fuoco. E' così che si deve uscire. Quindi ho capito bene, questa cereria doveva essere acquistata da Pietro Vernenco per farci che cosa? Per farci cose di colore di suo cugnato. Cose di colore di un laboratorio di vernici? Una zona industriale per il suo cugnato. E aveva avuto il permesso di Michele Grieco. Però le richieste dei Ganci per ottenere, per venderla erano troppo alti. Troppo alti. Allora l'unica cosa ci lettono fuoco. Ho capito. E a lei questo risulta da che cosa? Cioè l'ha sentito? Perché in particolare la fabbrica ce l'hanno tentato più di una volta per vendere il cielo. Ma che dici? Quando venivano il pane usavo l'avano venne. Perciò non è che a Matteo l'ultimamente quando ci fosse una bomba prima c'era un cuo buono. Quando c'era un cuo buono c'era un cuo buono c'era un cuo cattivo. Allora, avevano provato, quindi a lei risulta personalmente questa che durava da alcuni anni. Avevano tentato con le buone e poi non sono più riusciti e hanno messo, hanno fatto incendiare. Quando ha comprato questo terreno da Conte Filippo c'è stato un intermediario? No, no, l'intermediario c'è stato Pino Castellano, cugnato di Michele Greco, perché c'aveva la proprietà di attaccare con me. Un sanzalo ho facendo e ora ho meccanoci. Pino Castellano ha qualche carica? E ho caporicina, il Conte Federico. Io stavo a meccanoci, io dovevo un terreno attaccato con me. Non ci fai lavoro io, ci fai pure io, di cebbi una fumarone. L'avevo pure fatto pure io. E ho meccanoci. Con questo chiedo abbacenzo un confronto, c'è di me. Senta, ma allora eravamo nel campo delle costruzioni. Sì. Quando ci sono le guardianie che si impongono alle costruzioni, questi guardiani, il risultato è che qualche guardiano, era guardiano contemporaneamente di 100 cantieri. Sì. Come è possibile? Perché nella zona, prima c'erano una buona mazzetta, una buona uscita, le piccole, c'erano qualche appaltamento, quando arrivano nella zona a fare le ravvegare. Più ogni mese c'erano uno, uno, uno e mezzo, le guai di denaria. Che è? Una mazzetta pagata, ma senza niente. Quindi il guardiano non è che sta veramente sul luogo al guardare le costruzioni? No, è che c'è chi la ruba l'olta. E cosa nostra è quella che la ruba l'olta. È tranquillo. Ma lo devono sapere nella zona che quello fa parte, è protetto. La gente lo sanno. La gente nelle regioni sanno tutto. Presidente, devo so che sappiamo tutte queste cose, però averle detto da qualcuno che le ha vissute mi pare più interessante. Poi se non le vogliamo porre, non le dobbiamo. Non con le obiettive specifici, senz'altro. No, continuiamo. Ho appena concludo questo argomento, puoi dire. Se poi vogliamo continuare per altre cose. Per quanto riguarda queste attività imprenditoriali, diventano soci oppure hanno solamente una loro attività? Se ci interessa, ci trasano, o volero volare. Se ci interessa non ci fanno volare, ci fanno fare un palazzo con 10 piani. Rami 100 milioni. O se non ci interessa ci metterà per cento di lavoro da rito. Ma quindi qualsiasi... Lei, dicendo questo, significa che non c'è costruttore a Palermo che non possa necessariamente costruire... Non c'è una mazzietta. Non solo se non esce, ma se non è protetto. Sì, sì, è chiaro. Questo è elementare. A base principale. Ficcità c'è un bello guaragno. Quindi c'è questa attività che è tranquilla, è sicura. È normalissima, sì. Come infatti non è stata nocciunta all'aria, no? Ma anche nelle zone nuove della città? In tutte le parti, in tutte le parti. Perché ogni zona ci hanno i suoi, perciò che hanno... In una zona ci sono e in una zona non ci sono. Quindi, praticamente, gli uomini d'onore della famiglia sanno sempre chi c'è dietro ogni costruttore, chi effettivamente costruisce. E prima, subito appena arriva, ebbene nella palla meccanica, subito, se non hanno avuto l'olio, non riesce a mettere i bombi nella palla meccanica. O se no, i ragazzi ce l'hanno affarito obbligatoriamente. Ha detto che se si presenta un costruttore, e non si presenta in un determinato territorio, la prima cosa che si fa è vedere se si è interessato di sapere la zona da chi è controllata. Se no, appena c'è una palla meccanica presente sul posto, la prima cosa che si aggredisce con un attentato è la palla meccanica. Questo era quello che ha detto. Vabbè, allora, non so, su questo... La domanda è su questo punto. L'Avvocato Fileccia aveva, insomma, per la verità si era alzato prima. Comunque, per me è lo stesso. Nove. Questa è la domanda. Se è colui che deve iniziare un'attività produttiva, commerciale, di costruzione, industriale, di genere, è uomo d'onore pure lui, deve pagare pure la tangente, distinguendo se si appartiene alla famiglia del luogo dove deve sorgere questa attività, o se proviene da altra zona. Se il costruttore è uomo d'onore, le cose come vanno? Se è un uomo d'onore, un costruttore, se c'è l'amicizia non paga, se non c'è l'amicizia, è proprio l'amicizia, c'è sempre il regalo? C'è l'amicizia? Deve dare un regalo. Se c'è l'amicizia non paga una lira, come è successo nella nostra zona. ...operi nel territorio svolgono un'attività commerciale, o industriale, altrimenti si richiede sempre un contributo. O pagamento. Altra domanda. Nella premessa fatta dall'imputato, io lo chiamo così, secondo il quale Bontari aveva dei nemici nell'ambito della propria famiglia. La prima domanda che faccio è questa. Tutti quelli delle altre famiglie erano a maggior ragione nemici di Bontari. No, no, no. E poi arriviamo. Abbiamo, io ho ammesso... E poi chiedo se quelli delle altre famiglie che erano ostili a Bontari, pagavano pure la tangente a un Bontari che non veniva mai interpellato e di cui non si teneva conto. Questo è... No, l'Avvocato Pensignano ha detto se c'era l'amicizia, allora lui lo consentiva senza bisogno. Se erano nemici non c'era l'amicizia, perlomeno. Io mi rendo conto che è molto complesso questo indagno. No, 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 no. Con riferimento a Bontari, alla famiglia Bontari, dobbiamo tenere conto il periodo in cui il Bontari era in disgrazia. Tanto vero che aveva dei nemici all'interno della famiglia. Si presuppone che tutti gli altri delle altre famiglie erano tutti dei nemici. se gli uomini d'onore che costruivano in territorio di Bontari pagavano la tangente. Questa è la domanda che io voglio fare. Io ho un motivo di fare questa domanda, Presidente, non è che la faccio a caso. Allora, prima chiedere se questo che lui ha detto si riferisce al periodo in cui si preannunciava la guerra di mare. Io lascio a lei. E poi, casomai, fare l'altra domanda. Sì, sì, sì. Cioè, se quello che lei ha detto si riferisce a un periodo anteriore all'inizio di questo contrasto in senone... Anfino all'80 era tutto non in male. All'81, pigliare il potere perciò è finito il film. Va bene. Avvocato Fileccia, se è legato a questa domanda... Presidente... Sì, un attimo, mi sta parlando l'Avvocato Fileccia. Posso? Sì. Chi sta parlando? L'Avvocato Fileccia. Io ho il numero 9 accesso. E c'è la linea? Sì, posso parlare. Presidente, mi scusi, poco fa lui ha parlato di aver acquistato per cento errotto i milioni, centotrentadue milioni del terreno qui a Palermo. Sì. Risulta dagli atti, Presidente, premesso che il signor Contorno, a causa delle sue vicissitudini giudiziarie, tra arresto, latitanza, soggiorno obbligato, non aveva molto tempo per lavorare liberamente, io chiedo, poco fa ha detto di aver acquistato un terreno per centotrentadue milioni. Risulta dagli atti di aver acquistato la tenuta del Marchese Savini in Roma per duecentoventi milioni. Risulta di aver comprato una villa, mi pare, in via Cassia, un'altra villa nel Veneto. Aveva due macchine blindate, una Volkswagen e una 112. Al momento del suo arresto, oltre i centoventotto chili di hashish e alla morfina base, sono state sequestrate perché anche queste sotterrate centoventicinque milioni. E io mi chiedo, di dove li prendeva tutti questi centinaia di milioni? Lei se lo chiede, a lei. Come? Lo chiede a lei o lo dobbiamo chiedere alle imputate? Lo chiedo a lei, Presidente, perché la rivolga la domanda al signor Contorno. Non credevo che si limitasse lei a... Dice l'Avvocato, tutti questi soldi da dove li prendeva lei? Sì, ma l'Avvocato è malinformato della partenza perché a casa io nel Veneto l'ho comprato a 78 mentre era soggiorno e l'ha comprato un mio familiare per comprato per 50 milioni. Se vuole tutte le applicazioni sono pronte a darceli. Vendute, comprate 50 milioni, vendute all'81 per 140 milioni, venduto l'arredamento di casa per un altro 40 milioni, ho preso 180 milioni solo a Venezia, nella villa e comprato per 50 compreso i mobili ho preso 180 milioni. Perciò la rimanenza quando sono arrivato a Roma ho preso una casa per 50 milioni, ne ho dati 110 al signor Coe, al signor Savini che l'ho reputo in 10 perciò faccia avanti e ritorno in 10 i soldi erano sempre uguali che i soldi che giravano. Le macchine blindate l'ho fatto dopo il mio attentato, 100 milioni di macchine blindate, tutti i 120 milioni che ha trovato, dove l'ha trovato la rimanenza? No, no, le ville, le case, è una cosa molto montata dell'Avvocato. Ve lo dico io dove li ho trovati, ve lo dico subito. Va bene, poi ce le dirà l'Avvocato, non è che dobbiamo fare, se le domande dobbiamo fare all'imputato. No, no, che c'è, stiamo mettendo le domande. Avvocato Russo, se deve fare una domanda, Avvocato Russo. Infatti, ho esagerato in difetto perché c'erano altre cose da dire. Va bene, abbiamo sempre tempo. Dunque, Avvocato Russo, 19. E' una precisazione, anzi, nel corso dell'indagine svolta da parte del consigliere relatore, il dottore Grasso, consigliere Alatre, perdono, mi pare di avere percepito che il contorno non si sente granché bene per quanto riguarda attività imprenditoriali, attività di costruzione, abbia detto, e qui al proposito forse sarebbe opportuno che facessi la domanda per avere meglio il quadro più completo. Volevo sapere questo, si imponeva al tizio che andava a costruire, se è imprenditore, si imponeva la tangente oppure si poteva anche imporre la presenza di soci nell'ambito della società che veniva gestita. Io non ho sentito bene, questa è la domanda, se per favore mi viene chiarito il punto, perché da parte nostra non si è sentito bene. Lei ha risposto poco fa, se lo volevo ripetere può darsi che non abbiano sentito. La domanda, si poteva nascere cupizzo o diventarci soci, quello che uno voleva? quindi anche diventando imponendo dei soci, come voleva? Poteva uscirsi. Grazie, quello che volevo sapere. No, ti potrei tradurre oppure... Sì, sì, prego. Ma per completare posso inserire io? Questa società eventuale risultava da qualche documento? Ma questa nella mafia documenti ne trovate pochi e niente, non esistono in nessuna parte. Tu, avvocato Monaco. Sì, numero 10? Sì, Presidente, per completare l'indagine svolta dal consigliere Alatele, quando ebbe ad acquistare il terreno da Conti con quella scrittura privata a nome del Ferrara, se non va derrato? Il periodo? Il periodo se lo ricorda quando... La scrittura è stata 78-79 con un acconto di 10 milioni. Nell'atto che si doveva fare l'atto si hanno dato l'82 e l'81 e si hanno dato altri soldi. Questa è la rivolta. Quindi, in un primo acconto viene dato... 10 milioni. Nel 78. 78-79. E il saldo intorno all'82? 81-81, non ricordo. Ci sono le carte che parlo. Va bene. Io volevo sollecitare il ricordo, non le carte. No, possiamo continuare allora? Allora, Presidente, non so se sono gradimenti, se continuiamo o continuiamo su queste... Non lo so. Continuiamo, pretendiamo l'elenco dei nomi. No, perché se completiamo tutto il rapporto mafia-territorio-Cosa Nostra e... Possiamo continuare. completiamo, vediamo che domande... Facciamo però delle domande che siano delle domande che quell'imputato possa rispondere specificamente. Sì, sì, no, no. Si avvicinavano a far diventare un modo d'onore. Si avevano tutti i meriti. Quindi si iniziava, in pratica, da una certa... Avvicinarle. Una certa tendenza alla delinquenza nell'ambito del territorio, con i piccoli furti, poi con le prime rapine, e poi man mano quando diventavano delle persone che avevano un certo valore nell'ambito delinquenziale, si cercava di farli entrare nella organizzazione. Se avevano una famiglia che non c'erano coin, se non c'erano... erano gente buona... Sempre che il certificato mafioso era apposto. Se non avevano denunziato mai a Coccherone, allora già metteva in ciaia a far parte. Se invece c'era una contravenzione, aveva denunziato un pontoniere... Ma questo anche allo scopo di controllare questa attività? Eh? Allo scopo di controllare questa attività delinquenziale? E chiamarla sotto controllo? È chiaro, era portata in mano. Allora se Coccherone faceva qualche cosa, subito si sapeva. Se dovevano rubare una casa, se dovevano rubare la banca della boicata. Ora se questo è la carriera prima di arrivare a entrare nell'organizzazione Cosa Nostra, chi entra sa già che può essere chiamato a commettere delitti, perché lei ha specificato che ci sono delle regole che non si possono tradire. Sì. E che le punizioni vanno da un'abbassonatura alla morte. Sì. Qualsiasi di queste punizioni, secondo il nostro codice penale, è un delitto. Sì. Quindi chi entra sa già che può essere chiamato a commettere delitti. Sì. E dopo c'è un particolare che entra, non può andare più in dieci. O entra, o è finito. Perché io mi ci puoi stare a me, ma ci puoi andare a me a me piace perché ti puoi fare queste cose. E c'è uno che è inserito, finito là. O fa o muore. E ti decido di cui io me ne voglio unire. Non esiste. Tu puoi essere entrato. Non si può più uscire. Non esiste, muore. Quindi si può uscire solo con la morte. Sì. O se no lo devono buttare fuori a Hidro, non ammazzano. Ma prima di entrare si manifesta una sua volontà. Si può entrare o non entrare? Sì, ma quando già se l'avvicinano, se è una persona corretta, subito ci trasi. Se invece è un lazzaro non ci trasi, è chiaro? Senta, oltre al permesso per commettere furti, rapine nella zona, nel territorio, coloro che li commettono, danno un contributo all'organizzazione? Queste sono fantasie originali, ma si contribuono per la prostituzione, la rapina, il refuito. Quando sono queste rapine di cose non succede. Se è una rapina di miliardi o centinaia di milioni, può avvenire che magari ne sanno la briga da già usano, lo ci trasasano poi. Quindi per i piccoli reati, anche le rapine commesse nella zona, non si richiede più? No, non esiste. Non si richiede nessuna tangente? No, no, non c'è nessuno... Quindi come contropartita del permesso per poterli fare? Perché ci vuole il permesso o no? Ci vuole il permesso, ma per me sono i rapinatori che non uscono tutta la cosa nostra. Allora, se ne escono le loro città, da mattina vanno a fare una rapina. Cosa? Sa' acciccare quei caffosi di interesse. Perciò che da mattina vanno a fare una rapina. Nescono i miei cavoli su. E quindi è sfuggito un po' al controllo dell'organizzazione questa situazione? Non è più in grado di garantire che non si commettano rapini o futti in una certa zona? Non si può controllare, è chiaro. Perché i ragazzini sono tanti che vanno per la mattina. Quindi è una crisi... È una cosa normale. È entrata in crisi anche l'organizzazione, già da tempo. L'imputato, nel suo interrogatorio di ieri, ha parlato di un decà. No, però di ieri... Scusa, riguarda questo. Posso dire anche... No, 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 se riguarda questo... No, no, dico soltanto che riguardi questo argomento. E riguardi questo argomento. Il giudice Alater ha fatto una certa indagina su come si diventa, quali sono i requisiti e così via. Ha parlato di un certo decalogo che esisteva. Ne ha ricordo, signor Presidente? Mi pare detto che esisteva. No, l'ha detto un decalogo. Ha detto che c'erano... Ha detto che c'erano... Ha detto precisamente specie dieci comandamenti. Dieci comandamenti. Ah, specie. Noi vorremmo conoscere esattamente quali sono questi dieci comandamenti che il cosiddetto uomo d'onore doveva osservare. Come ha detto specie dieci comandamenti? Ma questa specie, se sono nove, lei si accontenta lo stesso? Ma io veramente ritengo che sono necessarie conoscere tutte e dieci, visto le regole rigide per cui, ove se ne tradisse uno, poteva anche incorrere la pena di morte. Ma se il signor Contorno ne conosce nove, ci contentiamo anche di noi. Sì, insomma, ha dato una specie di dieci comandamenti. Cioè, in sostanza, una serie di regole che riguardavano la... E le vorremmo conoscere, mi sembra essenziale, Presidente. Lei si ricorda quando ha fatto il giuramento? Sì. Lei ha giurato di fare alcune cose e di non fare altre cose. Sì, ma nel giuramento non è che dice che gli ammazzerà uno. Nel giuramento non ci è messo. No. Nel giuramento, in base principale, quando il principale mi chiama, io ho sempre disponibile. Perché mia moglie si apporto rire e corre per dire che il principale non ha di assistere alla moglie. Ci sono altre, ecco. Secondo, non guardare le donne degli altri. Di altri non gli riccio a rubare. Fa lavorare onestamente e poter mantenere. Dire sempre la verità. Se tradisce la cosa nostra, brucia come l'immagine che bruciano nelle mani. E tante altre cose che non ricorda per il momento. Tutto là. Presidente, il lavorare onestamente, secondo il criterio mafioso o dell'organizzazione, perché lei ha detto che già commetteva contrabbando di tabacchi prima ancora. Quindi questo onestamente lo dobbiamo mettere, tra virgolette, in relazione al traffico di stupefacenti. Non credo che sia lavorare onestamente o altri affari, o fare le intimidazioni, o fare le cose. D'accordo. Ma siccome c'è l'argomento, quando si pavivano i sigarette, era una cosa anche lo Stato, lo può permettere che se non si pavivano i sigarette a Napoli succedevano rabbini, succedevano morti. Invece lo Stato era sul passaggio, diciamo, la dogana che non si pagava. Ma onestamente si metteva il capitale. Non era una grande cosa pericolosa, generica. Invece quando già si la gioca mi succederà male cose. Perciò, la diamo onestamente anche nel campo di sigarette, non era molto grave come la gioca. Questo mi riferisco. Sì, ma dice anche ricevere soldi, per esempio, così come abbiamo chiarito, è sempre onestamente per la vostra mentalità. No, non diventa onestamente, diventa disonestamente. Però era consentito. Era consentito, sì. Precisiamo meglio questo rapporto. Presidente, mi concedo di completare. Presidente, mi scusi. Per esempio, fare una minaccia per ottenere una somma, quello che lei diceva, oppure intervenire nell'attività economica di un imprenditore edile, per esempio. Cioè, gli dicevano, se tu non ci dai questa somma, una parte dei tuoi guadagni, noi ti mettiamo le bombe, come ha detto poco fa lei. Ma loro, mi scusi, io ne riciccavano quanto lui guadagnava. Lui, io vorremmo, vedevano a uno, ci mi ha dato 100 milioni, quando non aspettavano a fare 100, mi ha dato 100 milioni. Dopo, se chi diceva bene o non ci va male, se ne fregava, ci interessava, a so vai. Dico, ma questa non è un'attività onesta. No, 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 ma chi l'ha detto che è onesta? Io mi riferisco a dei tempi migliori, non quando c'era la gioca. Sì. Io parlo ancora di tempi del 74, prima, anche del 75, dopo queste cose mi se ne avviene. Senta, ma anche prima della droga, questa attività è storsiva? Sì. Era ammessa dall'associazione, avveniva. Ma, però, ancora non era tanta così forzata come diventò dopo la droga. Dopo la droga, gli ci ripeto un camminato in più, e allora mi sono a fare la qualsiasi. E perché? Perché si ammazza solo per interesse, non è che cosa non sa, come si diceva una volta. Ora è diventata cosa mia personale, ognuno è cosa mia personale. Ma secondo lei, perché dopo questo risvento della droga? Se ammalari ci ripeto, vi piccolo, con un anno già passai, allora vanno sempre più chiossai. Perché i guadagni sono stati enormi. E allora, vi ripeto se ci filmò. Questo successe. Bene, avvocato. Scusi, completare la prima domanda, perché era la premessa. Vuole spiegarci l'imputato che cosa succedeva se un affiliato, un uomo d'onore, contravenisse anche a uno magari dei più importanti specie di dieci comandamenti. Che punizione c'era, cosa succedeva? Sì, l'ha già detto per la verità. Soprattutto se era ripetuta, non credo, Presidente, vediamo un po'. Sì, ha detto quali erano le punizioni che si ponevano, l'ha già detto, comunque possiamo... No, 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 specificamente a queste specie di doguano. Quale specie? Cioè la violazione delle regole? Un po' tutti, un po' tutti. Allora diciamo, per quello che riguarda le donne altrui... Non so, Presidente, li ponga lei un po' tutti. Oppure, no, lei la sua faccia della domanda, io... Presidente, no, preferisco, vuole scegliere lei l'ordine, io non... Quelle che ha detto lui, io non ho potuto prendere appunti. Lui ne ha ricordato quattro... Non ho potuto prendere appunti. ...di impegni dell'uomo d'onore. Dire la verità, rispettare le donne altrui. E anche di queste cose, l'altro è quello. Se per esempio... Forse l'avvocato vuole sapere se c'era a ogni violazione corrispondeva una pena... La sanzione che poi era un comportamento... Oppure se era il prudente apprezzamento del capo famiglia a infliggere la violazione. Evidentemente, non una sola avvento forza. Quali erano le sanzioni? Lei vuole sapere... E se poco come reagiva, ecco, come reagiva il capo famiglia... Per esempio, se c'era una violazione di questi due obblighi, dire la verità, oppure quello riguardante le donne altrui. Si sta a vedere il capo... Che sanzioni ci poteva noi? La sanzione poteva partire. Se era una minima, se era una donna altrui, moriva. Se non diceva la verità, poteva morire duro, l'altra cosa si potevano rimediare. La base principale era la donna. Se io mi mettavo con una donna di un altro uomo d'onore, non c'erano più il campo, era finito. Per donna altrui si intende donna di altro uomo d'onore, non donna altrui. Siamo veramente d'accordo. Aspetta, aspetta. Una donna di uomo d'onore? Donna di uomo d'onore. E quando, per esempio, si trascurava la famiglia, così, insomma, si dice un po' tutte queste cose. Se c'erano delle, dal punto di vista morale... Non si rispettava la propria donna. Non si rispettava la propria moglie. Ci potevano essere dei richiami, ma no, pene di morte, non esisteva. Poteva succedere che veniva posato, Presidente, dico, questo. Ah, poteva essere anche posato. Poteva capitare, ma raramente in merito. Allora, per i rapporti, per i rapporti, quindi, con la delinquenza, se si può fare... No, per favore, per favore. Dunque, continuiamo. Allora, concludendo con i rapporti con la delinquenza, si può... Avvocato, per favore. Che l'avvocato Alberini, sembra. L'avvocato Alberini, ma stanno polemizzando fra l'ora, non posso te... Io non lo vedo. E lei farà più dire pure... Allora, per i rapporti con le pubbliche amministrazioni, invece. Per entrare, non so, all'AMAT, all'Acquedotto, all'AMNU, alle aziende municipalizzate, la famiglia si poteva interessare per gente del quartiere, oppure... Proprio per questa materia che lei mi stia domandando, ci voleva tutto il senatore, tutto il grieco, era tutto in mano. Per la rimanenza, tutti si riferivano all'Aito, come mi riferivo pure io, più a me frate. Lui era un uomo in mezzo alla politica e tutti questi lavori l'aveva in mano. Come, infatti, tutta la maggior parte, per la munizia, per l'autista nell'autobus, e per l'Acquedotto, l'aveva tutto in mano, questa operazione, tutto il grieco, i vagiassi. Ma, e come poteva fare? Perché era in mezzo a tutti questi argomenti in campo politico, e ci peseva in votazione, allora manteneva il partito, e allora lui, per questi argomenti non c'erano problemi. L'unica persona che avevamo era Salvatore Greco, senatore, per questa materia. E è venuto meno lui, quindi vi è venuto meno la possibilità di sistemare delle persone? Ma a me, per esempio, mi venne io con un frate più unico che mia. Chi? Giorgio. Lui doveva fare ingiare all'Acquedotto, se no all'Ama, ci diceva sempre se, se, ma si vede che già covava qualcosa di sotto, e mi fanno la sommanzaccia, però comunque non è importante. Ma un uomo d'onore, quindi un uomo d'onore poteva entrare in queste aziende? Ma in un uomo d'onore ne abbiamo tante, l'Amonizia, l'Acquedotto, e altre cose. E chi sono? Ce li dica. Abbiamo Pullarà, abbiamo i pesci di Filippo. Pullarà chi? Pullarà Giovanni Battisti. Abbiamo... E dove è impiegato? A Monizia. Dove era? All'Amno. Intende? L'azienda municipale? L'azienda municipale... Non so come si chiama. Vabbè. E Croce Alfredo e Croce D'Obeno? Croce Alfredo erano l'autista nell'autobus. E tanti altri che a nome per il momento in via. E Teresi Giovanni? Teresi Giovanni aveva appaito la Cassina, perché dice che lui fai l'evo manovalida, invece fai l'uomo d'onore. E com'è potuto succedere? E com'è potuto succedere? Perché io signor Cassina ce l'avevo in di mano. Dopo che l'ho sequestrato, si è messo in di mano, no? Quindi è stato assunto dopo il sequestro di Cassina? No, no, lo già l'aveva pure prima. Però già ce l'aveva prima, ma poi dopo lo segui il sarro e ciò ce l'hanno in mano. E lei poco fa l'udeva al periodo delle elezioni. Sì. Perché nel periodo delle elezioni vi era un'attività particolare del capofamiglia per procurare voti oppure no? Se fanno bontà, la politica non ci ha mai interessato, infine che era viva. Perciò le altre famiglie, poi davano in votazione, le hanno buttate a chi, riuscite a fare cucina, i loro parenti, e davano in votazione a chi ci interessava. Era un beneficio in cosa nostra che si faceva. Perciò si favano i partiti che non voleva. Questo succedeva ogni anno. Dall'80 a venire qua non lo so più se è successo. Quindi questo antecedentemente, lei fino all'80 può... Sì. E quest'aiuto era disinteressato... No, era proprio disinteressato personale, a tempo se venivano da bontà, non aveva nessun interesse. Dopo quando c'era bisogno di qualche cosa, se veniva il senatore, il senatore aveva tutti stati aperti. L'uomo c'è un travaglio, aveva tutto in mano. Non c'è un lavoro tutto. Ma l'organizzazione aveva bisogno dell'uomo politico? E' chiaro. In certe cose, per esempio, se c'erano i piccoli di una banca, quando uno macina i mannarina, e c'è un movimento da c'è una bella meleaite, e c'è una bella giri, le meleaite, la paiti del satto, la paiti di fabbricate. Ciò si guadagnava in betificio. Ma qualcuno... Lei sa di qualche episodio per... Ha fatto un'allusione, ha parlato di mandarini, di contributi della comunità economica europea. Le mannarine ce n'era una specifica quando macinavano i mannarini e ne favano rete, o quando macinavano la bagherina e lo signor Aiello. Lei per macinavano intende la distruzione dei mandarini per conto... Ce n'arrivava la cascione, erano 100 cascione, perciò questa era una truffa bella preparata. L'avevano con la via, a mano loro in temano. Chi? Aiello, il signor Michele Grieco, l'avevano loro la posizione in mano. Non trasevano un camion con 4 cascione, erano 100 cascione. Era una truffa. I miliardi di rilasci che trasevano. Perciò si arricchero con facilità pure, in merito. E lei... Io ho avuto un particolare che aveva un cucino che avrà 30 anni, 35 anni. Nella mia vita l'ho visto tre volte che figlio era una sorella di mia madre. Una volta avevano il signor Michele Grieco, Michele Saccone, con Michele... Michele Saccone? E c'era il suo mio cucino che aveva un dottore agrario. Allora, a prendere il mio cucino, diceva, ma io non lo conosco. Nella sua vita ne avevo visto qualche volta perché era una persona politissima. Io ci appaggire a parlare a Baccherea, un fattore, fai passare i cammi, giurisolo a chi. Il mio cucino dice, ma che stai dicendo che era una persona molto corretta? C'è, ho fatti, ho dissipato pure la tesi. Ma io dice, perché mi stanno parlando la tesi se sto lavorando non esce niente. E non so come è andato a finire perché dopo non ci fu il giù. Nel senso che la quantità di mandarini di struttura... Quelle che dicevano loro dovevano fare in poche parole. E Saccone Michele non era della sua famiglia? È della mia famiglia, di sì. E questo in che periodo? Questo è stato 78-79. C'era un macino a Baccheria, che aveva lo segnaiollo di Baccheria, e ci sono andati insieme a loro e noi macinavano i mandarini. E quindi lei era presente e assistito a questa... E l'oggi, un regalo, fuori fantasie. Sì, che vuole parlare. Avvocato Veneto? Solo che io non... Va bene, va bene, dica. Sì, è una cosa reggibola. 1-0-1, grazie. Sì, grazie alla linea. Solo un chiarimento. Ha detto di Pullaragio Van Battista e della sua assunzione all'anno. Vuole specificare attraverso quale sistema e quale procedimento fu assunto per quanto di sua conoscenza Pullaragio Van Battista alle dipendenze dell'azienda municipale? Sa lei come fu assunto il Pullaragio? C'è una amicizia con questo ne fece e ne è da manco l'altro. Perché ci sono un avvocato non è altro. Ha capito l'avvocato Veneto? Presidente, io ho chiesto una specificazione di fatti, non una conclusione. Non c'è un documento in mano. Benissimo, grazie. Prego. Ah, possiamo riprendere... Avvocato Zampardi. Diciassette. Diciassette. L'imputato ha parlato o ci ha riferito di una circostanza riguardante il proprio fratello che non è stato assunto all'AMAT. Ci può dire in che periodo si è interessato per far assumere il proprio fratello all'acquedotto all'AMAT e presso chi? Ma presso chi l'ha detto, mi pare. Comunque, in quale periodo si riferisce a questa aspirazione del suo fratello? Settantassette, settantotto. Presidente, un'altra domanda. Si può dire le circostanze secondo quello che a lui risulta circa l'assunzione di Croce all'AMAT? Croce e Giorgio. lei che cosa risulta dell'assunzione di Croce? C'è il parrino del signor Alfredo Croce che sia l'AMAT sia uno che sia l'altro c'è il dottor senatore per amicizia? sì, per amicizia perché erano figliozze dopo erano pure cosa nostra allora la cosa viene più facile. Va bene, grazie. Prego. No, continuiamo. Ancora in domanda l'Avvocato Mono? Sì. Senta, a meno che non ci sia un programma diverso. No, 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 dico se è attinente a quello che ha detto. Sì, sono sempre attirente alle dichiarazioni che ha reso stamattina e oggi. Vorrei chiarito se l'imputato ricorda con esattezza il mese e l'anno in cui si allontanò da Palermo per andare a Roma. Dopo l'attentato? E chiaramente. Lei ricorda esattamente il mese e l'anno l'anno penso che lo ricorderà facilmente ma il mese se se lo ricorda quando l'esero l'anno vuole l'81 dopo 10-15 giorni mi ha attentato. Un ricordo preciso a rimanere. 10-15 giorni mi ha attentato. C'è nel rapporto se ci interessa l'avvocato c'è il rapporto alla collegia. Vorrei anche sapere Presidente se lei lo ritiene fare questa domanda questo terreno che egli acquistò a Roma sappiamo per la somma di 220 milioni era un terreno recintato un podere c'era una costruzione le caratteristiche di questo terreno era un terreno libero era un terreno recintato con cancello le caratteristiche di questo terreno era un terreno che era delimitato da una recinzione c'è va bene facciamo il nome allora sì il nome no al Presidente vuole parlare alzo la mano e dico lo giuro Presidente io un momento fa qualche ora fa avevo fatto presente che era necessario che si chiedesse preventivamente vi faccio parlare Presidente io vedo che finalmente si è stabilita si è capito da parte di tutti che gli avvocati hanno una funzione che esercitano lo farà l'altro con molto caro ma non l'ha mai messo in me la prego mi fa formulare la mia richiesta e poi lei decide perché se no perdiamo tempo poi finisce che non ci comprendiamo alla fine siamo tutti scontenti ci sono dei malintesi che non abbiamo combinato niente e da tanto tempo da quando il contorno è lì che specifica che molte cose siano avvenute nel 77 e nel 78 non le elenco le cose che lui ha detto che sono avvenute nel 77 e nel 78 le dico però che nel 77 e nel 78 il contorno è stato nel 77 a Lucciardone nel 77 e nel 78 asfossò a Venezia il 14 luglio del 78 fino al 29 settembre del 78 ringrazio l'avvocato Alberini per avermi dato alcune di queste notizie in carcere a Venezia per truffa io vorrei che si chiedesse la biografia del contorno dal 75 in poi per vedere che cosa resta di periodi in cui verosimilmente lui potesse conoscere le cose che ci viene a dire qui perché mi sembra che tutto questo arco di tempo mi sembra che sia coperto da carcerazione da soggiorno da detenzione l'avvocato io ho messo l'intervento dei difensori in questa fase sulle domande singole che vengono fatte questa è una domanda di carattere generale che poi la possiamo fare lei mi potrebbe obiettare che c'è una cartella biografica del contorno ma come la vado a pescare la faremo senza fra 400 mila pagine a cui si aggiungono le 20 mila che già abbiamo raccolto non è specificamente ancorata una domanda che abbiamo fatto noi è una domanda di carattere generale per il momento non la metto la faremo posso fare una domanda allora presidente ma questo senza un'altra ma guarda con signore però guardi questo io glielo ho già detto perché lei ritorna su un argomento perché credo che mai come in questo momento sia evidente la necessità di questa puntualizzazione lei non l'ammetta una disposizione non è vero che non l'ammetta mi consiglierà andare a chiedere ma posso benissimo ammettere in un'epoca successiva io semplicemente è una mozione d'ordine che stavo facendo lo lega presente è un'esigenza però non vorrei ripetermi per la terza volta nei suoi confronti non mi ripeterò sono stato chiamato in causa 79 si la prego avvocato Alberini no presidente scusi no no io le do la parola ma comunque cerchiamo di limitarci perché spezziamo l'interrogatorio poiché sono stato chiamato in causa per una forma di cortesia che ho usato al collega forma che è stata ricambiata con una scorrettezza da parte del collega glielo dico apertamente volevo dire perché devo chiarire la corte perché ho dato quelle notizie al collega perché naturalmente io ho avuto modo di difendere il contorno di assisterlo in alcune passate situazioni non c'era niente di strano perché è noto e notorio che era stato al confine a Fosso e che aveva subito un processo a Venezia dal quale è stato assolto con formula piena che era stato arrestato a Roma e quindi ho dato queste notizie in perfetta buona fede per fare una cortesia al collega ora sono profondamente pentito io questa volta come contorno si è sono profondamente pentito e mi associo e mi associo a contorno è inutile fare è inutile fare gli spiritosi in una situazione che io ritengo profondamente offensiva perché non ci si deve comportare così mi dispiace di essere stato cornesi però scusi presidente proprio per evitare tutte queste storie io personalmente invito il mio assistito a dare alla corte tutte le spiegazioni in questo senso quando è stato quando è stato liberato e se poteva essere anche in altri posti successivamente alle carcerazioni dove sta le chiederemo senz'altro per ora ultimiamo questo no presidente perché si lascia si lascia quest'ombra su dei comportamenti o sugli spostamenti di contorno poco si parla e allora io faccio io la domanda la faccio mia presidente invito contorno a chiarire alla corte questa situazione o la fa lei o la fa un altro dispensore mi permetta per me la stessa cosa qua c'è un ordine che io ho stabilito e quindi si deve rispettare no va bene per favore non facciamo polemiche inutili l'avvocato Bellarista voleva fare una domanda poi la corte fa proprio la sua domanda avvocato Alberini e avvocato Bonsignore e quindi chiederemo al contorno tutti questi precedenti sulla sua e sul periodo di disincarcerazione va bene basta avvocato Bonsignore dunque avvocato Bellarista mi pare che sia molto più importante completare una certa indagine se mi consente signor Presidente poco fa l'imputato contorno ha parlato di un cugino dottore agronomo credo che si era trovato nel baglio Favarella ci può precisare il nome di questo prego a Bagheria era questo suo parente ha un nome che ci può dire lo ha detto nell'interrogatorio già l'ha detto avvocato nell'interrogatorio ho scritto ho reso al giudice il sottore se vuole che lo rinchiediamo per vedere se ha detto la verità grazie signor Presidente me lo rifiuto perché l'ho detto nelle carte e non lo voglio mettere in valle alle onde e farlo accoppare non lo dico nelle carte mi risulta se lo cerca le risulta nelle carte anche nel baglio Favarella non ho detto nel baglio Favarella non ho parlato di baglio Favarella non conosce di attività di distruzione di agrumi nel baglio Favarella è vero? no li conosco tutti sono abbastanza pratico di fondo Favarella ma anche anche si ci sono li conosco abbastanza bene Presidente io desidero sapere soltanto una cosa allora se questo suo parente anonimo era dipendente dell'Aima 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 è quell'ente che si occupa di sorvegliare questa distruzione perché alla distruzione poi consegue il rimborso di determinate somme ecco se era cioè un pubblico dipendente la relazione con la scusa va bene 79 eventualmente se la vuole ammettere vogliamo sapere il perché di questa domanda dal collega così come è stata formulata non può essere raccontata non c'è nessun perché noi vogliamo sapere io per i denti motivi che il contorno ha già sottolineato io chiedo che la corte estenda l'indagine oltre che all'accertamento della presenza di funzionari in bagheria anche nel baglio favarella in un determinato periodo che va dal 78 in poi quindi io chiedo formalmente che si accerti presso l'Aima quali erano i funzionari che presiedevano alla sorveglianza della distruzione degli agrumi e in bagheria e nel baglio favarella dagli anni 1978 in poi diciamo fino al 1982 ma ma questa è una istanza per quanto riguarda la domanda lei vorrebbe che si chiedesse la domanda non mi ha detto se era un pubblico funzionario e se era un dipendente dell'Aima lei può dare particolari su questa persona intende dare dei particolari su questa persona sento sul fatto della persona io l'ho visto nella sua vita ha 30-35 anni è un dottore assistiva controllava la merce che entrava e usciva tutto là e quindi era un pubblico dipendente non è che lo faceva per curiosità no non lo faceva per curiosità è chiaro non lo faceva per curiosità ancora domande su questo argomento allora lasciamo stare mi pare sono stato abbastanza chiaro io ho ammesso eccezionalmente le domande dei difensori delle parti civili del pubblico ministero sulle domande che vengono rivolte in maniera da chiarire queste domande questo è l'intento della cosa si è l'intento è l'intento è l'intento eravate così freschi poco fa eravate freschi poco fa avvocato Garofalo dica sì 83 per favore avvocato Garofalo l'operita dalla Chiesa io desideravo chiedere al contorno se è una domanda che si riferisce ad un argomento posto da lei prima ma comunque ho dato la presenza ai colleghi anche perché non mi vedeva desideravo sapere posto che come lui ha detto Stefano Bontade non si occupava di politica però ha anche detto che altre famiglie e i capi di altre famiglie caldeggiavano alcuni durante il periodo delle campagne elettorali alcuni uomini politici se lui ricorda i nomi di alcuni che venivano segnalati per la votazione di questi uomini politici c'erano degli uomini politici che venivano caldeggiati dall'organizzazione dall'associazione cioè si faceva una propaganda in favore di uomini politici di particolari uomini politici se ci sa fare i nomi sento di politica io sono zero c'era un incarcio che diceva vota per questo ci davano i voti allora io passavo i miei familiari i miei parenti i miei amici vota per questo dopo se ero rosso se ero nero sono zero di politica no no ma non è questione di colore è questione di nomi se ricorda qualche nome non posso ricordare sono passati tanti anni non posso ricordare tutti i suoi particolari mi dispiace non poterla accontentare non poterlo non poterlo non poterlo senta calzetta calzetta Stefano lei lo conosce si è uomo d'onore è un povero ragazzo che ha messo mensiguaio e si trova mensiguaio per fare bene è un pezzo di pane non c'è già niente è uomo d'onore un pezzo di pane ragazzo vanno a chiare c'è male ogni giorno ma niente di altro è uomo d'onore è uomo d'onore un mese non mensiguaio questi signori allora secondo le sue conoscenze secondo le sue conoscenze capisco che vi interessi la circostanza vi interessa a tutti quindi si si e lo stiamo puntualizzando si ma l'ha detto anche nell'interrogatorio nell'interrogatorio giudiziale l'ha detto si si quindi calzetta Stefano lei ha detto che non è un uomo d'onore e allora era una persona che stava vicino così come ha detto che stava lei in un certo periodo prima di entrare accanto stava vicino ad altri uomini d'onore o faceva parte di insomma nel quartiere dove viveva che lui era da Costo de Mila a Piazza del Cap si si metteva là cucciare la vacima come lei cucciare la recima l'ire un ragazzo si va a divertire così ma ne era un uomo d'onore ne è capace di intendere manco di voler in che senso perché una safra voglio fare una cosa accompagnavi all'uzanga che è una macchina e gli aveva presso destra sinistra non è che faiva azione o ha fatto mai o io da parte mia conoscendoci non ci poteva una conferenza di fatti mie era un buonaccione perciò a livello di altre cose per me era niente lei quando dice che è incapace di intendere di volere intende dire che è un buonaccione come ha detto ora perché c'è una contraddizione il buonaccione sempre diciamo nell'ha fatto il buonaccione intende di volere ma non è che era un tipo che incapace intende di volere per noi significa che è il pazzo per lei che significa per me è un fattore che era troppo buono troppo buono troppo buono cioè incapace di determinarsi andava dietro a tutti gli altri e quello che faceva si parla di erarici malire ma non è che è il livello che lo faceva su malizia o era un ragazzo che poteva fare male non ha mai fatto bene a nessuno ho capito e c'è stato coscetto se si trovano in queste condizioni e chi suscacinava la destra a sinistra potete finire l'interrogatore e poi fatele domande lei quando dice è stato costretto da che cosa dalle circostanze oppure da qualcuno camerando con malo zanga camerando con Navo chiedere un uomo ronore chiedere un povero bacchettone che ci pittava a magna vedeva ha conosciuto perciò è stato coscetto in merito allora lei per costretto intende che si è trovato in una situazione di accompagnare uomini d'onore uomini d'onore ed è venuto a conoscenza di tante cose perché frequentava certi uomini d'onore perché non era la stessa di essere uomo d'onore era un buon accione perciò accompagnarne a chiede accompagnarne a chiede ha visto tante cose che ora ha detto tutti i tonafi e c'è la quepona che ce l'avevi tu l'avevo signor Melozanca e cosa vuoi stare a raffreddarsi quindi questa questa funzione di calzetta Stefano era quella di fare da autista a Melozanca o a qualche altro della zona di Corso di Miro e nel fare questo ribadisco è venuto a conoscenza di tante cose ma poteva venire a conoscenza di queste cose così come lei ha detto che poteva venire a conoscenza quando incominciò a frequentare certi uomini d'onore che però non la mettevano al corrente dei loro segreti le faccio una domanda è una cosa elementare che lui l'accompagnava in una riunione lui lo riusciva nella macchina e diava a me casa e bereva a me casa un paragone e c'era la riunione era una che poteva assistere però già vedeva che c'era un tizio un caio ignorante per com'era sempre si vedevano le persone come viceversa dal ragazzino pure io mi ci vettavano però non è che se ne avevi fatte vediamo e questo è capito pure chi quindi se io ho capito bene lui veniva a conoscenza di certe circostanze che poi si limitava a questa la sua conoscenza a quelle circostanze esterne non poteva essere di ricosio ma non ne poteva essere non penetrava nei segreti diciamo non poteva penetrare nei segreti perché gli era inibito compivano davanti a un uomo che non era d'onore perché compierlo davanti a lui significava metterlo al corrente quindi non si faceva che azioni criminali si compissero dinanzi a lui o alla sua presenza e c'era vedere l'intenzione che avevano sopra il calzetto se volevano fare pure un uomo onore poter assistere pure i fatti ora questo io non posso decidere non sono niente a decidere non era amico mio se era amico mio diceva queste assistità fatte non essendo un uomo d'onore ma io alla altezza di calzetto per me ero un buonaccione se era io ero un uomo d'onore io portavo la piazza se ci hanno dato di conferenza con facilità ci rettono pure non ce ne date mai perché avevano l'idea di fare l'uomo d'onore ma lei nel suo interrogatorio ha detto che in qualche occasione qualcuno è diventato uomo d'onore perché occasionalmente ha partecipato a qualche azione o ha sentito qualche discorso e poi per mantenere il segreto dell'organizzazione se è dovuto fare uomo d'onore nella nostra famiglia ricapitò una storia singola che non aveva mai capitato nel periodo del 75 all'80 l'unica cosa che ricapitò era Francesco Paolo Levantino beato in banca io a Roma con i muteri e i compagni i chiedi parlavano le cose nostre che ci avevano mandato di Stefano Bontà Pippo Calò ci parlava che gli eravano un uomo d'onore e parlava pure di avanti di chiedi che lo panno accumulare per forza perché gli entri su tutti i ricorsi ma che non è che era uomo d'onore ci sono obbligatoriamente perché ci sono convinto che gli eravano pure uomo d'onore Paolo Levantino quindi Pippo Calò ha sbagliato a parlare davanti ma quello era convinto che gli eravano pure uomo d'onore e lo fanno uomo d'onore perché è andato a Roma con Mimmo Teresi e compagni mandati da Stefano Bontà e Mimmo Teresi si è portato Levantino che era un impiegato di banca quindi per caso ha assistito al ragionamento che fanno al suo punto quando Sciniero gli dice quando è avvenuto questo fatto? 77-78 il signor Calzetta fu mai costretto per questo a diventare uomo d'onore che lui sappia e io lo desidero sapere se si è trovato casualmente si è verificato un caso analogo con Calzetta con Calzetta con Calzetta io non so nella vita e neanche la storia lo conoscevo ho detto che le mentore e la rimanenza non so più niente va bene il Pubblico Ministero voleva parlare il Pubblico Ministero voleva parlare il Pubblico Ministero facciamo degli esempi pratici appunto sempre in funzione a quello che diceva l'Avvocato Bellavista cioè è possibile che Calzetta assisteva al passaggio della droga tra un uomo d'onore e l'altro ah ecco dice lei può fare qualche esempio per esempio relativamente all'attività a quello che poteva aver visto Calzetta qualche esempio pratico questo l'Avvocato qualche esempio sulla su quello che Calzetta poteva vedere sì siamo d'accordo però siccome lui ha fatto una degli esempi in fondo diciamo di carattere generico se lui può darci un esempio pratico lui ha parlato per esempio dell'automobile che l'accompagnava l'ha fatto già per la verità quindi mi pare che sia inutile rivolgato dunque l'Avvocato Marasà è alzato da parecchio tempo l'Avvocato Marasà vuole l'imputato ha detto che Calzetta era un bonaccione scemo troppo facile no lo scemo non l'ho mai detto l'Avvocato Marasà è alzato da parecchio tempo l'Avvocato Marasà l'imputato ha detto che Calzetta era un bonaccione scemo troppo facile no lo scemo non l'ho mai detto è una conoscenza linguistica che non condividiamo io non ho mai sentito di questo però possiamo dargli la... Presidente siccome l'imputato si esprime in gergo sicuro evidentemente conosce benissimo le espressioni di Alettar noi lo introduciamo ma per fare la domanda gliela la devo conoscere anche io siccome il concetto è colui il quale parla inutilmente e molto facilmente ha detto che era un imputato troppo ha detto che Calzetta era troppo facile che significa? troppo facile ha detto la difesa si è opposta alle opinioni alle domande su opinioni vuole domande su fatti certi vuole una definizione non capisco io no? si avvocato Mancusto vuole parlare si leggo il microfono avvocato se mi dice il numero 79 va bene già l'ho si Presidente io mi oppongo alla domanda perché chiedo un'opinione al contorno su quello che era il temperamento o le caratteristiche mentali del Calzetta e questo non può essere consentito si ma in sostanza lei il Calzetta Presidente la frase panza e caniglia visto che finalmente abbiamo avuto modo di vedere che i colleghi palermitani capiscono il palermitano è una frase di gerlo che tutti conosciamo significa una persona che parla a vanvera e davanti alla quale quindi non bisogna parlare quindi si chiede di sapere se Contorno ritiene che Calzetta sia una persona che parla a vanvera è un giudizio e noi ci opponiamo a questa domanda fermamente sì comunque lei lo conosceva bene questo Calzetta signor Presidente non ho capito niente ma il calzetta no volevo sapere se lei il calzetta lo conosce bene o lo conosce da voi no lo conosce bene signor Presidente non conosce bene il calzetta quindi e che amore il calzetta avanti avvocato Fileccia Presidente il coimputato Buscetta ha accusato Contorno Salvatore di essere uomo di onore perché è un'accusa di essere un uomo di azione e di essere un uomo valoroso nel senso che era bravo nelle azioni e noi sappiamo quale sono le azioni bene io desidero sapere è vero quello che ha detto Buscetta nei suoi confronti e desidero conoscere qual è lo suo non-opinione se ha accuse da fare lui a Buscetta ma scusi Presidente già ieri ha chiarito il senso dell'uomo di valutazione di valore l'uomo d'onore l'ammette quindi mi pare perfettamente inutile perché lui per primo l'ha messo ieri Buscetta l'ha definito uomo di azione e valoroso dico uomo d'onore intanto lui l'ammette poi ha parlato di uomo d'azione ieri ha chiarito nell'interrogatorio che cosa si intendesse per uomo di azione è stato registrato è stato e vogliamola contestare all'accusa che ci fa Buscetta all'imputato contorno cioè che l'accusa sarebbe che lui è un uomo che lui è un uomo d'onore che è un uomo valoroso che è un uomo d'onore lo dice lui stesso avvocato torniamo a ripetere a rimastare l'acqua nel mortale l'uomo d'onore l'ha messo lui per l'uomo d'azione rimane l'uomo d'azione che cos'è per lui il significato di uomo d'azione gliel'ho chiesto mi pare io nell'interrogatorio ieri perché già in sostanza la stanchezza si fa sentire per tutti e lui ha precisato che cosa si intendesse per uomo di azione ora che cosa vuole che li contesi se lui stesso io desidero sapere atteso che Buscetta ha detto che il contorno è un uomo d'onore un uomo valoroso un uomo d'azione io chiedo che vostra signoria chieda all'imputato contorno se anche Buscetta era un uomo d'onore un uomo valoroso un uomo d'azione Avvocato Alberini faccia parlare il Presidente Avvocato Alberini comunque ha il diritto di parlare anche l'Avvocato Alberini qua in questa non è che deve essere la sopraffazione del numero anche il singolo va riconosciuto Avvocato Alberini parli pure 79 Presidente mi oppongo a questa domanda per evidenti motivi anche qui di correttezza professionale mi consenta perché il collega perché il collega il collega sa benissimo non vuoi finire perché sta dicendo una cosa che non è presente l'Avvocato l'Avvocato di Leccia sa benissimo l'Avvocato il significato che ha usato Buscetta nei confronti di contorno c'è stata una domanda precisa una domanda precisa fatta c'è una domanda precisa se mi consente un minuto solo quando faccia quello che vuole si Presidente mi faccia di fidare dico una cosa ma non mi lascia parlare l'Avvocato non mi lascia parlare non mi lascia finire il discorso Avvocato Buon Signore guardate se voi volete fare potete trasformare un'Aula di Giustizia in qualcosa di molto diverso voi non ci riuscirete io non voglio l'Avvocato Fileccia le tolgo la parola per il momento Avvocato Alberini chiarisco il mio discorso perché io credo di aver capito per favore silenzio dunque si tratta semplicemente di chiarire il concetto se lei si riferiva a quel particolare che non ha aggiunto e che io pensavo che lei vuole essere dunque scusi Presidente lei ha fatto una domanda specifica a Buscetta quando Buscetta ha operato la parola uomo valoroso e uomo e uomo d'onore ha detto delle cose quello che ha detto di azione di azione Buscetta ha risposto sì perché lo considero tale dopo la reazione che ha avuto dopo il suo attentato risulta dagli atti di cause dai verbai per quello io ho parlato di domanda che non andava ben fatta la doveva fare sotto questo aspetto semmai il collega se non voleva la mia reazione quindi non ho bisogno di che discusa nessuno Avvocato Alberini per favore la interrogo io adesso perché ha parlato di correttezza correttezza progettuale mi correggo ah progettuale correttezza processuale e se non l'avete fatto finire di parlare scusa processuale perché dicevo che ha malinterpretato quello che è venuto al dibattimento per cui mi oppongo alla domanda fatta dunque io permetto tutto però guardate però io vorrei sottoporre alla vostra cortesia se noi dobbiamo continuare a fare l'interrogatorio oppure dobbiamo subire tutte queste tutti questi interventi che non so a che cosa vogliono parare voi perché se si tratta di fare delle domande io vi do la parola voi sapete benissimo che non potete prendere la parola su qualsiasi argomento io credevo di aver fatto qualche cosa che fosse utile al processo e all'accertamento della verità ad invitarvi a fare domande però relativamente alle domande che vengono poste se voi vi sbizzarrite a fare interventi che riguardano tutto a tutt'altro allora evidentemente io devo revocare il provvedimento che ho fatto e continuerò a fare e a fare l'interrogatorio senza permettere per il momento l'intervento né di tutte le parti naturalmente perché è sempre una questione di carattere paritetico una mozione d'ordine se mi consente io appunto faccio istanza in questo senso che venga condotto l'interrogatorio dell'imputato contorno dalla corte e poi ciascuna delle parti farà le domande senza intervenire sui singoli argomenti perché altrimenti si crea una confusione e non ci perdiamo il precedente provvedimento va bene allora per il momento continuiamo l'interrogatorio poi potrete fare tutte le domande come avete visto che la corte rivolgerà eh sì ma deve fare una domanda o deve fare un intervento si inserire a questo punto sulla domanda sulla domanda sull'istanza mia ah sull'istanza del pubblico ministero ah non ti parli parli numero ecco me l'hanno già dato dica anche chi è chi è per favore così si avvocato veneto il procuratore della repubblica il pubblico ministero ha avanzato una proposta ha detto che sarebbe stato sarebbe opportuno che le domande vengano proposte in fondo all'interrogatorio il presidente della corte ha ovviamente tutte le facoltà in questo senso per ordinare il dibattimento però a me pare che questa facoltà debba e possa essere usata per ragioni di opportunità e di buon senso anche dopo che sarà dipanato il problema relativo alla domanda che era già in corso voglio dire che questa riguarda quella fase nella quale ciò era consentito ed è proprio per contribuire alla proposizione ed una domanda che abbia significato e che possa avere rilevanza che io chiedo che venga proposta in questi termini la domanda che atteneva alla qualifica di uomo d'azione ma dell'imputato o di altro imputato? dell'imputato si parlava dell'imputato contorno del quale si diceva fosse uomo d'azione allora credo che si possano unificare le varie questioni attinenti a questa qualifica ponendo questa domanda se l'imputato abbia mai posto in essere azioni attività e in questo caso quali che gli abbiano consentito la attribuzione della qualifica di uomo d'azione si tratta di sapere se cioè questa qualifica derivi solo dalla difesa della sua vita che egli ha fatto in una certa circostanza o derivi invece da altro ed è un modo anche per conoscere compiutamente la personalità è il modo di vivere di lui al momento nel quale riferisce i fatti e a conoscenza avvocato Veneto la corte apprezza sempre la sua verità dialettica però la domanda posta all'imputato riguardava giunta dal giudice alandere riguardava l'imputato calzetta Stefano è un giudizio su calzetta Stefano che si voleva avere poi l'avvocato Fileccia ha chiesto che si rivolgesse all'imputato una domanda che io non ho posto e cioè se lui riteneva che essendo stato definito uomo d'azione da Buccetta se lui riteneva di essere un uomo d'azione io non l'ho posta perché ieri la domanda sull'uomo d'azione io l'ho posta e ha avuto una certa risposta ecco per questo la domanda adesso che consente di risolvere il problema e di definirlo per passare oltre è questo è questa se egli abbia posto in essere abbia partecipato abbia realizzato delle azioni che possono servire a qualificarlo come uomo d'azione sì però la domanda che è stata posta all'imputato alla quale si doveva agganciare la domanda riguardava calzetta Stefano ecco perché non c'era quel vincolo che io avevo richiesto quel nesso io avevo richiesto naturalmente questa domanda potrebbe sempre essere rivolta al diputato allora allo Stato io avevo chiesto alla cortesia dei signori difensori di qualunque parte e al pubblico ministerio naturalmente di limitarsi con una stretta connessione a quello che veniva domandato ora la domanda riguardava calzetta Stefano l'avvocato Bifileccia ha introdotto un nuovo tema di indagine e allora se dobbiamo andare avanti così non la finiremmo mai quindi la prego lei vuole che la posticipiamo sì senza altro non c'è motivo per ora diamo questo questo ordine al processo naturalmente ciò non toglie si potranno rivolgere tutte le domande possibili immaginiamo però fateci fare l'interrogatorio altrimenti l'interrogatorio non va avanti campo reale perché siamo tutti freschissimi sì facciamo finiamo questo questo tema che stavamo che stavamo accennando sì sì avvocato ci lasci procedere un pochino perché tutte queste interruzioni naturalmente avvocato seminara sì parli pure all'avvocato seminara il microfono si rifiuta ti farò hanno acceso il 47 avvocato seminara le prenda un altro è intimorito da questa paolo seminara sì avvocato seminara il 47 pare che funziona un minuto deve funzionare o non deve funzionare sì pare che sì presidente io ho una riflessione che ha dei contenuti a quanto amari ma che sento bisogno di esprimere anche pubblicamente finora devo dichiararle che avevo ritenuto che l'andamento del dibattimento per tutti gli inconvenienti o le discrazie che contraddittorio processuale consente potesse trovare soluzioni per le discrazie che venivano ad essere rilevate in colloqui esterni a questa aula ma questa mattina mi è capitato di assistere a determinato tipo di comportamento che a tenere fede a ricordi antichi a simboli della nostra attività professionale mi pariano altrettanto lontani da ogni possibilità di essere accettata io non conosco né voglio conoscere quello che è patrimonio individuale tengo soltanto a rappresentare la signoria vostra che non sono neanche le ragioni emotivi o perlomeno non voglio rilevare le ragioni emotivi per cui in questo dibattimento si cominciano a sentire e a notare comportamenti e frasi che nel tempo l'attività professionale di ognuno di noi non ha mai ritenuto confacente ho sentito scorrettezze ho sentito parole odiose e vorrei pregare i colleghi che magari venendo da fuori non conoscono questo foro di trovare un linguaggio diverso e più consono a quello che è il compito dell'attività professionale che si svolge in questa serie lo dico in funzione del fatto che purtroppo non saprei neanche dire alla Corte quali sono i motivi per cui si è avviato questo tipo di discorso o forse lo so signor Presidente ma appunto forse perché lo so le rivolgo una preghiera Presidente la direzione del dibattimento è affidata al nostro ordinamento alla signoria vostra ma richiamo ad una vigilanza totale degli adempimenti dovuti in questa sede perché non abbia verificarsi quei fatti spiacevoli che mi sono permesso di denunciare avvocato io innanzitutto richiami non accetto da parte di nessuno è un invito che lei mi fa io lo accetto cortialmente però le faccio notare che certe frasi a me sfuggono se non sono pronunciate al microfono e io non posso intervenire per ogni parola che viene detta anche perché non la sento però lei sa benissimo e credo che lei me ne possa dare atto anche in questa circostanza che laddove vi siano state delle intemperanze io cerco di reprimerle con cortesia ma non con meno fermezza se veramente ci sono state infatti ho richiamato più volte singoli avvocati ad evitare delle frasi che potessero essere di perlomeno non dico di offesa ma comunque di disturbo ad altri quindi lei mi deve dare atto di questo ma per il resto possiamo continuare l'interrogatorio conosce Camporreale Antonino conosce Camporreale Antonino ma nelle mie dichiarazioni aveva detto che non lo conoscevo per confusione perché fu imputato in un processo di 114 a Catanzaro anche lei è stato imputato no no con mio famigliare come va e quindi ha detto che non lo conosceva in nessuno c'è confusione nelle mie dichiarazioni perché quando io ho subito le mie dichiarazioni sono più confusi che per sua ma oggi quando sarà molto opportuno voglio sistemare certe cose che non sono state diretti giusti quindi l'ha conosciuto Camporreale perché era imputato in un processo a Catanzaro insieme a come ha fatto a proposito di suo padre io le vorrei ricordare quanto risulta dagli atti che c'è dall'interrogatorio di Buscetta sì il suo padre sarebbe stato considerato rappresentante di una famiglia di via Emilio Giafal famiglia che poi non è esistita più dopo una certa data sì lei è a conoscenza di qualcuna di questa circostanza se mi hai letto nelle carte sono a conoscenza di questo particolare ma non di capofamiglia come lei mi sta dicendo no allora facente parte della famiglia può darsi il ricordo domani non ha importanza quindi facendo parte lei l'ha mai saputo questo no perché c'è stato il suo particolare il suo particolare è successo ai suoi tempi era in cosa nostra un'onore dopo non ci fu più perciò il rapporto io questo non lo sapevo io sa più perché il suo rapporto con me non era avuto mai quindi non ha mai saputo che il padre fosse uomo d'onore adesso da quello che risulta a lui dagli atti che il padre lo è stato ma da un po' di tempo non lo è no da un po' di tempo si parla che mio padre avesse denunziato a uno perché ne ammazzarono a me ne ammazzarono un frate con un camion era piccirito io e ne ammazzarono un frate mio padre non lo voleva denunziare perché io lo volevo denunziare c'è uno che sono fuori di cosa nostra però io arrivo a dire ai ragazzi non c'è particolare quindi suo padre sarebbe stato questo l'ha saputo dopo è stromesso anticamente quando? anticamente perché io avevo circa 13-14 anni e mi ammazzarono un frate con un incidente con un camion mio padre voleva denunziare a chi dove pigliò i piedi e a cosa nostro che fuori perché voleva denunziare una persona che aveva investito suo fratello sono atti che sono tutti che avevano i miei fratelli perciò volevo provare di cosa nostra perciò con mio padre non l'ha avuto mai in merito di cosa nostra perché è scluso di ogni cosa tutto l'altro senta ritornando un attimo per la posizione di Camporreale che forse abbiamo già scurato lei ha detto che ha rimesso ordine nei suoi pensieri adesso per lei fa parte o faceva parte dell'organizzazione se ci può dire che funzione aveva nell'ambito dell'organizzazione e a che famiglia apparteneva secondo lei l'idea come Nebippo Calò poi Tanova però l'idea era un onore semplice semplice sui dati ma svolgeva qualche funzione sui dati sì soldato però nell'ambito delle famiglie oltre ad essere soldato c'è chi fa si occupa di determinati affari no non ci conosce tutta la storia adesso quindi non lo conosce sotto questo e ci può riferire qualche episodio connesso a lui che possa farci ritenere attendibile questo suo successivo ricordo questo successivo ricordo avviene perché lui è stato imputato in secondo tempo nel campo reale ci dicevano principe però da molto tempo non si sentì più ora se è ancora un modo l'onore se è vivo se è morto non si succede più niente ma non ho specifichi in merito per Carollo Giovanni lei ha detto che non lo conosce c'è un po' di confusione nei miei mi incantamenti che le mie dichiarazioni ci sono diverse per Corallo Giovanni scusi Corallo Giovanni e Corallo Giovanni siccome lei ha detto che non lo conosce questo Corallo Giovanni e ha indicato un rappresentante di Palermo Centro una persona diversa perché qualcuno dice che Corallo Giovanni era rappresentante di Palermo Centro non ci so precisare con precisione per il momento perché non mi ricordo su Corallo Giovanni no, in istruttoria lui ha detto che non conosceva il Corallo Giovanni lo conferma? eh, lo conferma non è che è reato siccome è stato indicato come rappresentante di Palermo Centro invece lei ha indicato un'altra persona come si vede che ha indicato come... no, no, non lei si, si, ho capito si vede che lo conosceva io c'è un po' di conf... si, pagina d'ora secondo lei il rappresentante di Palermo Centro chi è? sento, Giuseppe Cureti perché ognuno c'ha la sua zona allora Palermo Centro non lo sa ti ricordo perché manco della... che sia cosa nostra dell'82 l'81 non mi è successa mio Fognazio lo conosceva? mio Fognazio, sì era il centro Palermo e che gli è successo? che ha ammazzato era me che diceva non potete ammazzare che era bene a fare lei ha saputo se qualcuno è successo cioè ha sostituito Gnoffo Ignazio dopo diritto non lo sa c'era Cece Succi vicino ma non so se più gli ho carica quindi vicino c'era Cece Succi nel senso che era il vice capo di Gnoffo Ignazio dopo la morte di Gnoffo Ignazio non sa chi ha sostituito Gnoffo Ignazio anche perché lui ormai era latitante quindi è così sono uscito fuori dopo il mio attentato nell'81 all'86 sono 5 anni Cece Succi sarebbe Sorce Vincenzo pure imputato lui Cessica Tanzato Cece Succi i motivi dell'uccisione di Gnoffo Ignazio così concludiamo i motivi dell'uccisione di Gnoffo Ignazio Ignazio perché era amico di Stefano Bontà era una pedina che aveva accaduto ieri l'altro giorno mi dimenticavo Ciccino Pezzotto era di un paese il merito paese fu ammazzato perché era amico di Stefano Bontà Ciccino Pezzotto no l'ha detto ieri non mi ricordo se l'avessere sì no ma l'ha detto ieri Severino Vincenzo e Salvatore li conosceva Severino Vincenzo e Salvatore era una famiglia da noi c'erano i cittadini ed erano amici di qualcuno erano amici uno era figlioccio di Gnazio Ignoffo Enzo quindi Severino Vincenzo era figlioccio di Gnazio Ignoffo e che aveva i macelleri e combattiva con Bessiamo lo conosceva per scanzare bene erano due due fratello Manolo Noso e lo sa che sono scomparso tutti erano scomparso sì sì sempre per lo stesso motivo erano figliuazzi erano attaccato parri non fece la stessa fine di parri quella ammazza non piazza e tutti sono parri e questa amicizia di Gnoffo Ignazio con Bontà lo sa a che cosa risale ma dalla vecchia data perché si conoscevano col vecchio padre no con la bonama di Paolino Bontà dopo Gnazio Ignoffo era più anziano di Stefano Bontà è nata l'amicizia fra tutte e due posso dire il microfono quando parla naturalmente di noto Francesco restiamo nell'ambito di coloro che sono stati così di noto Francesco lo conosceva di noto Francesco ce ne sono due uno fu muo e uno è vivo lei mi deve dire con quello a fare tutta l'ora io dico di noto Francesco è ucciso il 9 giugno 1981 sì quell'ora di Roccella aveva proprio per i piedi gli per dire in mano aveva una conceria in via Messina montagna sì si lo conosceva e come lo conosceva perché io mi trovavo aveva un grande frigo i fricani e aveva un po' di rive e c'erava i piedi a Franco di Noto quindi lei forniva le pelli a Franco di Noto quando macellava ce le aveva i piedi quando macellava perché lui aveva una conceria era un uomo d'onore sì e aveva avuto qualche carico in che famiglia a che famiglia a Roccella da Corso di Emilia Corso di Emilia e a Roccella e aveva avuto qualche carico sotto capo prima sotto capo e sa perché è stato ucciso non lo so ne ha ammazzato a tante perciò non è che ho potuto sapere tutte le storie e tutte va bene continuiamo gli imputati va bene allora sospendiamo e rinviamo a domattina e cioè a domattina rinviamo alle ore 14 e 30 va bene alle ore 15 signor io posso posso andare e domani mattina l'imputato poi si racconta no ma domani mattina facciamo saltiamo domani mattina è bloccato domani abbiamo degli 8 cambiamo alle ore 15 no perché c'è il problema che devono portare tutti i detenuti a due ore 15 sì sì e quindi alle ore 15 dovremmo cominciare alle dovremmo cominciare alle 10 e 45 secondo gli accordi e invece cominciamo alle 15 mi pare che questo sia allora ordinando le traduzioni stabilendo che coloro che devono compiere senza ulteriori citazioni compagano allora contorno riprendiamo l'interrogatorio lei ha parlato in istruttoria di Leonardo di Leonardo Greco e dei suoi fratelli sì vediamo che cosa si ricorda su queste su queste su queste persone Leonardo Greco è capofamiglia Rambarea tutti salvati e Rambarea tutti salvati su numero non oso tutti i suoi fratelli su numero non oso sì lei è stato da qualche posto ha visto qualcuno è stato accompagnato qualcuno io tempo fa sono uscito a Bageria all'80 e accompagnavo Manolo D'Agostino Leonardo D'Agostino no Manolo D'Agostino sì e accompagnavo io era l'adretante e l'adretante era iddo e c'era una partenza di gioco in partenza di Bageria in America ti ha accompagnato dove lei D'Agostino prima accompagnavo in una idoria con la fabbrica Ruffias in una fabbrica di ferro e che mi ha iniziato dell'autostrada a Bageria sì all'uscita dell'autostrada di Bageria nello svincolo di Bageria in Bageria dopo come andato di Bageria parlo con il signor Naito di Bageria quando salutiamo che si ricerchia fanno che dice tutto buono e il signor Naito ne ha detto una persona e ne fece accompagnare in una casa in campagna in quattro in una casa in campagna troviamo sotto la casa un certo Nino D'Amico un certo Nino D'Amico che è pure un uomo che non ha Bageria che io conosco pure a Chiana Mususo e c'erano altri personaggi parlavano americani e più c'erano Zucanci e Tannino Mazzara Ciccio Ciccio Casciunov e Toto Grieco o Fratina Indorieco e stavano facendo un esame che si gioca se era buono o meno io assistivo un po' di trienze ma dopo mi saffa le puzze e mi ne scendevo sulle macchine quando prima di scendere la macchina c'era la presentazione l'automano l'onore con cui conoscevano tutto io che conoscevo era un'indorieco lei l'Ardo Dico lo già lo conosceva e da chi l'era stato presentato se ti ricorda ma era Massaio fu una favorella quando ci fa conoscenza fu una favorella dopo io conoscevo Penozzo Canci e a Toto Catalano sempre non fu una favorella invece da una presentazione ha poi presentato la fratina è un'indorieco il conservatore e Pio Ciccio Casunofo e Mazzara mi scendevo su una macchina aspettavo come un'indor D'Agostino finiva per avervi la giocchia che era buono o meno più due mezz'ora c'è quattro che fuori e finiva io scendevo nella macchina gli va a salutare e non ne ha quindi lei è uscito da questo locale è una casa in campagna e aspettò il D'Agostino poi venne il D'Agostino io vi ho a salutare a tutti e non ne ha e ve ne siete andati lei sa se il D'Agostino era interessato in questa partita di gioca sì come senza interesse uno che passa se ne vanno male se ne va a trovare il signor c'era ciappatizzato di gioca ma non aveva una parecchia di gioca la pettienza perché hanno fatto ciappatienza cioè era interessato per qualche per quale quantità se si ricorda la quantità un chile e mezzo due chile di gioca un chile e mezzo due chile di gioca e lei ebbe occasione di vedere come era sistemata questa droga che cosa e che attività svolgevano questi personaggi che lei ha detto le persone prima parlavano di raccontare Picciolo precedentemente un gruppo diciamo gli chiedono Moronoro gli chiedono Moronoro a risciare nella cittanza allora se parlò le piazze le fatte le conti che avevano più piaci dopo gli chiedono rosacchere la monnizia e le cero sopra la tavola rosacchere la monnizia e le cero due sacchetti per la no rosacchetti rosacchi e le cero tutte queste busse l'eroina era poi vera e bianca miele roina questi sacchi contenevano delle busse di sostanza bianca ai caro sopra la tavola e ne raperò una para ci piavano un pittuso e pigliavano poco gambe le roina e le mesero sopra un fornello dopo c'era una cosa che poi le mesero su un fornello sopra un fornello e mi sono nascendo le busse io a due punti non la sopittavo più la busse e mi nascendo le fornello ma c'era un cattivo odore e lei è uscito per questo e sui travagli ci usciavano fanno che deschanese il D'Agostino le diede spiegazioni per quanto riguardava questi sacchetti sì c'era un particolare che ci avevano fatto di segnale perché precedentemente avevano avuto le truste ci hanno trovato i piccioli era più caro è più miccato perché non era buono avevano avuto discorsi perché avevano fatto un prezzo prima mi fa il tema che era buono in Palermo arrivava in America e dicevano che non era buono allora per evitare essendo tutti o meno non ore ci avvicinavamo la prova a casa è buona ci la consignavano ma era una prova che stavano facendo del prodotto del prodotto quando avevano il risulto quando arrivava in America c'era buona in America con la prima c'era più buona c'era buona in Italia e questi segni convenzionali servivano a distinguere che cosa le varie le varie patite di gioca perché ero tutto un gruppo non era solo un pagione a rubare le tante persone invece c'erano diversi segnali nei bus punti tagliati con i piedi matiti con i piedi peni l'ambe si chi era poi ne senti parlare più di questa partita di droga ha avuto qualche altra notizia si niente se parlare quando a rischiare una partita al Milano e ad Agostino mi faceva il giornale mi faceva fare un reale mi faceva il giornale e doveva fare il regalo ad Agostino a lei si perché l'accompagnavo era la tante pure io lei era la titante io dovevo la tante e lui era pure la titante siccome l'aveva accompagnato l'aveva promesso di farle un regalo no ma ad Agostino ne faceva tante regalo non solo in questa partita eravamo da vecchia data amici era pure nascita la famiglia nostra si ma dico sostanzialmente lei l'esce sul giornale allora che c'era stato che cosa non è stato un regalo non è stato un regalo non è stato un regalo dopo una parola e mi ha detto le notizie ci sono tessi anche lui che le diede queste notizie perché io stavo appuntare i ciechi e io stavo appuntare i ciechi e io stavo appuntare i miei e io stavo appuntare i miei e c'era obbligatoriamente per i miei appuntare e passare da sono passato al calanzo e ci onniverevamo quasi tutti ah avevate occasione di vedervi perché lui passava no io passavo lei passava dalla la zona dove abitava io alla zona dove lui abitava sì e quindi D'Agostino le comunicò che c'era stato che so un sequestro di questa roba mi diceva il giornale diceva venissi diceva Nio Male ci ha abitato a Malano a Milano sì a Milano e che erano stati sequestrati si ricorda quanto io quando aveva tutto la tavola che sapeva se era 40 kg quando dopo ero giornale affaccio 40 kg dopo il sequestro intendevo sì e ha avuto occasione di sapere D'Agostino come con quali mezzi come facevano a nascondere la droga sì mi ricontava che avevano come i pedane di legno i mattonelli i cammini che la frutta avevano avevano tante metode come poterla a fare fighter perché nel primo viaggio li facevano c'erano tanti sistemi per nascondere sì nelle pedane di legno ah nelle pedane di legno ci avevano le pedane di legno che servivano queste pedane per i mattonelli no ah per le mattonelle sì ah quindi le nascondavano le mattonelle e nelle pedane nascondevano c'era ci mettevano la droga dato che siamo in tema di droga Marsalone Peppuccio e Rocco lei ha conosciuti sì che cosa mi sa dire ci sa sono chimici per fare la gioca io non fanno favorito non vogliono favorito c'erano una casa in campagna lato di pulso di l'acqua io non andavo ci portavo un cane a Michele e c'era un'aggia di cane più una pettita di casa una pettita di casa c'era una persona che abita sempre da gara lavorare da rincare la famiglia e più all'altro c'era casa vacante non stavano facendo la gioca mentre io portavo il cane c'era un massalone un massalone vittimo che si dice non si dice e stavano lavorando la gioca e dopo c'era un primo laboratorio dopo invece una volta ero di Giaidina chiuso quanto fanno favorito ne pensi Filippo a croce di Giaidina il prestifilippo Salvatore aveva una casa a primo piano un costruttore fu di pace Giovanna e doveva un appartamento da siccome un laboratorio non mi chiede regolo varo perché c'era troppo confusione la polizia e cose e sono messi in gioco il prestifilippo perché erano tutti soci e un massalone fagliava un chimico a casa di un prestifilippo Salvatore diciamo Salvatore una casa di un prestifilippo Salvatore di un prestifilippo Salvatore il prestifilippo Salvatore aveva un soprannome a brucia montagna a brucia montagna a brucia montagna occorre che avete sentito dico occorre che si che ripeta l'imputato no 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 domande no no dico se occorre che io chiarisca quello che ha detto il diputato che ripeta consente eh avete sentito noi continuiamo ad avere difficoltà a sentirla e preghiamo la signoria vostra di sollecitare il imputato a parlare in italiano io faccio non solo più lentamente ma anche in italiano ma io invece come allora io le rivolgo le stesse domande signor Presidente volevo completare la mia osservazione questa mattina lo stesso imputato in qualità di testa è stato sentito dalla corte di assise di appello di Reggio Calabria dinanzi alla quale ha parlato imperfetto italiano scandendo le parole e sentiamo no che confermo non è assolutamente reale questo noi possiamo noi possiamo quello che ha detto quello che ha detto per quanto per quanto breve è limitato da alcune frasi è stato detto è stato riferito in perfetto italiano evidentemente questo atteggiamento signor Presidente è soltanto un atteggiamento ma mi pare che sia il caso comunque anche di fronte anche di fronte a queste affermazioni ora cercheremo di chiarire tutto nel modo migliore possibile però non mi pare che sia il caso di insistere su questo punto perché noi lo facciamo ripetere e anche in italiano dove lui riesca a parlare in italiano ovviamente questo è un atteggiamento ostruzionistico e che diventa a questo punto offensivo ma no soprattutto dopo la dimostrazione chiarissima offerta all'udienza antimeridiana che oggi dinanzi a altre corte di assise io faccio no no signor Presidente mi consenta proprio di fronte alle osservazioni dei miei contraddittori io faccio istanza che vengano risentite le registrazioni che sono state registrate a cura della RAI della televisione ma quando si può deturre quella di stamattina questa mattina il suo interrogatorio dal quale si potrà deturre che gli ha usato un linguaggio assolutamente chiaro ed il perfetto italiano io gli faccio ripetere quello che ha detto e così vediamo un po' signor Presidente ma se noi dobbiamo subire questo atteggiamento che è un atteggiamento voluto ed è un atteggiamento avvocato però il siciliano lo comprendiamo tutti se lei mi dice che lei non lo sente io forse perché evidentemente la nostra posizione rende più grave il problema se lei mi dice se lei mi dice che non lo capisce non lo sente è un altro dispositivo perché non comprendiamo il siciliano io e lei lo comprendiamo perfettamente lui stamattina ha parlato scandendo le parole in maniera comprensibile lui parla attualmente in maniera incomprensibile e l'uso del siciliano è uno dei sistemi per non farsi comprendere noi d'altronde siccome abbiamo appreso stamattina ma signor Presidente intanto noi non riusciamo a comprendere e io pur essendo siciliano non riesco a comprendere lei non lo comprende o non lo sente sia per il modo di esprimersi sia per il linguaggio che lui usa ha gravato poi ripeto sentiamo le sue espressioni di questa mattina e avremo la certezza dell'atteggiamento ostruzionistico del contorno non hanno nessun rilievo in questo processo è un altro processo oddio io ci sono avvocati che mi hanno è tutto un complesso insomma non possiamo questa io chiedo che si ma avvocato Romano io non è che non le voglia dare la parola numero 12 signor Presidente mi consenta io non faccio questioni di lingua o di vernacolo però anche tutti quelli che siamo siciliani in quest'aula e siamo la più parte non riusciamo a comprendere quello che dice il signor contorno perché si tratta di una raffica di parole ed allora io pregherei signor Presidente che vostra signoria volesse invitarlo a parlare più lentamente e più distintamente e ove ciò non fosse possibile che vostra signoria traducesse in maniera intellegibile per tutti quello che il test dice perché dobbiamo capire valutare criticare eventualmente quello che dice avvocato lei ha perfettamente ragione ma è quello che ho fatto in questo in questo proprio all'inizio dell'udienza io non l'ho fatto perché credevo che fosse perfettamente intelligibile a tutti infatti io vi ho chiesto dico avete capito in maniera che posso ripetere quello che dice prima che lo faccio ripetere a lui lei ha detto che è andato nel fondo Favarella la prima parte mi pare che si è capita perfettamente quella che riguardava D'Agostino Emanuele e allora andiamo al punto in cui lei raccontava di essere andato nel fondo Favarella a portare un cane anzi io mi stavo apparecchiando a chiederle che tipo di cane ha portato prima di tutto anzi è preciso io ero puittone che vada a chiave perché tutto l'uomo non l'onore aveva mai chiave del portone del ruppettone c'era la chiave avevamo tutto l'uomo non l'onore chi ciò l'aveva precisato la precisiamo oggi lui ha precisato che aveva la chiave del portone del fondo Favarella come tutti gli uomini da morte tutte